Porto i saluti a questa iniziativa, innanzitutto ringraziando i due colleghi che l'hanno organizzata, Maria De Maro e Valeria Merola, ringraziando il ricco partecipante a questa iniziativa, colleghi e colleghe di altre università che prenderanno la parola e ringraziando tutti i presenti, tutti i partecipanti, studenti, studentesse, dottoranti di ricerca, dottoranni, insomma tutti voi che siete qui presenti. L'iniziativa che si inserisce nell'ambito del progetto di Ateneo finanziato per Maria De Maro è un'iniziativa in linea con tutta una serie di altre iniziative che noi stiamo svolgendo con varie forme di finanziamento, molte delle quali sono state finanziate anche nell'ambito del progetto di eccellenza nei mesi scorsi, durante tutto il quimpegno che è andato dal 2018 fino al 22, che si rivolgono diciamo alla liminalità e alla transcodificazione delle forme nell'ambito dei diversi linguaggi artistici, tra i quali anche quello letterario. E naturalmente un'attenzione molto forte in tutto questo, anche per una sensibilità culturale che è sempre stata molto presente nell'anima di questo dipartimento, il problema... Io sento un'altra voce... Dicevo, c'è una forte sensibilità che attraversa, direi, molte componenti di questo dipartimento in termini di ricerca, di didattica anche, che riguarda appunto i cosiddetti gender studies, insomma. Cioè il ruolo che nei linguaggi artistici ha il problema di genere. E quindi questa è una giornata che si inserisce perfettamente, questa direi che è una tradizione di studi a questo punto del nostro dipartimento, perché come tale si va configurando per la stratigrafia nel tempo di attenzione che viene dal passato a queste specifiche problematiche. E quindi, insomma, è un tema nostro che noi abbiamo affrontato sotto molti punti di vista, guardando ai diversi linguaggi artistici, ai diversi linguaggi della comunicazione, e oggi questo viene declinato nello specifico della letteratura italiana moderna attraverso questa iniziativa. Quindi, insomma, ci riconosco anche una cifra tipica del nostro dipartimento, oltre che della specifica sensibilità culturale delle due colleghe organizzatrici. Quindi non posso che essere felice anche di vedere una partecipazione così ampia, sostanziosa, di studenti e studentesse, insomma, di persone giovani a questa bella iniziativa. Un saluto a tutti, buoni lavori, insomma, e grazie, grazie a tutti per la partecipazione. Ringrazio il direttore e vi porgo il saluto del gruppo ADI, studi delle donne nella letteratura italiana, l'ADI è l'associazione degli italianisti, di cui sono segretario nazionale. Faccio parte, ormai da diversi anni, di questo gruppo di studi che non abbiamo voluto intitolare Gender Studies, abbiamo voluto proprio specificamente rivolgere agli studi delle donne, perché oggi c'è bisogno di questa specificazione. mi permetterete di fare un saluto non perfettamente istituzionale, però, voglio iniziare con una piccola polemica, posso? Allora, è un lavoro questo che stiamo facendo da anni, lo stiamo facendo da anni attraverso un tentativo di rideterminare non un canone, quindi una sequenza di autori, anzi di autrici, giustamente, che facciano da sé canone, ma di capire qual è il ruolo delle donne nel canone della letteratura italiana, che è una cosa, come ben comprendete, diversa. Ora, quest'estate, per essere precisi, a fine agosto, è uscito un articolo sull'Espresso che diceva che, finalmente, grazie ad Eledda, Matilde Serao, Alba de Sespedes e altre autrici, erano tornate all'attenzione del grande pubblico grazie all'opera delle case editrici che avevano deciso di investire sulla ripubblicazione di queste scrittrici. Bene, cosa verissima. Però ricordo che, in quella circostanza, un nostro collega, credo Pippo Traina, intervenne sui social con un post che mi piace qui richiamare dicendo, beh, l'università viene sempre accusata di vivere in un mondo a parte, tra le nuvole, di essere intellettualmente lontana dalla società. Una volta che abbiamo fatto un'operazione, tra virgolette, giusta, non ci viene riconosciuta. Perché, vedete, non nasce tutto questo dall'editoria. Questo nasce dal lavoro di tante studiosi che da tanto tempo all'estero, forse prima all'estero che in Italia, comunque all'estero in Italia, stanno lavorando su queste scrittrici, sulla dignità letteraria di queste scrittrici, sulla dignità letteraria di questi testi. Ecco, io credo che sia importante sottolinearlo, perché noi abbiamo cercato, con il gruppo di studi, appunto, sulle donne della letteratura italiana, di dare sostanza a tutto questo. Penso, per esempio, al convegno online che abbiamo tenuto l'anno scorso sulle narratrici, oggi ne terremo, anzi quest'anno ne terremo un altro, sulle poetesse del Novecento, che ha avuto un taglio particolare, specifico, importante. Cioè, abbiamo pensato essenzialmente alle opere, più che alle scrittrici in sé. Riportare al centro la letteratura come oggetto, oltre che come narrazione. Questo credo che è un po' il taglio che noi tutti abbiamo voluto dare nelle tante attività che abbiamo messo in piedi in questi anni. E ringrazio in modo particolare Marika Di Maro e Valeria Merola per aver voluto qui, all'Aquila, una tappa di questo percorso. Grazie anche a Sebastiano. Sì, in effetti questo è il taglio che abbiamo voluto dare, anzi che Marika soprattutto ha voluto dare a queste due giornate. Il riferimento del direttore ai Gender Studies c'è soprattutto perché in questo dipartimento si fa molto studio sul genere e su questioni anche che riguardano anche il dialogo, diciamo, con le altre discipline, il discorso che faceva prima. Però il nostro progetto, insomma il progetto di ricerca di Marika, perché è stato accennato prima, questo è un progetto di ricerca da Ateneo che Marika ha vinto l'anno scorso, quest'anno, e che vede questo convegno come una delle tappe appunto del suo percorso di ricerca. Però il taglio, l'impostazione di queste due giornate è prevalentemente di tipo appunto letterario sui testi e non considerando la scrittura alfemminile ma semplicemente considerando delle opere che sono state fuori dal canone per ragioni storiche, storiografiche, critiche eccetera e che in qualche modo in questa maniera cerchiamo, non dico di reinserire, però di riconsiderare con strumenti e con una visione esattamente identica a quella che dedichiamo agli scrittori e ai poeti e non trattandole come scrittrici e quindi con dei criteri di giudizio differenti se non quelli appunto imposti dal contesto storico, dal contesto sociale in cui queste autrici sono considerate. Ci sono un po' di miei studenti con cui abbiamo parlato ieri di compiuta donzella e abbiamo scoperto che gran parte degli studenti non aveva mai sentito nominare e quindi ecco, restituiamo anche a autrici che hanno assolutamente pari dignità letteraria dei loro colleghi uomini uguale attenzione critica e non una visione diciamo gender oriented, non ci interessa vedere dove è il femminile, tutt'altro. Ecco, comunque io mi taccio perché la giornata è piuttosto intensa e poi perché è meglio lasciare spazio al dibattito più avanti. volevo soltanto dire una cosa che su questo tipo di ricerca, questo tipo di lavoro stiamo lavorando anche con, sempre con Marica, con Sebastiano e con anche molti altri dei partecipanti a queste giornate, a un volume di storia della poesia delle donne in questa prospettiva che stiamo vedendo ora, curata da Daniela Deliso che purtroppo non potrà essere con noi in questi giorni, che dirige anche una collana appunto che sta per nascere proprio dedicata a questi temi, questa prospettiva e quindi mi piaceva appunto dare notizia di questa iniziativa perché penso che potrà in qualche modo anche contribuire a questo discorso che stavamo facendo e do la parola a Marica che sicuramente meglio di me può illustrare il progetto. Ho poco da aggiungere rispetto ai miei colleghi. Sebastiano ha illustrato perfettamente qual è il taglio di queste due giornate. Vogliamo dialogare sulle scritture delle donne, non in senso gender, ma perché lavorando in senso gender spesso potremmo anche cadere nell'anacronismo di giudicare femministi in senso moderno dei sentimenti che muovono la produzione di molte delle scrittrici che in questi due giorni verranno prese in considerazione. Il nostro obiettivo è quello di valutare, analizzare, inserire le esperienze delle donne nel contesto storico letterario di riferimento e quindi guardare le loro esperienze come momenti per discutere di questioni quali il canone e la ricezione della scrittura delle donne nella tradizione letteraria italiana. Non rubo altro tempo, approfitto di questo spazio per ringraziare tutti i colleghi che hanno accolto il mio invito e cedo subito la parola al moderatore della prima sessione, Sebastiano, invitando Francesco Lucioli e Elena Sanson ad accomodarsi qui. Allora, nel frattempo che i nostri redattori si sistemano, ringrazio veramente ancora Marica e Valeria. Vedete, mi prendo un altro minuto così abbiamo tempo di sistemare tutto. Lo dico in modo particolare agli studenti perché tutti i colleghi che sono qui lo sanno già. Quello che è importante, quello che vedrete in queste giornate è il frutto di un colloquio che è un colloquio che avviene in maniera continuata, in maniera frequente, tra colleghi che sono soprattutto amici. Io credo che questo sia importante proprio per i nostri studi perché ogni tipo di lavoro va sviluppato nel clima giusto. Io credo che stiamo lavorando in un bel clima, ecco. E di questo ringrazio davvero le nostre ospiti. Possiamo Marica? Se no continuo. No, possiamo. Allora, il primo intervento di questo pomeriggio è di Elena Sanson che ci parlerà di Women in Translation in Italy Between Scholarship and Creativity, professore presso l'Università di Cambridge, insegna storia della linguistica e studi delle donne e una lunga serie di pubblicazioni attesta appunto la frequenza di questo tema e la qualità dell'apporto che i suoi studi hanno dato alla ricerca. In modo particolare mi piace sottolineare come appunto i secoli di cui parlerà in questo incontro di oggi, dal sedicesimo al diciottesimo, siano proprio secoli che meritano in modo particolare di essere approfonditi e di essere studiati perché dal punto di vista della scrittura delle donne veramente c'è ancora tantissimo da dire e quindi la ringraziamo molto per quanto ci dirà adesso. Prego. Mi sentite? Perfetto. Anzitutto dovevo semplicemente dire che parlerò in italiano, poi ho deciso di passare all'italiano visto che gli altri interventi erano in italiano. Ho pensato di modificare. Allora, volevo dire buon pomeriggio a voi tutti, sono molto felice di avere la possibilità di presentare qui all'Università dell'Aquila alcuni aspetti della mia ricerca attuale. Vorrei ringraziare tutti i colleghi, in particolare le colleghe Marica Di Maro e Valeria Merola per il gentilissimo invito e complimentarmi anch'io per questa bellissima iniziativa. Ora, come sapete il convegno, come si è appena detto, di questi due giorni si propone... Come sapete il convegno di questi due giorni si propone, cito dal Call for Papers, di aprire una discussione su a, appunto, i generi letterari frequentati delle autrici d'età moderna e b, verificarne la presenza di eventuali strategie retoriche condivise e utilizzate per inserire la propria voce autoriale in generi e saperi tradizionalmente maschili. Vorrei dunque partire proprio da questi due elementi, la questione dei generi letterari e dell'uso di eventuali strategie retoriche però riferendomi in particolare alle traduttrici, più che alle autrici, anche se, come vedremo, spesso le donne che traducevano erano anche autrici. Quindi dopo alcune considerazioni più generali sulle donne nella storia della traduzione e alcune precisazioni di tipo metodologico, mi soffermerò brevemente sui generi frequentati dalle traduttrici soprattutto a partire dalla fine del Seicento e concluderò poi il mio intervento con due rapidi esempi anche di traduttrici che fanno emergere dalle opere che hanno tradotto la loro voce autoriale, di donne colte e di donne però ben consapevoli dei pregiudizi e dei limiti posti alla loro partecipazione a determinati ambiti del sapere e della cultura. Allo stato attuale le nostre conoscenze sul ruolo delle donne nella storia della traduzione in Italia sono frammentarie. Scusate un attimo perché non funziona PowerPoint. Grazie. Grazie. Allora riprendiamo. Allo stato attuale le nostre conoscenze sul ruolo delle donne nella storia della traduzione in Italia sono frammentarie e ciò deriva senza dubbio dalla scarsità di dati storici sull'argomento ma anche dalla complessità dell'esercizio stesso della traduzione. L'argomento è per me di grande interesse perché nel corso dei secoli in contesti linguistici e culturali diversi in Europa e fuori Europa la traduzione è stata un ambito importante in cui le donne hanno potuto esprimere le loro conoscenze il loro sapere e contribuire così alla circolazione di idee e contribuire anche con il loro lavoro alla storia della lingua e alla codificazione della lingua. Infatti non mi sono avvicinata a questo campo di ricerca come specialista in translation studies piuttosto la mia curiosità e il mio interesse sono quelli di una linguista e più in particolare di qualcuno che è interessato alla storia del pensiero linguistico in relazione alla storia delle donne. Il mio approccio è comunque supportato dagli studi condotti nell'ambito di gender and translation e dalle prospettive proposte per esempio da colleghi a quali la studiosa tedesco-canadese Luise Von Floto. Nel delineare le molteplici prospettive ancora da esplorare nell'ambito dei gender and translation Von Floto sottolinea l'importanza di adottare ampie prospettive storiche per esaminare il lavoro delle traduttrici nell'ambito della traduzione prospettive che osserva spesso sono state marginalizzate per concentrarsi invece sulla formulazione di modelli teorici. Fra gli ambiti che incoraggia esplorare troviamo il ruolo delle donne come traduttrici nella storia il loro contributo alle diverse discipline e alla circolazione del sapere come il loro essere donne abbia influenzato la loro attività di traduttrici in che modo abbiano posto resistenza ai pregiudizi misogini e come li abbiano sovvertiti nelle società in cui hanno vissuto e operato e la ricezione del loro lavoro e il ruolo che le loro traduzioni hanno avuto nella storia della traduzione. Va detto infatti che inevitabilmente il contributo delle donne al campo della traduzione è caratterizzato da una duplice invisibilità dalla translator's invisibility, per citare qui Lawrence Venuti e l'invisibilità dovuta appunto al fatto stesso di essere donne. Eppure sono molte le donne che si sono dedicate alla traduzione nel corso dei secoli alcune sono state occasionalmente oggetto di studi accademici ma le traduttrici nel contesto italiano non sono state indagate in modo sistematico. Con il mio lavoro di ricerca vorrei contribuire così anche ad una translation archaeology ad una archeologia della traduzione delle traduttrici in Italia espressione questa tratta da Methods in Translation History di Anthony Pym del 1998 che comporta il cercare di rispondere ad alcune domande quali who translated what, how, where, for whom and with what effect chi ha tradotto cosa, come, dove, per chi e con quale impatto con quale effetto per tradurre in modo più letterale perché mi pare che il contributo delle donne nella pratica della traduzione sia stato e continua ad essere marginalizzato nella storia della letteratura con poche eccezioni quando si fa riferimento alle traduzioni fatte per esempio da scrittrici questi riferimenti sono pochi e occasionali come se le due attività dello scrivere e del tradurre fossero completamente fra loro separate con la seconda asservita alla prima come hanno sottolineato studiose quali Laurie Chamberlain e Shelley Simon la traduzione è stata a volte coded feminine cioè codificata come un'attività femminile come un'attività femminile cioè come un mezzo di espressione intellettuale per le donne in mancanza di altre opportunità per poter esprimere il loro talento nel mondo letterario come a dire che ciò che volevano veramente fare non era tradurre attività secondaria e marginale ma scrivere pubblicare opere loro non potendo farlo si dedicarono al tradurre in realtà ciò non sembra veramente essere il caso almeno nel contesto italiano anche perché molte delle donne che hanno tradotto nei secoli già a partire dal rinascimento erano anche autrici di opere originali le traduttrici come i traduttori si sono trovate ad operare in uno spazio che era all'intersezione nella sovrapposizione di culture ma anche all'intersezione nella sovrapposizione di lingue diverse in particolare considerando il contesto multilingue dell'Italia le donne traduttrici in Italia attraverso i secoli hanno tradotto da e verso le lingue classiche da un dialetto all'altro da e verso le lingue moderne traducevano anche, e questo va ricordato in una lingua che non era per loro una lingua materna ma una lingua, l'italiano che andava studiata e appresa dalle grammatiche e dalle opere dei grandi autori nel caso delle traduzioni di donne della prima età moderna in Italia si tratta generalmente di traduzioni da e occasionalmente verso le lingue classiche latino e greco ma abbiamo anche traduzioni dall'ebraico a partire dagli ultimi decenni del 1600 con il crescente prestigio del francese troviamo poi un numero sempre maggiore di donne che traducono dalle lingue vive dal francese in primis poi dall'inglese poi dal tedesco questo per il periodo dalla fine del 1600 fino all'inizio dell'800 e poi aumenta anche chiaramente il numero delle lingue tra la fine del 600 e i primi decenni dell'800 limitandomi a traduzioni a stampa mi sono imbattuta finora in più di 100 nomi di traduttrici attive soprattutto come non si poteva forse aspettare nel centro nord Italia in particolare in Lombardia, Veneto, Piemonte e Toscana Roma ma questo non significa che non ci siano traduzioni anche in altre parti d'Italia compreso il sud dove ci sono esempi significativi questo numero di traduttrici deve essere ovviamente in realtà superiore a quello da me individuato perché il dato non comprende le opere le opere di traduzioni per le quali non c'è un'attribuzione sicura ad una donna le traduttrici hanno pubblicato le loro opere con il loro nome e cognome oppure solo con le iniziali a volte il nome compare in una nota al lettore della stessa traduttrice o dello stampatore o in altro materiale paratestuale come si può vedere dalla slide le loro traduzioni sono anche talvolta pubblicate anonime non dimentichiamo poi anche l'ambito delle traduzioni manoscritte appunto di cui io in generale non mi sono occupata in alcuni casi sì oppure le cosiddette traduzioni fantasma ghost translations cioè traduzioni di cui conosciamo l'esistenza grazie ad altre fonti critiche o secondarie ma che sono ormai introvabili e naturalmente non bisogna dimenticare anche quelle traduzioni che magari sono state il frutto di collaborazioni quindi fatte da una traduttrice con per esempio un fratello un padre un marito ma poi la traduzione è uscita pubblicata a nome del traduttore soltanto nel lungo settecento le donne hanno tradotto una varietà di opere di diversi generi poesia, romanzo, teatro, storia letteratura di condotta letteratura per l'infanzia ma anche testi economici, politici, giuridici scientifici, filosofici religiosi, devozionali alcune traduttrici sono figure più note quali Francesca Roberti Franco che tradusse dal latino l'Africa di Petrarca Teresa Bandettini-Landucci che tradusse in latino dal greco i Paralepomeni D'Omero di Quinto Calabro Smirneo 1815 in versi liberi oppure Eleonora de Fonseca Pimentel che tradusse dal latino e dal portugese più nota in quanto appunto giornalista di rivoluzione ma se ho capito bene la collega non c'è purtroppo domani la traduzione di opere teatrali è un campo che ha visto importanti contributi da parte delle donne si pensi a Elisabetta Caminer-Turra che tra il 1772 e il 1794 realizzò dieci volumi di opere teatrali tradotte dall'inglese, tedesco, danese, russo passando per il francese oppure Luisa Bergalli-Gozzi di cui sentiremo la collega Tavazzi parlare che oltre al suo contributo originale come comediografa e al suo ruolo attivo all'interno del mondo teatrale veneziano tradusse anche una serie di opere francesi e latine dalle commedie di Terenzio a Racine in forma anonima Molière come Irminda Partenide e Madame du Bocage e la sua intensa attività di traduzione era dettata anche dalla quale coinvolse anche le figlie e dal fatto che cercavano anche con la traduzione di compensare la situazione finanziaria poco stabile della famiglia del marito Gasparo Gozzi accanto a questi nomi più noti ci sono anche i nomi che forse non avrete mai sentito nominare Eufrosina Massoni Maria Fulvia Bertocchi Rosina Taddei Maria Laura Montecuccol Foschiera forse avrete sentito nominare le due sorelle Manfredi e Zanotti Mantica Brocchi Gabardi Costanza Moschini eccetera eccetera se passiamo poi alla seconda metà dell'Ottocento come potete vedere dalla slide il numero di lingue da cui le donne traducono o direttamente o per mezzo di lingue intermedie aumenta di molto non c'è problema scusate le donne non sono più condivise ah va bene ok ci penso io vado? ok allora passando alla... se cortesemente il dato dell'audio non è molto chiaro se cortesemente può parlare un po' più lentamente perché abbiamo di più realtà a seguire perché l'audio non è ottimale ok va bene d'accordo niente allora se passiamo poi alla seconda metà dell'Ottocento come potete vedere dalla slide il numero di lingue un minuto io aspetto abbiate pazienza un secondo poi riprendiamo niente di grave allora se passiamo poi alla seconda metà dell'Ottocento come potete vedere dalle slide il numero di lingue da cui le donne traducono o direttamente o per mezzo di lingue intermedie aumenta di molto e così anche il tipo di testi che traducono per non parlare del numero delle traduttrici che aumenta in modo netto così come cambia anche il loro modo di inserirsi nell'ambito del mercato editoriale nel tempo a disposizione non mi è possibile entrare in maggiori dettagli ma per chi fosse interessato mi permetto di rinviare all'introduzione ai saggi di un volume che uscirà esattamente fra una settimana con Classi Carnier Women in Translation in Italian Tradition che riunisce alcune presentazioni fatte ad un convegno nel novembre del 2018 a Cambridge e poi sviluppate ulteriormente come capitoli potete vedere la locandina sulla sinistra nel contesto di questo nostro incontro come vi avevo anticipato vorrei invece proporvi adesso un paio di esempi di strategie retoriche cito dal Call for Papers condivise e utilizzate dalle traduttrici per inserire la propria voce autoriale in generi e saperi tradizionalmente maschili e passo dunque al terzo e ultimo punto della mia presentazione anche in questo senso la traduzione è un ambito di grande interesse in particolare per uso che le traduttrici fanno talora dei paratesti secondo Gérard Genette un paratesto è un seuil che offre a tutti la possibilità d'entrere o di rebrussare il chemin zone indecise entre le dedans e le dehors frange entre texte e l'hors texte una zona non solo di transizione ma di transazione il lavoro di studiose nel campo della traduzione femminista fra cui appunto la già citata Luise von Flotto si è concentrato su e cito qui proprio dal Routledge Handbook on Feminist Translation che è uscito nel 2020 a cura di Luise von Flotto e Hala Kamal come la traduzione possa subvert re-write or question hegemonic definition of authorship as well as disrupt or dismantle intersecting regimes of power fra le strategie che permettono di subvert re-write or question hegemonic definition of authorship vi è anche l'inserimento nei testi tradotti di materiali quali prefazioni note a piedi pagina o altri tipi di paratesti in cui le traduttrici possono inserire o far sentire la loro stessa voce e parlare direttamente ai loro lettori per giustificare determinati interventi nella traduzione chiarire il loro approccio ma anche per parlare di sé far apprezzare il loro impegno intellettuale i loro studi dar vita anche a saggi critici a pieno titolo accanto alla loro traduzione in questo senso ci ricorda la studiosa Brenda Hossington per il contesto inglese del periodo della prima età moderna le traduttrici rivelano una certa rhetorical savvy per come hanno saputo servirsi in tali paratesti di strategie retoriche tradizionali rivisitate con una certa creatività lo stesso si può dire delle traduttrici in Italia i loro paratesti sono spazi in cui mostrare in cui mostrano scusate di sapersi attenere alle aspettative legate al loro genere ma sono anche spazi in cui esprimono la loro resistenza a queste stesse aspettative e entro certi limiti cercano di sovvertirle potremo inserire questi paratesti in una sorta di genealogia di scritti femministi o meglio proto-feministi che riflettono il momento storico di cui sono espressione come osserva Genet e per riprendere anche quanto aveva detto il collega precedentemente la conscience historique dell'epoca che vi nètre un'oeuvre è rarement indifferente a sa lectura tout contexte fait paratexte per motivi di tempo vi darò solo due rapidi esempi in ambiti diversi uno della fine del 600 e uno del secolo dopo il primo esempio è il lavoro di una traduttrice in ambito conventuale Maria Stella Scutellari monaco nel convento di Sant'Alessandro a Parma Scutellari dimostra proprio quella abilità retorica di cui ho parlato poco fa nella sua nota ai lettori in cui notiamo una certa padronanza di queste strategie retoriche con cui le donne erano solite presentarsi nelle loro opere e legittimare così il loro avventurarsi le loro incursioni nel mondo della scrittura e della stampa nel caso di Scutellari però come vedremo alla sua prefazione non risponde solo agli usi soliti di una captazio ma diventa spazio autobiografico e quasi un manifesto per i diritti delle donne allo studio e all'istruzione di Scutellari nata nel 1648 sappiamo molto poco e questo è spesso il caso per molte delle altre tradutrici che ho individuato è comunque ricordata in qualche fonte settecentesca come una donna accolta nel 1694 pubblicò la sua traduzione di una compilazione pseudo-agostiniana Meditazione Solilope Emanuale che comprende anche le meditazioni di Sant'Anselmo e San Bernardo e dello scrittore spirituale del XIV secolo Raimundus Iordanus noto anche come Idiota il testo di partenza della traduzione di Scutellari è una compilazione latina preparata dal gesuita francese Enrico Sommalius e pubblicata per la prima volta nel 1604 che poi ebbe anche numerose altre edizioni e ristampe in tutta Europa fino al 1800 nel rivolgersi al devoto e cortese lettore Scutellari chiama in causa la questione dell'esclusione delle donne dal sapere le donne come gli uomini scrive hanno un istinto universale di sapere che è cito sempre fra tutte le inclinazioni che contraddistinguono l'uomo la più nobile e la più ragionevole è ingiusto quindi escludere le donne da questo desiderio di imparare Dio dispensa generosamente uguali talenti capacità e abilità ad entrambi i sessi ma le donne sono tenute in uno stato di ignoranza non a causa di qualche carenza intellettuale da parte loro ma come conseguenza del predominio degli uomini gli uomini si lamentano per il fatto che le donne consumino il loro tempo in abiti gioielli ogni sorta di vanità ma fin dalla nascita hanno accesso solo a questo invece ci dice Scutellari sarebbero molte le donne intellettualmente dotate che se avessero avuto la possibilità di dedicarsi a lo studio e alle buone lettere avrebbero avuto ottima riuscita Scutellari poi sposta l'attenzione su di sé adottando opportunamente il topos della modestia nella sua cartazio pur dichiarando apertamente la legittimità dei propri studi e del proprio impegno letterario si scusa per essere povera di talenti per la sua soverchia temerità e il suo ardire per aver osato tradurre questi testi latini ma spiega di essere stata spinta a farlo da quello stesso istinto universale di sapere cresciuto nel suo caso fra mille difficoltà spinta dal desiderio di essere utile alle altre monache del convento e anche alle persone meno colte fuori dalle mure del chiostro in chiusura Scutellari evocano nella nostra mente tutte quelle donne che nel corso dei secoli hanno dovuto giustificarsi difendersi per la loro sete di conoscenza e hanno osato infrangere il silenzio loro imposto dice infatti di essere ben consapevole del pregiudizio che ne possano ricevere queste divote carte vedendosi distinte col titolo di donna alcuni lettori infatti potrebbero essere scoraggiati da leggere il suo lavoro a causa dei pregiudizi sulle donne che pubblicano opere in ambito teologico spiega però di aver pubblicato il suo lavoro perché altri l'avevano incoraggiata a farlo avrebbe voluto inizialmente non avere il proprio nome sul frontespizio ma poi dal momento che le disposizioni della censura ecclesiastica non lo permettevano si era rassegnata a doverlo mettere quindi nello spazio liminare della sua prefazione Scutellari resiste alle limitazioni che le erano state poste sovverte i pregiudizi che le donne dovevano affrontare lasciando anche una eco della propria voce per esprimersi a nome di tutte le donne che avevano aspirazioni intellettuali il mio secondo esempio ci mostra come i paratesti delle traduzioni abbiano permesso ad alcune traduttrici di esprimersi con una certa autorevolezza in cambi disciplinari delle opere che traducevano mi riferisco in questo caso alle traduttrici di testi scientifici o di filosofia naturale che inserivano annotazioni e osservazioni all'interno delle loro traduzioni andando cito qui di nuovo da un'opera del 2014 di Fonfloto well beyond traditional bounds of translation e così producevano un tipo particolare di feminist translation l'Italia del settecento come è noto si distingueva per le donne colte che si dedicavano alle scienze basti pensare a Maria Gaetana Agnesi a Laura Bassi per cui non sorprende di trovare anche delle donne che traducevano testi scientifici a Napoli per esempio Giuseppe Eleonora Barbapiccola Maria Vigilante Maria Angela Ardinghelli la cui famiglia era in origine dell'Aquila tradussero rispettivamente Cartesio Isaac Watts e Stephen Hales mi soffermerò brevemente sulla napoletana Ardinghelli poetessa e donna di scienza che aveva studiato matematica e fisica partecipava ai salotti napoletani dell'epoca legati a Newton alla fisica sperimentale e all'elettricità conosceva latino francese inglese e io aggiungo sempre anche l'italiano che non era necessariamente un dato scontato il suo nome è legato alla traduzione degli scritti del naturalista Stephen Hales traduzione uscita in tre volumi fra il 1750 e il 1756 e poi di nuovo circa vent'anni dopo nel 1776 si servì di una versione intermedia francese ma confrontò la versione francese anche con l'originale inglese e ciascuno dei tre volumi comprende una dedica una prefazione e una serie di commenti e correzioni nella prima edizione nella prima edizione della sua traduzione il suo nome non compare da nessuna parte lo troviamo invece vent'anni dopo sul frontespizio si dice infatti nell'edizione del 1776 cioè la striscia che vedete qua sotto che la traduzione è commentata dalla signora M.A.A. Maria Angela Ardinghelli il nome di Ardinghelli era noto a quel punto nel campo della filosofia naturale al di là della sua traduzione e al di là dell'Italia fu l'unica donna le cui lettere furono regolarmente lette alle riunioni dell'Accadémie des Sciences di Parigi nel corso di due decenni la sua attività era nota all'interno dell'Accadémie perché i membri conoscevano la sua corrispondenza e anche perché la conoscevano personalmente o sapevano di lei era diventata una sorta di mediatrice fra le comunità di naturalisti di Napoli e di Parigi all'apice della sua popolarità Ardinghelli scelse per sé la protezione di un anonimato accuratamente costruito o più precisamente qui cito dall'articolo del 2013 di Paula Findland Ardinghelli constructed layers of selective visibility for her work to allow for her authorial persona to be identified by selected audiences while remaining virtually invisible in historical accounts la traduzione era per Ardinghelli un'impresa intellettuale di grande ringore se le sue prefazioni esprimono la necessaria solita modestia richiesta alle donne che pubblicano è anche vero però che la sua traduzione è in realtà espressione di una studiosa chiaramente competente nell'ambito in cui si muove e traduce nelle sue note al lettore commenta il suo approccio alla traduzione spiegando che a volte ha riformulato una frase del testo di partenza per renderla più chiara ma anche che quando alcuni esperimenti non erano stati descritti in modo chiaro li aveva ripetuti e si era cito presa la libertà di correggere i calcoli sbagliati fatti da Hales oppure dal traduttore francese e aveva inoltre anche aggiunto dice delle note sue per rischiarare o provare più validamente le opinioni dell'autore si veda qui per esempio nella slide vedete dove c'è quell'asterisco l'asterisco dice rifacendo il calcolo questo numero si trova sbagliato quindi nelle note a margine avete la voce di Ardinghelli che parla ai lettori puntando ad ottenere un certo equilibrio fra visibilità e modestia le note a piedi pagina direi a margine in questo caso costituiscono un testo nel testo una dichiarazione di autorevolezza che certo si nutre dell'autorevolezza dell'autore del testo ma stabilisce anche saldamente l'autorevolezza e la fidibilità della traduttrice figure di studiose come Ardinghelli potevano dunque esprimere il loro sapere glossando i testi originali in diversi generi con note e commenti all'interno del testo senza così esporsi apertamente e frire il fianco ad eventuali attacchi concludo i profili biografici le traiettorie intellettuali i contributi le opere l'impatto delle traduttrici che in quanto traduttrici e mediatrici culturali devono ancora essere recuperati dall'uglio e adeguatamente rivalutati le traduttrici di oggi fanno parte di una lunga schiera di donne che hanno dedicato i loro sforzi tempo talento alla traduzione di lingue diverse discipline culture generi diversi la dignità e il valore del lavoro delle traduttrici derivano anche dal ripercorrere e ricostruire la storia della disciplina dai diversi momenti che hanno definito la professione e la figura odierna della traduttrice recuperare i nomi e le opere di queste donne che le hanno precedute conoscere meglio ciò che hanno fatto come lo hanno fatto il contesto in cui hanno lavorato le loro conoscenze linguistiche le loro aspirazioni personali intellettuali la ricezione delle loro opere sono tutti ambiti importanti di ricerca per dare il giusto riconoscimento e il giusto valore al lavoro delle traduttrici nel corso dei secoli e oggi perché il presente acquisisce il suo pieno valore conoscendo il passato che lo ha creato grazie scusate per i disguidi tecnici ma succedono intanto bene ringraziamo davvero Elena Sanson perché innanzitutto ha domato le controversie tecnologiche quindi veramente grazie anche perché ci ha dato un inquadramento anche di tipo metodologico molto importante mi piace sottolineare poi alla fine faremo un dibattito mi auguro il più partecipato possibile ma mi piace sottolineare due cose di quanto è stato detto una questione che riguarda molto spesso la scrittura femminile la questione dell'autorialità ed è una questione sempre molto complessa non solo perché come ha mostrato la collega non sappiamo talvolta chi siano questi autrici ma talvolta non sappiamo nemmeno se siano autrici e questo naturalmente richiede è uno sforzo anche filologico importante seconda questione che vorrei mettere in luce è l'importanza delle traduzioni noi tutti sappiamo che in fondo la nostra letteratura inizia con degli atti di traduzione la letteratura italiana la stessa scuola siciliana nasce così quindi il fatto che qui vengano presi hanno stati presi a modello naturalmente per specimina la ringrazio anche di questo del fatto che ha tenuto nei tempi stretti che le erano imposti un quadro così ampio il fatto che questo ritorni tra secolo XVI e secolo XVIII è particolarmente importante perché sono quei secoli in cui la letteratura italiana veramente si apre al contesto europeo inizia uno scambio importante e che le donne siano protagoniste anche di questo passaggio è una novità significativa che ci rende ancora più curiosi di leggere il libro che sta per uscire quindi grazie davvero bene adesso cedo la parola a Francesco Lucioni che è ricercatore presso l'Università di Roma la Sapienza e naturalmente è stato per anni presso l'University College a Dublino con cui collabora ancora il campo di ricerca privilegiato è la letteratura umanistico rinascimentale e gli studi su Petrarca sul petrarchismo sulla diciamo sulla tradizione del nostro rinascimento molto vasta la sua produzione scientifica anche qui avremmo dovremmo perdere diciamo parte del tempo che invece possiamo dedicare a sentirlo a leggere il suo curriculum per cui gli cedo senza altri indugi la parola prego grazie professor Valerio grazie alle organizzatrici per questo invito che mi permette di presentare i primi risultati di una ricerca che riguarda il ruolo delle donne come interpreti di testi letterari in età moderna l'obiettivo è quello di cercare di capire in che modo e con quali strumenti le donne praticavano la critica letteraria e uno di questi strumenti sono gli argomenti cioè dei brevi riassunti dei brevi compendi di un'opera o di parti di quest'opera nel corso del Cinquecento gli argomenti premessi a testi letterari specie se questi sono di notevole lunghezza e complessità di intreccio sono tra i paratesti più diffusi e apprezzati tanto da essere segnalati anche sui frontespizi delle edizioni a stampa composti inizialmente in prosa tali compendi vengono ben presto declinati anche nella forma dell'ottava rima e questa si afferma rapidamente come una vera e propria moda in relazione al successo dell'Orlando Furioso che viene immesso sul mercato come sapete 1516 21 32 e poi dal 1532 in poi una esplosione di edizioni sempre più ricche di immagini di illustrazioni di apparati paratestuali è così che nell'arco di soli 12 anni tra il 1556 e il 1568 vedono la luce cinque edizioni diverse dell'Orlando Furioso quelle che vedete alle mie spalle che presentano differenti stanze o taverime di argomento del Furioso quelle di Scipione Ammirato che sono poi rapidamente seguite da quelle di Luigi Groto per i Cinque Canti e poi ancora quelle di Livio Coraldo di Giovanni Andrea dell'Anguillara di Giovanni Mario Verdi Zotti di Lodovico Dolce tutte più volte riedite nel corso del Cinquecento e poi ancora del Seicento a questi esempi se ne possono poi aggiungere almeno altri due distanze di argomento di serie distanze di argomento dei canti del poemario stesco che però non figurano come paratesti di edizioni del Furioso ma le une figurano come apparati paratesti di un commento al Furioso cioè le bellezze del Furioso di Razio Toscanella che appare nel 1574 e che vi farei ah ecco si si vede e l'altro sono le stanze che accompagnano che vengono pubblicate autonomamente come volumetto nel 1584 dal notaio trentino Leonardo Colombino appunto gli argomenti del Furioso ora a partire dal Furioso e intorno al Furioso si va sviluppando un vero e proprio sottogenere letterario stanze di argomento vengono composte ad esempio per la quarta impressione delle metamorfosi di Ovidio in ottava rima di Giovanni Andrea dell'Anguillara del 1571 e sono scritti in ottava rima gli argomenti premessi ai poemi classici di Lodovico Dolce l'Enea l'Achille d'Enea l'Ulisse e ancora le prime imprese del Conte Orlando suo poema cavalleresco del 1571 ed è proprio a partire dagli anni settanta che questa moda esplode e accompagna poemi in ottava rima di ogni genere dalla traduzione appunto in ottava rima in volgare del Departo Virginis di San Nazaro a forme di riscrittura o ad altri poemi cavallereschi come quello di Bernardo Tasso il Floridante ancora continuazioni del Furioso penso all'Orlando Santo di Giulio Cornelio Graziano del 1597 poemi eroici come il Marte di Vincenzo Metello volgarizzamenti poemi sacri testi di taglio differente fino ad arrivare al mondo nuovo di Giovanni Giorgini del 1596 accompagnato da una doppia serie di argomenti in ottave di Pietro Colini e in prosa di Girona Ghislieri alla luce della straordinaria diffusione di tali apparati paratestuali specialmente nella seconda metà del XVI secolo non sorprende che anche le prime edizioni della Gerusalemme liberata escano già fornite di argomenti in ottava rima quelli composti da Orazio Ariosto ne stupisce che anche i cinque canti di Camillo Camilli che sono una integrazione della Gerusalemme liberata pubblicata per la prima volta nel 1583 vengano accompagnati da argomenti in ottava rima di Francesco Melchiori a partire dal 1585 e lo stesso inevitabilmente accade per la Gerusalemme conquistata che già dalla seconda edizione è provvista degli apparati paratestuali in ottava rima di Giovan Battista Masserenchi ora come testimoniano questi ultimi esempi le stanze di argomento si possono facilmente applicare a poemi in precedenza stampati senza alcun ausilio di lettura oppure con compendi in prosa il caso di Boiardo l'innamoramento di Orlando pubblicato da Lodovico Domenichi nel 1545 appare con argomenti in prosa e poi a partire dal 1574 questi argomenti vengono trasformati in stanze in ottava rima il Rinaldo di Tasso che esce senza alcun paratesto nel 62 è immesso nuovamente sul mercato con argomenti in ottava rima nel 1581 e poi un altro caso quello delle lagrime di San Pietro di Luigi Tanzillo un poema che era stato pubblicato per la prima volta a partire dal 1585 e che nel 1606 l'editore Barezzo Barezzi decide di ristampare con argomenti in ottava rima questo poema è introdotto da una lettera quella che vedete di Barezzo Barezzi a lettore un avviso in cui l'editore spiega che ancora non contento mi affaticai di aver questa grazia dalla signora Lucrezia Marinelle gentildonna per le sue rare qualità e per lettere ammirata dal mondo cioè che ella facesse gli argomenti e le allegorie a ciascun canto appunto delle lagrime di San Pietro cosa che per sua bontà mi è venuta fatta insomma Barezzo Barezzi si rivolge a quella che al tempo era una delle maggiori letterate Lucrezia Marinelli appunto che aveva avuto grandissimo successo per i suoi poemi sacri in ottava rima nonché per i suoi scritti in prosa e che a cui chiede appunto di comporre queste ottave premesse a ciascun canto delle lagrime di San Pietro di Tanzillo ora la presenza di tali apparati come vedete dal frontespizio è segnalata dallo stampatore fin appunto dal frontespizio un onore riservato a pochissime letterate in età moderna se consideriamo ad esempio il caso dei poemi epico-cavallereschi scritti da donne che sono appunto pochi potremmo osservare che i frontespizi non fanno mai riferimento alla presenza di argomenti in ottava rima ora effettivamente la Scanderbeide di Margherita Sarrocchi non ha argomenti mentre sono in prosa gli argomenti che introducono il meschino di Tuglia d'Aragona e quelli che introducono la Scania errante di Barbara degli Albizi Tagliamocchi in ottava rima sono gli argomenti che introducono il Floridoro di Moderata Fonte e l'Enrico della stessa Marinelli però non c'è nel frontespizio alcuna indicazione della presenza di tali apparati paratestuali né si sa chi ne sia l'autore forse le stesse Moderata Fonte e Marinelli ma non lo sappiamo dunque il caso delle lacrime di San Pietro è eccezionale ma non unico soltanto un'altra donna prima di Marinelli aveva visto il proprio nome stampato sul frontespizio di un'opera di cui aveva composto gli argomenti e si tratta della Vicentina Maddalena Campiglia nel 1591 vede infatti la luce a Venezia all'insegna del Leone la seconda edizione che poi è una seconda redazione del Fidamante poema eroico che Curzio Gonzaga aveva pubblicato per la prima volta a Mantova nel 1582 e che viene immesso nuovamente sul mercato come recita il frontespizio ricorretto da lui di nuovo ristampato aggiuntivi gli argomenti dell'illustre virtuosissima signora Maddalena Campiglia e le moralità di incerto autore infatti nella prima edizione dell'82 non c'erano gli apparati paratestuali non c'erano gli argomenti in ottava rima ora Gonzaga Curzio Gonzaga è un epigono di Tasso e il suo fido amante questo è il titolo della prima redazione entra da subito nel dibattito sul poema epico cavalleresco basta ricordare che Gonzaga è uno dei protagonisti del dialogo di Giuseppe Malatesta che si intitola La nuova poesia ovvero delle difese del furioso testo pubblicato nel 1589 un dialogo che inizia proprio da una riflessione intorno al fido amante che viene descritto come uno dei più degni componimenti eroici che in molti anni addietro si siano veduti che viene considerato addirittura superiore all'Orlando furioso lo dico subito così non è il fido amante un poema direi illegibile ma insomma sorvoliamo su questo dopo il successo della prima edizione Gonzaga rimette mano al poema che percepiva già al momento della stampa come incompleto come incorretto come bisognoso di ulteriori cure ecco informazioni circa una nuova redazione si trovano già nella seconda edizione accresciuta delle rime di Gonzaga che escono all'inizio del 1591 la princeps delle rime era apparsa nell'85 in questa silloge lirica allestita da Battista Menassi nella dedica l'editore appunto spiega di aver lungamente desiderate aggiunzioni e miglioramenti che si intendeva che Gonzaga aver fatto al fidamante e alle rime sue insomma c'era si sapeva c'era la notizia che Gonzaga continuava a lavorare sulle proprie rime e sul fidamante Battista Manassi pubblica le rime sapendo però che ci sono delle correzioni che c'è una nuova versione del fidamante e in questo al viso dei rettori però aggiunge un dettaglio interessante ci dice venendomi detto che l'illustre virtuosissima signora Maddalena Campiglia per la conserva che fa delle cose di quel signore sola forse se le trova riuscì talmente fortunata l'intercessione di alcuni signori che ella me ne fu con grazia cortese insomma Campiglia è descritta come depositaria degli scritti degli autografi potremmo dire di Gonzaga tra cui una versione revisionata del fidamante che effettivamente sarebbe uscita di lì a poco con dedica di Antonio Amici a Giacomo Buoncompagni duca di Sora nella prefazione a questa seconda edizione Amici ricorda le trattative intavolate con Gonzaga per ottenere questa nuova versione con notabili miglioramenti in molti luoghi e Amici spiega che appunto Gonzaga non voleva concedergli questa nuova redazione del poema dice o perché non lo aveva ancora ridotto a quella compita perfezione che desiderava o per altre maggiori occupazioni o forse anche per avere ormai rivolto l'animo a composizioni spirituali insomma Gonzaga era un po' disinteressato al suo poema e quindi che cosa fa Amici per pubblicarlo si rivolge anche lui alla virtuosissima signora Maddalena Campiglia la quale essendo non minor investigatrice che custode delle cose di questo illustrissimo signore quindi ancora con lei che preserva i manoscritti aveva sola per ventura gli acconciamenti di questo poema i quali in beneficio del mondo furono da lei con la medesima liberalità conceduti quindi Campiglia dona ad Amici questa redazione ma non solo la redazione perché Campiglia concesse ancora gli argomenti da sé composti al fidamante Campiglia aveva appunto scritto composto queste ottave che vengono pubblicate al principio di ogni canto ora i rapporti tra Campiglia e Gonzaga risalgono indietro nel tempo almeno al 1586 e proseguono fino alla morte di Campiglia nel 1595 che peraltro lascia proprio a Gonzaga i propri manoscritti quindi si scambiavano testi e Campiglia dedica a Gonzaga la sua prima opera la favola pastorale Flori del 1588 e ricorda nella dedica che Angelo Ingegneri un importante letterato del tempo poi le aveva raccomandato la lettura del fidamante e lo stesso Gonzaga dal canto suo elogia la Flori e Maddalena Campiglia nelle sue rime e poi torna ad occuparsi di lei appunto nella seconda redazione del fidamante seconda redazione in cui aggiunge un'intera ottava dedicata a Maddalena Campiglia siamo nel canto trentacinquesimo c'è un breve catalogo di donne letterate non un modello tradizionale chiaramente nella prima edizione del poema Gonzaga elogiava Ippolita Colonna Veronica Gambara Tarquini Amolza e Fiammetta Soterini nel 1591 aggiunge un'intera stanza dedicata proprio alla sua amica Maddalena Campiglia veniamo allora a questi argomenti questi compendi in singole stanze che possono essere interpretati come esercizi di virtuosismo stilistico racchiudere un intero canto in un'unica stanza ma che al tempo stesso si rivelano strumenti di analisi e interpretazione dell'opera della quale selezionano passi ritenuti per ragioni più o meno valide i più significativi nel caso del fidamante il valore ermeneutico oltre che compendiario di tale stanza è evidente dal confronto con le moralità anonime che introducono i canti le moralità appunto sono in prosa e che risultano finalizzate appunto offrire una moralizzazione del poema ora in molti casi tra gli argomenti in ottava rima e la morale in prosa c'è perfetta sintonia entrambi gli apparati si soffermano sugli stessi personaggi o sugli stessi episodi dimostrando una coerente lettura del singolo canto un esempio può essere offerto dal canto ventiseiesimo ho usato i colori per distinguere spero che qualcosa si legga in cui appunto viene raccontata di una sortita notturna su questo canto si è soffermata Maria Cristina Cabani e in questo caso c'è coincidenza tra le scelte di Campiglia e quelle dell'anonimo autore delle moralità entrambi selezionano i medesimi temi escludono altre parti del canto giudicate di minore interesse e la continuità tra i due paratesti è evidente anche nelle scelte lessicali qui appunto viene descritta Vittoria che medicata ributta i nemici espressione che troviamo sia nella stanza sia nella moralità in prosa espressione che non ricorre invece nel canto e che fa presumere un influsso diretto di un apparato sull'altro anche se non è facile stabilire una gerarchia sono inoltre già evidenti in questa stanza alcune caratteristiche dello stile di Campiglia nei suoi argomenti l'adozione di costruzioni sintattiche particolarmente complesse il frequente ricorso ad anastrofi e perbati l'ampio utilizzo dell'enjambement un espediente più in linea con le stanze introduttive della Gerusalemme liberata di Orazio Riosto piuttosto che con quelle dell'Orlando Furioso nel caso di Campiglia tuttavia l'inarcatura non sempre ha funzione espressiva spesso risponde semplicemente all'esigenza di dover racchiudere sintatticamente in un'unica stanza il senso di un intero canto ora accanto a questi casi di perfetta sintonia tra argomenti e moralità ci sono però anche casi in cui i due apparati divergono concentrandosi su aspetti diversi nel canto diciottesimo ad esempio la moralità è tutta dedicata ai protagonisti Vittoria e Gonzago interpretati nel loro duplice ruolo anche morale naturalmente di capitani valorosi e di amanti virtuosi la loro vicenda tuttavia nel canto occupa solo le ultime 73 stanze nella moralità non c'è traccia delle prime 50 stanze che invece sono incentrate sull'organizzazione dell'esercito del malvagio orcano sull'uccisione del suo consigliere Iasio sulla successiva apparizione del fantasma di quest'ultimo quale monito al crudele re ora così non è nell'argomento di Campiglia che come vedete dedica i primi quattro versi ad Orcano e gli altri quattro a Vittoria e Gonzago in modo da restituire non solo il perfetto equilibrio tra gli opposti schieramenti e i loro campioni un equilibrio che domina tutto il poema fino alla conclusione ma anche in modo da restituire la perfetta proporzione interna al canto in cui la vicenda di Orcano ha tanto spazio quanto quelle dei due protagonisti in tal modo l'argomento svolge anche una funzione critica perché invita il lettore a prestare la dovuta attenzione ad un episodio che non è sottoposto a moralizzazione ma che è tutt'altro che secondario nell'economia generale del poema introdotto nel secondo canto come tiranno crudele pronto a sacrificare delle vergini pur di ottenere l'immoralità e poi ripetutamente rappresentato come mandante di attacchi contro Gonzago Orcano entra sulla scena del poema proprio a partire da questo canto l'uccisione di Giasio che invitava il re alla moderazione non è che il primo di una serie di omicidi e sacrifici che conducono il tiranno a sterminare la sua stessa famiglia una serie di atti tuttavia non privi di conseguenze l'apparizione dello spettro del consigliere è rappresentazione del suo senso di colpa che lo accompagna per tutto il poema in una spirale che lo conduce a incontrare altre presenze infernali e negative come Meggera fino a scendere seppur in sogno agli inferi insomma l'episodio di Orcano nel canto diciottesimo si pone come vera e propria introduzione ai canti successivi riassumendo tale vicenda nel proprio argomento Campiglia dimostra dunque di averne colto criticamente il valore di snodo narrativo e concettuale argomenti e moralità si distinguono però non solo per la selezione o l'esclusione dei temi presi in esame ma anche per lo spazio che dedicano ad un episodio rispetto ad un altro vale la pena osservare cosa succede nel canto quattordicesimo nella moralità come vedete ancora con i colori spero che si veda c'è un certo equilibrio nell'attenzione rivolta a quelli che vengono indicati e giudicati come i tre temi principali del canto il catalogo di donne contemporane la sfida lanciata da Armedonte Radamante e quindi l'intervento di Berenice per liberare le donne che Armedonte vorrebbe sacrificare tre parti del poema nella moralità queste tre parti sembrano avere più o meno la stessa estensione o almeno la stessa attenzione nel poema così non è perché il catalogo di donne contemporane occupa 64 strofe la sfida di Armedonte Radamante 38 ottave e l'intervento di Berenice per liberare le donne solo 5 ottave ora nell'argomento la estensione che viene dedicata ai tre temi è molto diversa abbiamo cinque versi dedicati al primo due al secondo e un unico verso per l'argomento più breve di trattazione più sintetica anche all'interno del canto in tal modo Campiglia può sottolineare quello che ritiene essere il perno concettuale di questo canto ossia il lungo catalogo di personaggi del proprio tempo che peraltro lo stesso Kunzio Gonzaga aveva ricordato nell'avviso ai lettori come una delle parti del poema su cui poi sarebbe tornato proprio a richiamarne l'importanza ed è importante osservare anche come Campiglia scelga di riprodurre in piccolo la forma del catalogo all'interno del proprio elemento creando non una lista di nomi di donne contemporanee come nel poema ma un elenco di virtù moliebri vedete dal verso 2 i nomi la beltate la fede il valore il senno il zelo a ben guardare poi tutta l'ottava è costruita mettendo al centro proprio le donne soggetto dell'elogio vittime di armedonte quindi liberate da Berenice in tal modo Campiglia persegue l'obiettivo di dare unità narrativa alla propria stanza che non si presenta come una semplice giusta posizione di episodi diversi e slegati ma come un corrente discorso tale ricerca di coesione trova perfetta sintesi nell'argomento che introduce il canto nono canto in cui Berenice racconta a Radamante le innumerevoli avventure vissute da Gonzago avventure che Campiglia riassume fecocemente come vedete con un elenco costruito sul polisindeto in modo da rendere il senso dell'accumulo di episodi ma preservando al tempo stesso l'idea dell'unità della narrazione ciò è perfettamente in linea con il disegno di Curzio Gonzaga evidentemente influenzato dal dibattito teorico circa l'unità d'azione nella poesia epico-cavalleresca Gonzaga utilizza in maniera molto cauta l'antlasman ricorrendo a dispositivi diversi per arricchire il proprio intreccio nella prima parte del poema le vicende che conducono i protagonisti dal re Radamante non vengono descritte in presa diretta come vissute in momenti e luoghi diversi ma sono raccontate dai personaggi durante una conversazione che si svolge nell'arco di poco tempo all'interno del palazzo reale così da preservare unità di tempo unità d'azione e unità di luogo il senso di unità è poi garantito dalla prospettiva attraverso cui i personaggi attraverso cui i vari episodi vengono raccontati è spediente che la stessa Campiglia riprende nei propri argomenti così nel canto sperzo è la voce femminile di Berenice a guidarsi a guidarci attraverso momenti diversi della vicenda mentre con perfetto parallelismo nel canto successivo il quarto la prospettiva maschile di Gonzaga accompagna la narrazione e questo desiderio di tradurre l'unità d'azione perseguita nel poema anche a livello degli argomenti è evidente nel canto quinto che è introdotto da una stanza che appunto inizia con quel segue che dà proprio l'idea di una prosecuzione del discorso che era stato avviato nel canto terzo e poi ripreso appunto nel canto quarto nella seconda pettà del poema invece Gonzaga abbandona l'espediente del racconto di secondo grado ma continua a preservare l'unità della narrazione il passaggio da un episodio ad un altro avviene senza interruzioni o bruschi salti ma come un lento scivolamento spesso mediato proprio dallo spostamento di un personaggio da un luogo ad un altro così ad esempio nel canto diciottesimo le diverse scene che si susseguono sono collegate attraverso la focalizzazione sul personaggio di Armedonte che si muove dal campo cristiano a quello pagano offrendo il destro per descrivere episodi e personaggi differenti lo stesso approccio è adottato da Campiglia che inizia l'argomento del medesimo canto raccontando il ritorno degli eserciti italici e greci al campo che portano con sé la notizia della morte di Slao notizia che spinge la zia del giovane al suicidio ed è proprio attraverso tale campo che si fa strada Armedonte che poi cade nel nido quindi raggiunge lo schiramento egiziano e assiste al tradimento di Argentina insomma nella varietà della narrazione l'unità non è garantita dalla prospettiva di un unico narratore come nella prima parte del poema ma dalla focalizzazione su un solo personaggio che tiene insieme momenti differenti dell'intreccio Campiglia non si limita dunque a riassumere i temi portanti del fidamante ma nei suoi argomenti cerca di riprodurre nella misura minima della stanza quanto sviluppato da Gonzaga nella misura più estesa del canto Campiglia rispetta le proporzioni tra le varie file del racconto e abbraccia come possibile l'ossessione per l'unità narrativa che domina il poema in tal modo gli argomenti non si definiscono soltanto come brevi riassunti né come semplici esercizi di stile modellati sui canti del fidamante ma si presentano come tentativi di condensare il contenuto e riprodurre la forma del poema di Gonzaga si tratta dunque di apparati paratestuali ma al tempo stesso di forme di riscrittura interpretativa esempi di quelle che Klaus-Henfa con riferimento al Furioso ha descritto come ricezione creativa di un'opera letteraria impostasi sulla scena culturale per un discorso sull'annunciazione della Vergine del 1585 la favola plastorale Clori l'ecloga Clarisi e varie rime sparse in sillogia stampa Campiglia termina il proprio percorso di scrittura proprio con gli argomenti al fidamante un'opera certamente minore rispetto a più complessi poemi di letterate cueve come moderata fonte Lucrezia Marinelli è tuttavia un'opera che dimostra accanto a qualità poetiche anche notevole sensibilità critica gli argomenti di Campiglia al fidamante insieme a quelli successivi di Marinelli e le lacrime di San Pietro di Tanzillo si pongono sulla linea inaugurata da Laura Terracina con il discorso sopra il principio di tutti i canti del Furioso del 1549 ossia sulla linea di una riscrittura intesa come forma di prassi ermeneutica di conseguenza tali esperienze si definiscono come primi capitoli di una storia ancora tutta da scrivere quella della critica letteraria in età moderna numerosissime sono le opere di critica dedicate a donne trattati dialoghi commenti autocommenti lezioni accademiche e seppur in misura decisamente minore abbiamo anche opere incentrate sulle esegesi di scritti di donne penso alla dichiarazione di Rinaldo Corso alla sezione delle liriche spirituali di Vittoria Colonna del 43 poi seguita dall'esposizione dell'intero canzoniere nel 58 ancora alle letture sulle rime di Laudomia Forteguerri presso l'Accademia Padovana degli Infiammati manca però ed è quello che sto cercando di fare un'indagine sistematica sul modo in cui le donne si dedicavano alla pratica esegetica nel rinascimento un orizzonte nel quale vanno collocati e necessariamente interpretati anche gli argomenti di Campiglia al fidamante grazie ringrazio Francesco Lucioli perché questi primi due interventi vedete sono esattamente quello che avevano detto quello che avevano detto appunto Marica e Valeria nella premessa dunque anche in questo caso siamo rimasti vicini ai testi legati ai testi ringrazio molto il collega proprio per averci mostrato proprio l'officina filologica con cui si arriva appunto a delle conclusioni critiche come quelle che lui ci ha portato ma soprattutto per aver qui come era stato nella precedente relazione indicato un campo di sviluppo degli studi che come vedete lo dicevo in premessa non sapevo cosa avrebbero detto ma insomma era ovvio che c'era questa costruzione in questo pomeriggio comunque vedete sono campi di studi che richiedono ulteriori approfondimenti richiedono ulteriori scandagli filologici storici e la questione appunto della sensibilità critica come l'ha definita Francesco Lucioli è qualcosa che si accompagna a quelle qualità poetiche che naturalmente la stagione del petrarchismo aveva già abbondantemente consegnato al dibattito critico ma questo è un ulteriore elemento anche perché poi questo ci permette probabilmente qui mi butto in avanti diciamo ci permette anche di riconsiderare quella stagione del petrarchismo anche dal punto di vista della riflessione critica sullo strumento utilizzato va bene ma questo è un altro discorso e io credo che abbiamo qualche minuto per un dibattito sì Marica Di Maro dice di sì che sono obbligatorie fatele le domande c'è bisogno come al solito di qualcuno che rompa il ghiaccio è il rituale ma va benissimo giusto per rompere il ghiaccio volevo sapere in riferimento a quello che dicevo prima voi leggete immagino romanzi saggistica di autori stranieri in traduzione sì sì vi ricordate il traduttore la traduttrice di una delle ultime opere ecco allora questo forse è anche un elemento qualcosa da portare con voi come riflessioni future ci tenevo a dirvelo di fare attenzione anche a questi elementi chi ha tradotto l'opera perché di fatto il traduttore la traduttrice l'ha ricreato per voi se non avete accesso a questa lingua straniera vi ha effettivamente ricreato un mondo e in realtà parte del ruolo del traduttore della traduttrice è di essere invisibile di non essere presente nel testo perché possiate veramente fruirlo in modo del tutto naturale però vorrei fare questo invito concedetemi questo minuto per dire la prossima volta che prendete fra le mani un libro che è tradotto in italiano per voi fate attenzione a chi effettivamente lo ha tradotto momento per vedere chi ha compiuto questo lavoro di ricreazione grazie sì grazie rompi il ghiaccio devi farlo al microfono se no da casa non ti sentono allora innanzitutto grazie ad entrambi per le vostre relazioni interessantissime per Elena è una domanda per Francesco una suggestione mi chiedevo se avevi avuto modo di guardare i testi originali posseduti dalle traduttrici e se hai avuto modo di farlo hai notato particolari noti a margine commenti o glosse invece per Francesco mentre parlavi della pratica degli argomenti mi veniva in mente che il ladone ad esempio nasce già con gli argomenti Marino recupera tutta questa tradizione cinquecentesca e ti volevo segnalare che anche l'enrico di Lucrezia Marinelli presenta gli argomenti quelli sono autoriali lo afferma lei in una postilla e anche un altro testo di Marinelli che non è un poema epico ma è un poema allegorico l'amore esatto ha gli stessi argomenti grazie allora la risposta mi sarebbe piaciuto moltissimo poter avere fra le mani i testi da cui avevano lavorato ma uno dei problemi che spesso si ha quando si lavora sulle donne che scrivono le donne che sono attive in ambito intellettuale diciamo artistico effettivamente poter ricostruire ciò che avevano letto la loro biblioteca i loro libri ciò di cui si servivano che spesso sono andati perduti in realtà bisogna dire che molto spesso si sa anche molto poco dell'educazione dell'istruzione che avevano ricevuto e quindi per molte delle traduttrici su cui ho lavorato e su cui sto ancora lavorando perché accanto al progetto di cui vi dicevo che uscirà la prossima settimana c'è una monografia in lavorazione e in questo caso quando mi è stato possibile ho ricostruito quello che è il contesto culturale il contesto educativo di queste figure attraverso fonti secondarie dell'epoca e eventualmente anche di poco successive possiamo avere un'idea di quale edizione possono essersi servite ma non necessariamente l'opera che avevano utilizzato per la loro traduzione a meno non finora diciamo grazie aggiungo soltanto avevo accennato al fatto che sì sia moderata fonte se Lucrezia Marinelli hanno gli argomenti ma la loro presenza non figura nel frontespizio cioè il poema c'è il titolo c'è l'autore ma lì non viene indicata la presenza nel frontespizio e l'altra cosa su cui andrebbe ragionare è il fatto che gli argomenti li faccia qualcun altro questo è abbastanza importante se pensiamo che Tasso Torquato scrive una lettera in cui dice all'editore tu vuoi che io scriva gli argomenti al mio poema e io non li voglio scrivere e dice e ho la citazione in particolare sottolinea sarebbe necessario fossero altri a scriverne gli argomenti cioè il poema dell'autore dovrebbe essere accompagnato da argomenti di altri non da argomenti propri perché dice se da me fossero fatti parrebbe o che egli non meritasse che altri in lui si affaticasse quindi che altri perdesse tempo sul mio poema o che io stimassi che altri non fosse degno da affaticarvisi e l'una delle quali opinioni sarebbe falsa l'altra superba molto e quindi poi gli risponde guarda preferisco fare gli argomenti ad Ariosto piuttosto che al mio poema o dice ad Erasmo da Valvassone grazie beh il ghiaccio l'abbiamo rotto quindi chiedo se ci sono altri interventi direi di no attendo ordini di quanto tempo la pausa di un quarto d'ora quindi allora tra 20 minuti ci di un quarto d'ora che vuol dire che tra 20 minuti ci troviamo qui e soprattutto per chi magari è collegato gli diamo appuntamento precisamente tra 20 minuti la professoressa Di Maro sta invitando gli studenti a riflettere ma vedo che gli studenti sono già in pausa caffè quindi rifletteranno con calma ricominciamo e ho il piacere ho il piacere di presentare ma qui non ce ne sarebbe assolutamente bisogno Marica Di Maro che insegna proprio letteratura italiana presso l'Università dell'Aquila quindi veramente non ci sarebbe altro da dire mi piace ricordare appunto i suoi interessi che spaziano nell'ambito della letteratura italiana nell'ambito della produzione lirica dal XVI al XIX secolo ma soprattutto ha lavorato molto sulle intersezioni tra letteratura arti e altri sapeni è un vero piacere presentarla perché come si dice dalle parti mie l'ho vista crescere e sono molto felice di di poter essere oggi suo ospite in questa università grazie Marica perfetto grazie Sebastiano buon pomeriggio a tutti Margherita Costa date presunte di nascita e di morte 1600-1657 è una poetessa marinista e una virtuosa romana ed è anche una delle scrittrici più prolifiche del XVII secolo con all'attivo ben 14 opere questo corpus è un corpus extraordinario per quantità e polietricità ed è un corpus in cui Margherita Costa si muove abilmente tra diversi generi si vedono la cronaca di viaggio la lirica il poemetto geografico ed eziologico l'epistolografia il dramma per musica e la commedia ridicolosa ma Margherita si muove anche tra numerosissimi registri stilistici presenti non solo nelle singole opere ma contaminati anche all'interno di un'unica opera e si mostra abile a passare dal comico al tragico dalla satira mordace all'encomio dall'aulico all'erotico ovviamente in questa sede non possiamo trattare e analizzare l'intero corpus di Margherita Costa e quindi dico sin da subito che circoscrivo la mia analisi ai primi due canzonieri pubblicati dalla romana la chitarra e il violino riservando poi ad altra sede una disamina un po' più ampia questi due canzonieri si prestano facilmente a una lettura macro testuale perché presentano elementi di continuità sia strutturali che tematici i due volumi presi in esame qui vediamo il frontespizio vengono pubblicati a distanza di pochissimi mesi ad aprile a giugno per essere precisi nel 1638 inoltre diversi riferimenti interni legati soprattutto al richiamo a vicende politiche militari coeve ci lasciano se presupporre a buon ragione che queste numerose liriche come vedete al di sotto dei due frontespizi vedete il numero delle liriche raccolte in questi due canzonieri ben 225 nella chitarra e 43 invece nel violino dicevo attraverso una serie di riferimenti interni possiamo presupporre che queste liriche siano il risultato di un unico periodo di elaborazione stesura collocabile tra il 1636 e il 1638 e volto ad ottenere i favori della corte granducale del resto anche i dedicatari il dedicatario dell'opera rende ragione a questa a quest'opera il dedicatario è appunto il granduca di Toscana Ferdinando II ma partiamo allora dai elementi prima materiali poi paratestuali e poi interni che ci consentono di collegare queste due raccolte e di fare anche una lettura macrotestuale i due canzonieri come vedete sono pubblicati sotto false indicazioni editoriali che nascondono però l'opera di un editore fiorentino che è il Massilandi il frontespizio infatti colloca la pubblicazione a Francoforte presso un ignoto Daniel Batch segnalo che all'editore è attribuita solo un'altra opera sempre del contesto della granduca e si tratta di un manuale ad uso di trombettisti quindi ci troviamo sempre in ambito musicale canoro le ragioni di questa scelta editoriale trovano poi riscontro sia nelle pratiche anticensura sia nelle pratiche attoriali come illustrato da Teresa Megale infatti i comici e le comiche dell'arte tendevano a pubblicare i propri testi in vesti editoriali false e del resto dobbiamo ricordare che Costa è una donna di scena la sua prima professione è il canto è una virtuosa è una cantante di camera e quindi non è da escludere l'uso di questa strategia editoriale come è un tentativo di ingraziarsi le simpatie del pubblico e soprattutto dei suoi committenti ma anche per fingersi famosa oltre i confini delle corti prima romana e poi toscana che la accorgono inoltre la collocazione editoriale a Francoforte non esclude anche un tentativo di evitare la censura di due opere soprattutto la prima che presenta un elevato numero di testi licenziosi ed erotici inoltre queste due raccolte presentano un ricco apparato paratestuale composto non solo da liriche d'encomio le canoniche liriche d'encomio e tra i nomi dei poeti che dedicano delle liriche a costa abbiamo quelli di Alessandro Adimari Ottavio Tronzarelli a testimonianza del consenso e del prestigio che la virtuosa gode presso le corti in cui canta e poi soprattutto quello che ci interessa da lettere dedicatorie indirizzate proprio a Ferdinando II e che sono costruite su un insistito uso del topos modestie la romana descrive in queste due lettere sono due citazioni vedete tratte dalla chitarra e dal violino in cui sono due lettere appunto in cui descrive il suo lavoro con una finta umiltà dichiara lo scarso valore dei versi pubblicati presenta questi volumi come dei mostri come uno sconcio viassimevo il rozzo parto del suo rozzo ingegno e soprattutto chiede perdono al dedicatario e poi a coloro che leggeranno la raccolta per la debolezza del suo poco talento i due canzonieri poi presentano anche una serie di similarità strutturali in entrambi abbiamo una varietà metrica che guarda con una certa attenzione alla varietà metrica della produzione lirica coeva in questo gioco di rimandi creato dall'autrice la similarità materiale paratestuale e poi anche metrica trova ovviamente riscontro anche in quella tematica le raccolte contengono liriche che tratteggiano le varie forme del sentimento amoroso intervallati poi da testi di natura encomiastica e anche da motivi legati alla tradizione satirico-burlesca che invece danno voce alla polemica contro la realtà di corte e soprattutto contro la misoginia del tempo questi testi soprattutto e qui arriviamo al punto centrale di questa relazione sono in perfetto dialogo con le tendenze coeve e si mostrano i testi Margherita appunto ricettrice delle forme metriche delle immagini e dei temi marinisti per Margherita Costa l'ampia produzione di Giovan Battista Marino è un contenitore da cui attingere immagini temi strutture metriche strutture retoriche da utilizzare per i suoi testi e soprattutto da risemantizzare l'elemento proprio della voce poetica di Marino viene nascosto abilmente tra le maglie del testo e utilizzato per creare non solo nuove immagini ma soprattutto nuovi significati a dimostrazione di quello che ho appena detto almeno ci provo vedremo insieme due testi rispettivamente tratti dalla chitarra e dal violino si tratta di due testi dal registro stilistico completamente diverso il primo è un testo burlesco il secondo invece è un testo elegiaco partiamo dal primo testo che non solo è il primo testo preso in esame oggi ma è il capitolo in terza rima che apre la chitarra la prima raccolta lirica di Costa e quindi apre in un certo senso l'intera sua produzione lirica in questo capitolo in terza rima l'autrice descrive la musa che nutre la sua ispirazione poetica è una musa bizzarra a detta dell'autrice che suona la zampogna grida sabbacchia stride e maledice sto citando dal testo è impossibile da controllare perché vuole raccontare la verità su una serie di donne che sono Mea Nana Cice Togna si tratta di donne che appartengono alla tradizione burlesca e che sono poi protagoniste la maggior parte delle volte di tragedie amorose di vicende amorose con fine tragico la poetessa più avanti riconfessa al suo lettore di aver provato senza successo a placare la furia di questa musa con le bastonate e di non aver ma di non essere riuscita a calmarla di aver perso e quindi sotto le l'estrida della musa non dico ancora il nome sotto l'estrida della della musa ha poi composto dei versi che si dimostrano come degli scartacci da cuocere le frittate Simona questo è il nome della musa è guardiana del bosco di Licona è un astrologa non ama conversare con le sorellastre Clio Euterpe Erato Melpomene non mantiene il suo siego cioè la rigida compostezza di Polimnia Urania e Tersicore e scappa addirittura quando vede Gallio però faccio notare che Talia è assente nell'elenco priva delle qualità delle muse Simona quindi all'aspetto di un mostrum è magra ha il volto peloso come un animale e possiede delle ali che per punizione divina non può utilizzare modellata sulle figure mitologiche dell'arpia e della sirena la nostra Simona detta questi versi schietti e malvestiti e soprattutto concede a costa la possibilità di dichiararsi leggo l'ultima tersina della slide donna sono io che sol per remulsura mi diletto spiegare in queste rime in varie forme l'amorosa arsura se lette attentamente queste tersine che ci fanno anche abbastanza ridere in realtà nascondono un riferimento o meglio nascondono il riferimento a due personaggi del settimo canto dell'adone di Giovan Battista Marino mi riferisco a Talia che chiude il canto settimo e a Pasquino che invece occupa la parte centrale del canto nelle ottave di Marino la saggia e soave musa Talia sottolineo che se per la tradizione antica Talia è la musa della commedia per la tradizione lirica cinque-seicentesca Talia è la musa della poesia pastorale ed è soprattutto la musa che protegge il canto d'amore fatto ovviamente in un contesto pastorale ed è proprio lei esclusa dall'elenco suona l'arpa scoccò dolce canzon dall'arco d'oro per accompagnare l'inno d'amore come Simona accompagna con la chitarra gli inni d'amore di Costa l'inno d'amore appunto intonato dal poeta Pasquino invece è generato da un patto in forme ricordatevi le descrizioni di Simona presenti nel capitolo di Costa è mostruoso orribile e difforme è dotato di sottile ingegno sempre morde e sempre sperza è libero e schietto pronto a farsi beffa di tutti e a mantenere anche un costante atteggiamento di sfida è per questo suo parlar libero e schietto che è cacciato dal superno tetto è proprio come Simona fa guerra per ottenere e mantenere uno status autorevole Pasquino in Parnaso Simona in Parnaso l'uso di questi due personaggi la prima per descrivere l'azione di accompagnamento del canto della musa al poeta e il secondo soprattutto per descrivere il carattere della nuova musa di Costa si presenta come un riuso significativo se si pensa soprattutto al carattere autoreferenziale del capitolo di Costa che apre inaugura la sua vena poetica e soprattutto se si pensa al carattere autoreferenziale di questi ottave dedicati a Pasquino per il cui commento rimando ai commenti di Pozzi e di Russo ma soprattutto il richiamo a Talia e il richiamo al Pasquino sottolineano quella centralità ricoperta dalla materia amorosa nella scala tematica delle raccolte e infatti tra i numerosi termi presenti nella vasta produzione della poetessa romana è in dubbio riconoscere un ruolo predominante alla tematica amorosa Costa esacerba quasi fino alla noia il racconto di un'universale vicenda amorosa in cui un io lirico nella maggior parte dei casi è una bella donna ma non mancano numerosi versi intonati dalla voce maschile grida a gran voce la sua sofferenza e tessi un feroce vituperio nei confronti della persona amata lo scenario che si apre nelle pagine dei canzonieri di Costa è uno scenario che si ripete continuamente e allora abbiamo un io lirico che inveisce contro il suo amante crudele che non si cura del suo affetto del suo tormento e spesso rivolge anche i favori altrove verso altre donne o verso altri uomini si lamenta per la partenza dell'amante sempre il mio lirico il soggetto si lamenta dell'assenza della sua amata e soprattutto è vittima della potenza d'amore spesso si presenta poi come un amante di sdegno e quindi rato afflitto e tormentato da una spropositata passione che non riesce né a gestire né ad arginare l'io lirico ha quindi difficoltà a svincolarsi dai lacci d'amore e riconosce proprio nel lamento elegiaco il sollievo a una tale pena sarebbero numerosissimi gli esempi di i testi che potremmo leggere sul lamento amoroso ma vediamo insieme questo idillio tirrenia abbandonata da Minta ricordo che tirrenia e Minta sono due personaggi della tradizione pastorale che è contenuto nel violino è il nono idillio del violino la lirica si configura come un lunghissimo soliloquio costruito su dispositivi iterativi è modulato su una successione di formule interrogative ed esclamative utilizzate come strumenti per accettare metabolizzare e poi superare il dolore la donna abbandonata in preda a tanto duolo e a tante pene verso 7 rivolge una serie di domande retoriche all'amante e lo fa seguendo però un procedimento retorico di climax ascendente inizialmente è incredula non vuole credere che davvero a Minta l'ha abbandonata dove mi lasci oddio priva so leggendo dalla slide dove mi lasci oddio priva di ogni restore di ogni mio bene in preda a tanto duolo e a tante pene a un certo punto più avanti nel testo però è costretta ad accettare il tanto duolo e le tante pene e se inizialmente i versi sono avvolti da un tono dolce rappresentato anche dall'uso insistito della vocale A e della vocale O successivamente i toni diventano più sprezzanti e soprattutto richiamano un continuo e costante desiderio di morte il momento di passaggio è segnato dai versi presenti nella seconda parte della slide no no mio ben mia vita torna torna e rimira il mio crudo martire il mio fiero tormento il mio spietato e disperato danno il mio penoso e moribondo affanno Tirrenia allora si chiede se rivedrà il vago volto la bionda chioma la bella bocca del suo amato il viso dell'amato viene scomposto come nella lirica d'amore tradizionale basti pensare a tutti i dettagli del viso di Laura disseminati nel canzoniere di Vedrarca che hanno la funzione di rendere visibile la bellezza del proprio amato per poi Tirrenia accettare disperatamente la sua condizione nel momento in cui accetta la sua condizione e quindi il dolore per l'abbandono è così forte Tirrenia invoca le furie queste furie però non sono le classiche furie della tradizione mitologica ma sono delle furie cortesime delle furie pietose definite quindi attraverso una serie di ossimori perché queste furie possono condurla alla morte e quindi liberarla dal dolore provocato da un uomo mentito e spergiuro perfido e crudo truffatore in grado ora anche per la costruzione di questa lirica e soprattutto del personaggio di Tirrenia Costa attinge a un repertorio codificato e non soltanto al repertorio prodotto da Marino ma dall'intera tradizione letteraria italiana ma ci focalizziamo su Marino partendo proprio dalla struttura metrica dell'idillio perché l'idillio segue le indicazioni che Marino dà nella sua sampogna la selva di endecasillabi e settenari sono 114 versi è divisa in strutture ternarie presenta delle simmetrie retorico-stilistiche tra i vari punti del testo gruppi di rime baciate e interne e soprattutto un uso insistito di assonanze e consonanze che rendono il testo decisamente musicale e cantabile ed è infatti è dalla raccolta degli idilli di Marino che Costa recupera il topos tradizionale della donna abbandonata parentesi è un topos che proprio in questi decenni ha una grandissima fortuna sulle scene cantate non solo italiane ma europee e soprattutto ad Arianna protagonista del terzo idillio favoloso della Sampogna se guardate i versi presenti in questo slide vi rendete conto immediatamente come le stesse formule che abbiamo visto nei testi e le stesse strutture proprio sintagmatiche presenti nei versi di Costa siano tratti dai versi di Marino però Costa può attingere anche ad altri testi del stile non napoletano e un esempio sono le ottave poco famose tratte dalla terza parte della lira intitolate Capricci affidate alla voce di Lidia abbandonata e poi le più note almeno si spera ottave del dodicesimo canto dell'Adone dedicate invece al lamento di Falsirena faccio anche un'altra parentesi apro anche un'altra parentesi Margherita Costa è protagonista in questi anni di una scommessa lei e un'altra famosa cantante dell'epoca cecca del Padule si contengono il ruolo di Falsirena nella catena d'amore di Ottavio Tronzarelli si tratta di un libretto tratto proprio dai versi che qui vedete riportati cioè ottave 129 292 del dodicesimo canto tutti gli elementi tematici testuali e retorici di tutti e tre i canti marignani vengono ripresi e disseminati non soltanto tra i versi che velocemente abbiamo visto della Tirenia abbandonata da Minta ma in tutta la produzione di stampo e legge di Margherita Costa e soprattutto Costa recupera da Marino alcuni elementi retorici come il soliloquio la formulazione costante di domande retoriche la descrizione ossimorica della passione amorosa e l'invocazione finale alla morte come momento di liberazione e infatti questi testi pur rispondendo a dei registri diversi come ho detto in apertura il primo ha un registro comico burlesco il secondo ha un registro invece elegiaco presentano non solo un riuso di Marino un riuso che per noi lettori moderni può sembrare abbastanza complesso non sono immediati i riferimenti ai testi di Marino ma erano immediati questi riferimenti al lettore coevo che immediatamente riconosceva tra le trame dei versi di Costa i versi del maestro ma soprattutto questi testi ed è qui la novità presentata da Costa hanno uno spiccato carattere teatrale soprattutto perché presentano una complessiva enfatizzazione della funzione epatica ed è su questo punto appunto scusate mi gioco di parole che Costa mostra i suoi elementi di unicità infatti giocando con la sensibilità del lettore coevo che come dicevo poc'anzi riconosce immediatamente l'ipotesto Costa propone un riuso intelligente del modello lo emula desidera eguagliarlo e superarlo però non vuole superarlo sulla sua stessa sfera di competenza la lirica ma lo fa attraverso il canto pensate per la pagina scritta e come strumento di autopromozione le liriche raccolte in questi due testi ma anche nella terza raccolta lirica che abbiamo visto nella prima slide lo stipo sono costruite su temi e moduli propri della poesia per musica per la messa in scena sotto forma di ari o di recitativi ma anche per dimostrare la virtuosità della loro interprete la poetessa virtuosa infatti dà voce a un io lirico teatralizzato in volumi che nella loro struttura ripetitiva uniforme macrotestuale sembrano delle pagine di un personale canovaccio di un repertorio lirico e musicale da usare all'occorrenza per dimostrare il proprio valore sì di cantante e di interprete ma anche di autrice e vi ringrazio 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 Mareca Di Maro per questa questa relazione che ci ha mostrato appunto come Margherita Costa si inserisca in una tradizione in una maniera molto originale cioè curvando quella tradizione e come vedete c'è un elemento che torna nelle relazioni che stiamo svolgendo quest'oggi appunto leggere queste autrice nei contesti stretti e ampi diciamo come curva questa tradizione verso quelli che sono i suoi talenti i suoi interessi e quello che è anche il suo pubblico perché questo è l'altro elemento molto importante il dialogo con il pubblico con le aspettative del pubblico e quindi in questo senso quindi una cantante una donna di teatro che diventa autrice e ancora una volta però nel riuso qui lo vediamo ma l'abbiamo detto anche nelle precedenti relazioni diventa anche interprete di quella tradizione in funzione proprio delle aspettative del pubblico bene quindi ringrazio molto Marika per questo e cedo ora la parola a Florin Danardi ci parlerà di Fidalma Parteni nel ruolo di Petrolilla Paolini Massimi in Arcadia Florin Danardi è professoressa presso di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata non sto a dire tutte le cariche che ha sommato e che eventualmente detiene perché faremmo notte però lasciatemi dire che è direttrice del Clici del centro di lingua e cultura italiana dell'Ateneo si è occupata molto di internazionalizzazione d'altra parte lei stessa ha insegnato presso la New York University e la Quincy University in Canada e prima ovviamente in America negli Stati Uniti e si è occupata essenzialmente di letteratura generale dalle origini da Dante fino alla stretta contemporaneità ma in modo particolare ha studiato le teorie e le fenomenologie del comico tra 5 e 600 fino poi al 900 e anche lei come abbiamo visto è un filone molto interessante molto importante si è occupata del rapporto tra letteratura e altre arti prego Florinda grazie Sebastiano grazie a Marika Di Maro a Valeria Merola per questa bellissima occasione di essere qui davanti a un pubblico fresco e attento a cose che a volte è difficile portare appunto in accademia in questo senso al quale è importante anche essere molto attenti di solito quando mi trovo a parlare di Petronilla Paolini Massimi in contesti non solo di giovani studiosi ma anche più ampi come per molti autori e autrici che abbiamo sentito oggi è necessario fare una premessa su chi fossero perché per la maggior parte delle volte non sono conosciuti e mi chiedevo invece se essendo Petronilla Paolini Massimi figlia di questa terra anzi ancora Tagliacozzo e Magliano e Magliano De Marzi se ne contendono i Natali invece non fosse un nome a voi conosciuto quindi è poco accademico parto anch'io con una domanda l'avete mai sentita nominare? E questo già pone un punto di riflessione allora in realtà proprio per presentarvela brevemente e anzi tutto il discorso che vi farò lo imposterò in questo modo tutta la storia di Petronilla Paolini Massimi si potrebbe racchiudere riassumere proprio nei nomi che ha assunto e che cosa hanno significato per lei cioè Paolini Massimi ma anche Urania Tolerante Fidalma Bartelide e soprattutto Petronilla ripercorrendo la storia e il peso che ciascuno di questi nomi contiene si potrà conoscere la forza di una poetessa che ha sfogato come dice lei stessa le sue pene in canto Paolini è il nome del padre Francesco Antonio Paolini nato appunto a Magliano dei Marsi e signore dei feudi di Ortona e Carrito era un uomo del gran contestabile ambasciatore straordinario della corona di Spagna presso la corte pontificia ossia Lorenzo Onofrio Colonna sposato per dirvi il potere di quest'uomo con il famoso non con il famoso magari con la nipote del famoso cardinale Mazzarino ci sarebbe da dire Maria Mancini è un uomo estremamente influente addirittura uno dei primi biografi lo definisce un personaggio tra i più arroganti e prepotenti della Roma barocca il padre di Petronilla padrone di un feudo appunto bramato da Colonna nel 1667 viene ucciso probabilmente proprio per volontà di Don Lorenzo Colonna e per mano di quella nobile famiglia che invece l'avrebbe dovuto proteggere all'epoca Petronilla aveva 4 anni e sua madre Silvia Argoli discendente di un'altra importante antica famiglia della zona attendeva un'altra figlia o figlio che ha perso per quel dolore la morte del padre alla morte del padre Petronilla diviene l'unica erede delle sue tante ricchezze il feudo non poteva essere espropriato senza conseguenze politiche e diplomatiche così lì dove la mano avida e assassina non arrivò giunse quella del matrimonio Petronilla Paolini all'età di 5 anni viene promessa sposa al francese Francesco Massimi e acquista appunto il valore di questo cognome era capitano d'armi appunto per il cardinale Mazzarino e uomo quindi del cugino Clemente cioè il cardinale Altieri che poi è diventato appunto il papa Clemente X tralascio altamente tutte le vicende di una bambina che si ritrova nelle mani dell'assassino del padre perché era cosa anche abbastanza nota delle vicende della madre che ha tentato il più possibile di ritardare un matrimonio di un papa che ha dato addirittura la sua dispensa perché anche all'epoca non ci si poteva sposare sotto i 12 anni ma Paolina scusatemi Petronilla Paolini Massimi si sposa appunto all'età di 10 anni con un uomo che ha ben 28 anni più di lei cresce quindi in una duplice prigione quella fisica di Castel Sant'Angelo perché lui era vicecastellano e quella psicologica di essere la moglie del nemico del padre se non proprio l'assassino diretto e quindi la scrittura diviene la sua unica salvezza canzoni sonetti componimenti di vario genere diventano lo specchio delle sue sofferenze è l'unico modo per blandire le pene come si può leggere da una delle prime canzoni autobiografiche spieghi le chiome irate sotto titolo illustre in chiuso orrore varcai le più bellore e passeggiai sulle funeste scene pur baciai le catene e in rigida prigion sfogai col canto qual dolente o signore l'angosce e il pianto sarà proprio la scrittura e le arti saranno proprio queste ad essere il suo unico conforto tanto che il marito che non approva questa sua dedizione ai cari divertimenti insisterà ogni volta per punirla sottraendogli massimi massimi però diventa anche il nome dei suoi figli perché lei diventa madre la prima volta soltanto a 16 anni di angelo di domenico e di emilio e la prigione si fa più atroce perché i suoi figli la trattengono all'idea di una fuga disperata una fuga che può però a un certo punto non tardare a venire dopo 12 anni di patimenti e privazioni di maltrattamenti e vessazioni nel 1690 fugge da Castel Sant'Angelo liberandosi dal marito ma rinunciando ai figli stanca al fin ma non vinta dei sacri chiostri io ritornai nel seno ed ivi men crudele sperai fortuna ma quella calma finita quali nube talora debbi il baleno cangia sembianze e le tempeste ad una il prezzo infatti altissimo il prezzo che deve pagare intendo dire è altissimo perché arriva al punto che il marito non solo non le permette di vedere i figli ma quando nel 1694 il secondo genito muore non le permette nemmeno di andare al funerale quindi Petronilla si consacra consacra il suo destino a il suo nome ovviamente nome nomen Petronilla come dice lei perché il nome è il cor porto di pietra ma non nel senso dell'insensibilità ma in quello più alto della forza dello spirito che sa affrontare le avversità nel modello ovviamente più alto quello della Vergine Maria che riesce a stare a resistere di fronte alla morte del figlio come poi rivela un famoso discorso che farà in Accademia appunto sullo Stabat Mater come sottolinea Bianca di Matteo in Arcadia al Femminile perché poi vediamo esattamente in quale consesso vogliamo collocare appunto Fidalma Partenide quando diventerà Fidalma Partenide la poetessa arricchisce il termine pietra con il significato di una forza creatrice di una perfezione primordiale di un simbolo dello Stato in modo precedente alla creazione così rifiuta il cognome dei massimi si ritira di nuovo in convento con la madre e si perde o meglio ancora si salva nella scrittura ancora in una delle rime è significativo la consapevolezza del potere salvifico che ha la scrittura per lei fatto teatro un foglio al mio pensiero senza staccare il pie passeggio il mondo senza avarcare il pelago profondo sento degli urti ognor l'orgoglio altero è dal convento che comincia anzi continua perché poi gli era stato particolarmente ostacolato un lungo periodo di studio e di scrittura sarà proprio il crescimbeni che lavorerà nell'accademia dell'arcadia a ricordare proprio nelle vite illustri degli arcali esattamente come si applicò ella seriamente agli studi della lingua latina toscana franzese e spagnola apprese con profitto la filosofia e con la lettura dei libri scelti perfezionò il buon gusto nella poesia italiana qui mi ricollego a quello che ha detto la collega sulle poetesse traduttrici le traduttrici che si fanno poetesse perché lo studio della lingua era fatto appositamente per poter leggere in lingua originale anche gli altri componimenti e questo è il momento in cui le accademie con sessi accademici si accorgono di lei mi collego anche a quello che ha detto Maria non è certo la prima donna che entra in accademia un esempio illustre secolo prima era proprio un'attrice stimata dal marino che è Isabella Andreini no a cui marino o anche l'asca insomma hanno dedicato vari sonetti e fu anche una grandissima eccezione e per per correre i tempi e per il fatto che fosse un'attrice che all'epoca erano considerate come dire peggio delle prostitute ovviamente però è interessante vedere come appunto Petronilla Paolini Massimi a un certo punto alla luce della sua produzione poetica ahimè con uno stampo fortemente a proposito di generi autobiografico dovuto alle bene che ha subito comincia ad avere le porte aperte di tantissime accademie cioè prima di essere Fidalma Partenide in Arcadia è Urania tollerante proprio nell'anno in cui in realtà le muore il figlio dove conosce nell'Accademia degli infecondi scusate sempre di Roma dove conosce già Gian Vincenzo Gravina Benedetto Leoni Giovan Battista Felice Zappi cioè già quelle personalità che poi ritroverà in Arcadia ma è proprio questa ampia produzione poetica che le permetterà di essere ad esempio l'unica donna accolta nell'Accademia degli Insensati di Perugia con il nome significativo di Imprigionata poi sarà la volta degli Oscuri di Lucca degli Immaturi di Pergola degli Intronati di Siena degli Invigoriti di Foligno dei Ricomposti degli Anghiari degli Accademici dell'On. del Letterario di Forlì insomma tutta Italia non solo quindi il consesso romano come poteva essere invece tipico dell'epoca la accoglie fino ad arrivare nel momento in cui il marito morirà si sentirà libera di tornare proprio nella Marsica a fare del proprio salotto una vera e propria Accademia ma è l'Arcadia l'essere in Arcadia che le permette non solo di sviluppare e dare sfogo alla propria creatività ma definire una identità poetica dedicandosi a anche un genere in particolare che è quello della canzone eroica anzi si potrebbe dire che segue il filone dell'Arcadia eroica l'occasione di entrare in Arcadia le viene data proprio dal Crescimbeni perché era interessato a pubblicare un sonetto che appunto pugnar ben spesso entro il mio petto io sento nella sua antologia la famosa antologia della poesia italiana l'istoria della volgare poesia e però dovendo pubblicare solo componimenti di pastori e pastorelle ovviamente aveva bisogno che lei entrasse in Arcadia ci sono delle bellissime testimonianze che però rimandiamo agli atti magari a altre occasioni della sua entrata ma va ricordato ecco questo sì anche per rigore scientifico e contestualizzazione che a differenza di tante altre accademie l'Arcadia è la prima istituzione che in realtà demolisce resistenza culturale di secoli ammettendo le donne nel proprio consesto da statuto quindi in qualche modo con un'inclusione programmatica che non era appunto cosa da poco motivo per il quale ecco è stata incitata anche sempre dalla collega un'altra Arcade le donne in Arcadia sono parecchie il sonetto che le permette di entrare in accademia ha che forse merita però non ho preso il tempo scusate vado che forse merita di essere letto non viene soltanto inserito nell'antologia di Il Crescimbeni ma viene poi ripreso dal muratore della perfetta poesia italiana e da tante altre collezioni che verranno dopo fino a una nuova ondata di attenzione verso le donne che riparte con Benedetto Croce pensiamo anche all'Isabella di Morra o altre grandi poetesse che in realtà per lungo tempo dimenticate pugnar ben spesso entro il mio petto io sento bella speranza e rio timore insieme e vorria l'uno eterno il mio tormento l'altra già spento il duol che il cuor mi preme temi quell'ermi dice e se io contesto tosto spera gridar so della speme ma se sperare io vo' solo un momento nella stessa speranza il mio cor teme mie sventure per l'uno escono in campo mia costanza per l'altra e fan battaglia aspra così ch'indarno io cerco scampo dir non so già chi mai di lor prevaglia so ben corgelo ai lassa e ora vampo è sempre un rio pensier mange e travaglia il conflitto interiore appunto tra timore e speranza è piuttosto palese e in realtà già in questo compenimento si sente quello che dicevo anche prima cioè il filone che in realtà lei prende all'interno dell'arcadia anche perché il maestro a cui fa riferimento se il crescimbeni è stato colui che l'ha accolta è in realtà Alessandro Guidi quell'Alessandro Guidi che in qualche modo aveva definito la maniera grande eroica di raccontare di narrare non a caso la predilezione del metro della canzone oltre che dei temi eroici però la cosa bella è che stando poi dentro l'arcadia non costesso comunque di uomini che per quanto accoglienti comunque caratterizzavano con le loro linee appunto l'ambiente culturale la pastorella Fidalma in qualche modo si ribella cioè in qualche modo non vuole essere rinchiusa nella dinamica o nella figura proprio della pastorella perché Fidalma come dice di nuovo la di Matteo non solo rifiutò il tema amoroso tipico dell'arcadia ma si tenne sempre un po' discosta dai toni leggeri bucolici infiorati propri dell'arcadia romana mostra di aderire non solo al pensiero anti-barocco ma anche anti-edonistico della poesia perché secondo lei i versi poetici dovevano essere un momento di ricerca e di espressione del vero nemmeno il tema autobiografico è un tema che ha in comune con l'arcadia soprattutto perché inconciliabile con il travestimento utopico accademico che era appunto tipico dell'accademia e dell'arcadia in particolare che voleva essere tutta la metafora di un altro mondo Fidalma si riconosce nell'eroe si riconosce nel martire nella martire della sorte e porta la sua esperienza biografica a farsi spunto di riflessione però di una condizione femminile più generale persino a diventare universale proprio attraverso il potere salvifico della scrittura il suo primo biografo il Corsegnani anche lui in realtà un arcade riconobbe la consapevolezza cito della funzione e della potenzialità riparatrice della scrittura poetica e la seppe in ritenere le lacrime facilissime al suo sesso sottolineerei comunque il modo in cui ci si riferisce alla poetessa è brava perché seppe in ritenere le lacrime facilissime al suo sesso e un dolcissimo conforto alle sue pene con la poesia trovare in realtà Patronilla si spinge molto più avanti nella definizione data dal biografo perché usa proprio la strategia della parola per rivendicare l'io della donna e per rivendicare la possibilità di esprimere i sentimenti in una società autoritaria androcentrica senza però ricorrere e questo è importante al banale lamento non lo fa con il compiangere se stessa quello che è interessante e mi avvio a concludere è che sarà proprio con il sostegno dei compagni pastori a cui del resto bisogna anche dare il merito di aver riconosciuto questa parità non solo nell'accoglienza a darle sempre di più lo stimolo di scrittura tante tante sono le corrispondenze non solo epistolari ma proprio nelle tenzoni con i sonetti quindi il rispondersi tramite la forma poetica con dei grandi letterati del tempo e le danno la forza di ribellarsi anche a quello che le stava accadendo nella vita perché lo abbiamo detto l'abbiamo messa ora un po' da parte l'impossibilità di vedere i figli e anzi vedere crescere i figli nell'odio della madre perché venivano cresciuti dal padre un po' a sua immagine e somiglianza la spingono ad avere il coraggio come dire difficile anche per l'epoca di intentare processo al marito ci sono dei carteggi ma non solo una documentazione di questo processo che ci dice come abbia dovuto realmente combattere e come era in realtà sostenuta e consigliata dagli uomini al suo fianco quindi in particolar modo alcuni dei pastori ovviamente però questo processo lo perderà non solo non avrà indietro la dote o le terre che erano state usurpate ma non avrà la possibilità di vedere i figli l'unica cosa che le verrà concessa è di rimanersene nel nel convento da cui poteva uscire soltanto con il permesso del marito capite bene quindi che ancora e quindi a maggior ragione quel Petronilla perché il nome il cor porto di pietra sia sempre più sentito da lei altra annotazione pensate che per riconquistare morto il marito una sorta di rapporto con i figli dovette rinunciare a qualunque tipo di eredità per far capire ai figli che non aveva intenzione di riprendersi le proprietà e fortunatamente con l'ultimo genito che fece un po' da apripista anche per l'altro questo le riuscì dunque Petronilla una madre una donna che nella scrittura trova la sua identità e in tutta la produzione poetica non cessa mai di rivendicare la forza dell'animo femminile di gridare sostenuta anche dagli amici poeti che la incitavano a scrivere appunto quanto quello che poi è stato visto come una sorta di femminismo antelittera la donna dovesse trovare il suo posto in società la scrittura anzi l'amore per la scrittura l'ha salvata da un destino di sofferenza e l'ha consacrata alla memoria dei secoli futuri facendola uscire da un'epoca non ancora pronta a un simile grido di consapevolezza con il quale vi lascio su su venite a stuolo con battaglie ineguali empie sventure siete vili o sciagure mentre a schiere assalite un petto solo disunitevi sprezzo unite non vi teme il sesso mio saprò pugnare anch'io per vincere il rigor da verse stelle ancor che donne imbelle del cimento crudel spero la palma che se debole ho il sesso è forte l'alma grazie grazie Florinda e qui incontriamo uno di quei temi caratteristici della scrittura femminile cioè lo sfogo la letteratura come strumento di liberazione almeno interiore che però come vedete anche in questo caso non è diciamo banalmente riprodotto ma che ancora una volta viene ad incidere su contesti specifici particolari e in questo caso ancora una volta su contesti culturali letterari di particolare importanza come quelli appunto dell'Arcadia che danno un sapore particolare una coloritura specifica a questo tipo di scrittura e naturalmente anche in questa circostanza come vedete al centro i testi perché è esattamente il lavoro che va fatto il lavoro di recupero anzitutto di testi che vanno riletti alla luce di queste categorie che stiamo cercando di mettere in evidenza bene credo che abbiamo anche qui il tempo per un dibattito per qualche domanda il ghiaccio l'abbiamo rotto prima quindi il tempo per vabbè oddio allora vediamo un po' mi sembra assolutamente proporzionato prima Marica poi tu quindi è giusto prego però il microfono se no da casa non ti sentono più che altro più che altro mi sembra insomma anche da questa bellissima relazione di Florinda e soprattutto anche da quest'ultima citazione con cui ci hai lasciato che in fondo appunto quello diceva Sebastiano la consapevolezza anche della forza d'animo e a dispetto della debolezza del sesso sia poi anche un punto di contatto trattante di queste autrici ecco il quadro così complesso che hai costruito di Petronilla ci fa capire appunto quanto questo sia vero anche in lei come scrittrice come forza letteraria contro invece quella che è diciamo la posizione marginale anche rispetto alla società al genere eccetera e è piuttosto interessante perché Margherita Costa dice le stesse cose ironicamente Margherita Costa ha come una sorta di firma in tutte le sue raccolte Marika prima ha citato il capitolo in terza rima in cui lei dice che questi versi quello è un topos ovviamente del non dare importanza alla sua opera però appunto dice con questi versi questi fogli sono delle carte con cui incartare le frittate e gioca su questa cosa ma poi in realtà in tutti in tutte le raccolte poetiche torna il tema dello scherzo e del fatto che in fondo fare poesia non è una cosa per donne e che le donne adesso torneranno a dedicarsi alle attività loro che sono il filare Marika dimostrato in un saggio molto bello come poi questa immagine abbia anche tante valenze che non sia soltanto proprio l'immagine muliebre appunto delle attività femminili eccetera però c'è sempre questa cosa la poesia è uno scherzo ci abbiamo giocato ma in realtà io non voglio dedicarmi alla letteratura perché le donne appunto devono filare devono chiudersi in casa anche nello stipo se non sbaglio c'è un'altra poesia in cui parla delle attività familiari della famiglia e quindi di lasciar perdere la poesia però in entrambe si nota invece una consapevolezza molto forte anche della loro posizione diciamo intellettuale marginale quindi in questo senso uno spunto in più per leggere questi testi anche non nel senso femminista perché non credo che sia quello lo spirito però proprio di anche una sorta di sì identità riconoscimento di identità femminile che si trova in tantissime di queste autrici voglio ricollegarmi a quello che dice quello che ha detto appunto adesso Valeria perché tutte e due avete disegnato diciamo i percorsi di due donne che sì sono marginali nella nostra storia letteraria ma non lo erano nei loro contesti allora il punto il punto è proprio questo dove avviene la rottura rispetto alla storicizzazione del canone ecco per intenderci parto da questa ultima cosa anche dall'accumulazione quando tu devi scegliere tra cento cose è un conto quando devi scegliere tra mille è un altro ma è anche poi la contestualizzazione lo stesso Marino e stiamo parlando di Marino oggi è difficilissimo da studiare capire interpretare e all'epoca era mandata a memoria come quasi Dante alla sua quindi sono proprio riferimenti contestuali di ogni singola epoca che erano nel tessuto quotidiano di un letterato medio no rispetto alla condizione femminile in particolare al ruolo dell'importanza che dicevate voi di studiare i testi non solo Petronilla Polini Massimi ha un'enorme consapevolezza della sua scrittura ma se volessimo contestualizzarlo dirlo con le parole di donne oggi non avrebbe voluto la quota rosa ma la parità dei diritti che è cosa diversa di avere una situazione agevolata rispetto a voglio essere semplicemente riconosciuta per quello che sono e questo le è valsa tutta la stima perché e voi immaginate lo faceva dal convento quindi era tutto carteggio non era spostamenti non erano situazioni sulla fine sarebbero stati i salotti questo le ha permesso proprio di dialogare a distanza senza nemmeno il filtro diciamo così riprendo l'esempio dell'Andreini della bellezza perché l'Andreini viene ricordata come la donna in scena bellissima non era così bella Petronilla però comunque indipendentemente era solo una penna una carta e quello che diceva con le sue parole quindi ha conquistato diciamo così dal Crescimbeni al Guidi a tutti gli altri proprio per il suo valore poetico e è interessante quello che dicevo prima cioè questi scambi di sonetti o questi scambi di epistolari fanno vedere proprio una relazione effettivamente stranamente paritaria al di là ovviamente dei sottesi e della contestualizzazione dell'epoca tra uomo donna pastore e pastorella in Arcadia con tutte le contraddizioni del contesto storico cioè le relazioni con il mondo maschile che lei ha lo dimostrano il marito temeva la sua intelligenza temeva la sua alma forte al punto che ogni volta che la sentiva parlare con il maestro era anche lei una cantante adorava comporre cantare ovviamente soltanto nel con sesso così familiare le toglieva gli strumenti cioè lei ricorda nella sua vita perché lei ha scritto ovviamente la sua vita come il suo modo per punirla era arrivato prima le toglie il maestro di musica poi le toglie proprio gli strumenti poi le toglie persino i libri carta penna e caramaio cioè le toglie tutto quello che sa che le permette anche soltanto nel chiuso della stanza di evadere di emanciparsi di dimostrarsi superiore intellettualmente a un uomo dall'altra parte però fortunatamente trova poi e anche lì di nuovo la differenza non la fanno perdonatemi se entro poi nell'attualità le battaglie femministe che noi possiamo fare noi donne noi in siamo noi contro no non siamo noi contro cioè vinciamo se siamo noi con e quindi questo è quello che con Sebastiano Valerio che stanno nel gruppo di genere con gli studiosi esatto con gli studiosi o con comunque in una società appunto in cui si è con per superare lei trovò nell'Arcadia chi appunto fu con lei allora prima di rispondere alla domanda che era da dove parte l'esclusione la storia di gestazione dal canone giusto? volevo soltanto far notare una cosa che se mentre Margherita usa a suo vantaggio la tradizione letteraria coeva Petronilla ha cappa da quella prima dicevi che lei insiste sul modello della canzone eroica e la preferisce al contesto arcadico pastorale amoroso quindi non vuole essere leggera cioè il tuo consenso l'ha ospitata ma ha delle cose da dire ben più importanti e quindi non mi interessa tanto l'amore dopo perché non ce l'hanno avuto probabilmente e non sa nemmeno che cos'è nemmeno paterno nemmeno l'avete sentito la vita quindi è proprio un'esperienza umana invece è invece nel caso di Margherita l'amore è fondamentale e risponderei alla tua domanda proprio in questo con l'amore perché in pratica fino al 700 Margherita Costa ha un riconoscimento soprattutto dalla Bergalli eccola dalla Bergalli perché l'hai no la Bergalli la professoressa da mazzi che domani persone piccole alla Bergalli soprattutto perché viene inserita poi all'interno delle composizioni delle più illustri rimatrici il problema il problema poi diciamo il gap della tradizione è opera sia di croce come al solito spesso accade così ma soprattutto dei pochi critici che si sono occupati di Margherita Costa penso a i due più diciamo i due più cospicui studi su Margherita Costa che risalgono uno al 1922 24 di Dante Bianchi che è il primo studio su tutta la produzione di Costa in cui alla fine delle numerose pagine dedicate alla poetessa dice magari potevo anche risparmiarmi questa fatica perché questi testi non sono chissà quanto belli e interessanti ma soprattutto è Capucci che dedica una voce del dizionario biografico degli italiani a Costa e la dedica non in quanto poetessa virtuosa tra parentesi prima che è nominato Mazzarino Margherita Costa probabilmente era l'amante di Mazzarino e le dedica questa voce proprio perché la sua figura è una figura di interesse sociologico e sociale e non letterario quindi nel caso di Costa è stata la pochissima critica disoccupata di lei a leggendo i testi in modo non propriamente corretto perché sono dei testi costruiti su più livelli semantici leggendo i testi ad escluderla totalmente da un presunto canone ma anche a non porla in dialogo con il contesto in cui si muove chiedo se ci sono altri interventi c'è il professor Minervini sempre al microfono perché sennò da casa non la sentono non la vedono comunque è questo un peccato però non è un intervento ma solo una suggestione quando hai parlato tu Florinda di Alessandro Guidi Alessandro Guidi è noto anche per essere stato diciamo aver attraversato un po' dell'Alcadia successivamente ed essere stato il primo fautore della canzone libera con le canzoni a selva che poi trovano nel 1828 con a Silvia la prima definizione della canzone libera diciamo ufficialmente per la professione di italiano e sarebbe interessante studiare come dire all'atere abbiamo detto oggi delle donne delle opere e della ricezione delle opere e delle donne nella letteratura anche la parte con diciamo stilistica metrica e magari vederla anche in relazione poi ai temi e alle figure perché non a caso le prime canzoni libere dei canti visano del canatesi sono all'Italia e sopra il monumento di Dante però quella in cui diciamo Leopardi raggiunge l'acme della politura prosodica libera sembra un ossimoro vabbè è proprio quella è a Silvia cioè nel ricordo nella ricreazione di un'immagine femminile fortunatamente si è cominciato a fare ecco nel 2017 è uscita un'interessante monografia proprio su Petronilla per il momento l'unica effettivamente un po' più sistematica dopo tutta l'edizione di tutte le opere ovviamente ma quella è altra faccenda che è proprio quella di Matteo del 2017 e dedica un intero capitolo a una sorta di lettura comparatistica e nel ritrovare gli stilemi temi addirittura dei vezzi tra le liriche di Alessandro Guidi e quelle di Petronilla Paolini Massimi quindi fortunatamente questa attenzione ai testi comincia ad esserci andando ben oltre ecco anche questo vissuto che io ho dovuto fare per forza di cose perché altrimenti non la si capisce vanno comunque contestualizzate però purtroppo si rischia invece molto spesso di fermarsi a questo all'aneddoto e non andare a quello adesso si sta proprio in questo senso leggendo e rileggendo le opere anche nei confronti delle produzioni non solo di Guidi ma anche ecco il suo distacco da Guidi quello che ho semplicemente accennato ma a un certo punto lei vuole un'autonomia e dice no non mi basta non mi basta nemmeno più l'Arcadia eroica o quel modello però si sta facendo altri interventi dunque non vedo altre domande in arrivo quindi credo che possiamo chiudere qui la nostra serata ringrazio tutti i relatori ringrazio tutti i presenti e ci rivediamo domani mattina alle 9.30 sempre in quest'aula arrivederci e un saluto a chi è collegato da casa buongiorno a tutti direi che possiamo cominciare ben trovati diamo inizio alla terza sessione di questo convegno con Valeria Merola che tutti voi conoscete insegna qua letteratura italiana e i suoi principali interessi di ricerca riguardano la scrittura per il teatro il tema morale della letteratura la poesia barocca e i rapporti tra letteratura e medicina oggi ci parla del teatro di Valeria Miani la ringrazio le scelgo subito la parola no va bene così allora sì buongiorno dunque io vi parlo di una drammaturga vissuta poetessa vissuta tra 500 e 600 che si chiama Valeria Miani ed è conosciuta soprattutto in quanto prima autrice di una tragedia la prima donna che scrive una tragedia in realtà è autrice anche di diverse poesie era in relazione con i principali intellettuali delle accademie di Padova vive tra 500 e 600 fa parte anche della accademia quella che poi diventerà l'accademia gallileiana ed è un personaggio piuttosto interessante perché appunto si misura con diversi generi cioè abbiamo testimonianza del fatto che si sia misurata con diversi generi letterari anche se al momento leggiamo soltanto alcune rime pochissime pochissime due o tre raccolte in alcune antologie una pastorale l'amorosa speranza e una tragedia che si chiama Celinda la pastorale esce alla fine del 500 mentre invece la tragedia del 1611 è piuttosto interessante come personaggio perché anche dal punto di vista biografico era figlia di un avvocato studia probabilmente si sa pochissime nella sua vita però probabilmente ha condotto degli studi in convento si sposa tardissimo si sposa a 30 anni che per l'epoca era appunto un'età molto matura e pare abbia avuto cinque figli anche se si sospetta che forse qualcuno di questi figli non fosse figlio suo ma fosse figlio di un precedente matrimonio del marito il marito del marito non si sa praticamente nulla si sa che si chiama Domenico Negri Domenico Negri è anche il nome di un attore che recita a Mantova all'inizio del 600 per cui non si sa bene se il marito si è stato attore o se invece più probabile fosse il nome di un altro figlio vista che appunto in quegli anni lei era anche abbastanza grande e poteva essere stato un figlio appunto attore quello che è certo è l'interesse per il teatro di questa di questa autrice mentre il misurarsi con la pastorale rientra in un discorso diciamo più codificato più anche in uso nell'epoca fine 500 c'è il precedente sicuramente di Isabella Andreini della Mirtilla ma c'è anche il precedente della Flori di Maddalena Campiglia ai quali sicuramente Valeria Miani fa riferimento quando scrive L'Amorosa Speranza per la tragedia invece si tratta veramente di una novità perché appunto non ci sono ancora non esistono studi su tragedie precedenti alla sua siamo appunto all'inizio del 600 e perché in questa tragedia questo è il vero motivo di interesse la drammaturga non si rifà a quelle che sono state osservate anche in altri ambiti a quei tipi di scrittura femminile che consistono fondamentalmente nell'adattamento dei modelli maschili ma invece cerca proprio di creare un modello di letteratura femminile e lo fa soprattutto lavorando sul femminile che è un femminile stratificato soprattutto attraverso in questa tragedia soprattutto attraverso un continuo uso dei giochi di ruolo degli scambi di identità dei travestimenti e delle sovrapposizioni la tragedia è sicuramente un genere ai margini della scrittura delle donne nella pastorale abbiamo detto appunto ci sono diverse esperienze precedenti e ovviamente nella lirica sappiamo bene che nel 500 le donne riescono a trovare uno spazio piuttosto importante quella di Valerianiani quindi può essere considerata veramente una sperimentazione che va anche al di là della tradizione petrarchista la proposta è quella di una tragedia in cui appunto la voce femminile di Valerianiani si definisce in modo piuttosto particolare inserendosi appunto nella storia del genere teatrale della tragedia e lo fa sia dialogando con quelle che sono le teorie del tragico cinquecentesche quindi con grande consapevolezza della trattatistica intorno al tragico ma anche con una forte presenza di tematiche amorose di situazioni derivate dal teatro senecano per esempio la tragedia è aperta da un prologo affidata a un fantasma e soprattutto con un sicuro dialogo con la tragedia di Giraldi Cinzio che in quegli anni ovviamente stava avendo successo soprattutto in area padana ma un altro punto di riferimento di cui ora su cui ora non ho tempo di soffermarmi però un continuo dialogo con quelli che sono i trattati di istituzio delle donne che nel cinquecento ovviamente stavano iniziando a circolare parallelamente sicuramente c'è un confronto con quello che accade nell'ambito del genere epico cioè la formulazione di un personaggio femminile che non è ricalcato sul maschile ma che invece come si diceva anche ieri consiste nel mostrare che cosa succede alle donne quando sono messe nelle stesse condizioni degli uomini quindi di educazione e anche di opportunità questo confronto con questo tipo di riflessioni coeve è molto presente nella tragedia di Valeria Amiani tragedia che annulla completamente il modello maschile per invece affermare appunto la femminilità sua e dei suoi personaggi è una tragedia complessa una trama complessa una trama anche in alcuni casi tragicomica anzi molto spesso tragicomica che letteralmente mescola gli elementi del tragico di cui abbiamo appena parlato con tantissimi riferimenti alla commedia coeva in particolare un riferimento ovvio abbastanza forte alla calandria e ai giochi di ruolo tra maschile e femminele tra vestimenti ovviamente della coppia di gemelli Lidio e Santilla la tragedia vede comparire la protagonista in scena soltanto nella terza scena del primo atto Cielinda quando entra in scena per confidare il proprio dramma d'amore alla nutrice secondo una tradizione classica entra in scena per raccontare il suo dramma d'amore è innamorata di Autilio principe di Persia che si è innamorato di lei per fama e che dalla Persia è venuto nella Lidia dove appunto Cielinda è la principessa figlia del recubo per amarla a rinarrarci l'antefatto è il prologo affidato all'ombra di Eusinia Eusinia ricalca il classico modello dell'amante sedotta e abbandonata sedotta e abbandonata appunto da Autilio entra in scena per vendicarsi contro Autilio Crudel che per appunto amore di Cielinda è arrivato in Lidia in molle gonna che cosa vuol dire Autilio si è innamorato per fama di Cielinda è venuto ad amarla ed è entrato nella corte appunto di Lidia vestito da donna vestito da donna per poter essere l'ancella di Cielinda e quindi arriva appunto fingendosi donna nelle vesti di Licinia è evidente quindi fin dall'inizio la centralità del tema del travestimento del cambio di identità ma è fin dall'inizio sottolineato come il cambio di identità si è affidato all'abito cioè è la gonna a definire il maschile e il femminile e la gonna rimane la chiave di volta diciamo con cui poter interpretare la tragedia perché in questa tragedia c'è un continuo mettersi la gonna e togliersi la gonna letteralmente il personaggio di Autilio che diventa Lucinia è un insiste appunto anche sulla funzione simbolica di questo travestimento e la drammaturga sottolinea dal punto di vista appunto quasi scenografico anche la funzione simbolica di questo continuo mettere e togliere gli abiti e letteralmente anche perché proprio in questa terza scena del primo atto in cui Celinda racconta il proprio amore per Autilio e racconta di come i due si sono innamorati tutto inizia da una scena di seduzione scena di seduzione che non avviene tra Autilio e Celinda ma tra Lucinia e Celinda Celinda che appunto ha scelto Lucinia come sua ancella di fatto si innamora della sua ancella nelle vesti femminili e si lascia sedurre da Lucinia in quanto donna e un amplissimo spazio è dato proprio alla passione tra queste due donne ed è molto importante il tema ovviamente non è nuovo anche Campiglia aveva affrontato il tema dell'amore omeorotico precedentemente ma qui la cosa interessante è che le due donne sono sul stesso piano e che quindi anche il corteggiamento avviene senza che ci sia una passività di Celinda ma che anzi diventa quasi il personaggio intraprendente lo svelamento dell'identità ovviamente è legato all'eliminazione della veste quindi all'eliminazione della maschera e i due personaggi sono stati sullo stesso piano fino a questo punto fino a che Celinda si accorge che Lucinia non è pari a lei perché non ha il seno ed è questo il motivo dell'identificazione da questo momento in poi dalla veste oltre alla veste si somma il corpo l'attenzione il femminile si costruisce sul corpo il corpo in particolare di Celinda la scena prosegue con il racconto questo ovviamente è tutto affidato al racconto è tutto fuori dalla scena però il racconto continua con la perdita della virginità di Celinda e di conseguenza anche la promessa matrimoniale che è diciamo l'antefatto fondamentale da cui parte la tragedia insiste Celinda sul fatto che da donzella è divenuta donna nel frattempo però il padre di Autilio qui inizia la tragicommedia il padre di Autilio a cui è sparito il figlio inizia a cercare il figlio capisce che il figlio sta in Lidia e quindi dichiara guerra alla Lidia e Autilio in modo assolutamente inverosimile decide di combattere per la Lidia contro suo padre per dimostrare in questo modo al recubo e alla sua amata Celinda la propria fedeltà e inizia quindi una lunghissima scena sulla tragicomica in cui però si somma a questo elemento tragicomico di questo figlio che va a combattere contro il padre l'elemento ancora più non tragicomico comico del recubo che in realtà è innamorato di Lucinia cioè dell'ancella nelle vesti femminili e quindi inizia tutta una cosa appunto da commedia anche degli errori in cui Lucinia rispinge le avanze del recubo e si dice non all'altezza anche del matrimonio con un re e quindi questo dà via ovviamente a tutta una serie di cui c'è tutta una serie di schermaglie amorose tra l'ancella e il sovrano che appunto la rimprovera anche di aver rinunciato a una proposta matrimoniale piuttosto importante lei invece risponde io voglio combattere non mi voglio sposare ma voglio combattere per il per il recubo voglio combattere per la lidia e quindi propone di travestirsi da uomo e andare a combattere in guerra il re ovviamente inizialmente ride di questa cosa poi alla fine comprendendo il vero interesse della presunta donna a andare in battaglia le dà le armi le dà anche la veste e però le dice prima ti devi scontrare con un mio cavaliere per vedere se sei in grado di andare in battaglia questo ovviamente è interessante perché è un ulteriore travestimento un ulteriore gioco tra maschile e femminile che sicuramente allude ancora una volta alla calandria ma che soprattutto fa anche un po' il verso diciamo al modello epico di Clorinda di Bradamante e quindi il tema topico appunto della guerriera travestita viene quasi in qualche maniera ridicolizzato ma a rendere ancora più tragicomico il momento il cavaliere con il quale Lucinia travestita da guerriero si deve scontrare sarà Attamante che è il promesso sposo di Celinda e quindi Autilio nelle vesti di Lucinia mascherata da guerriero si scontra di fatto con il promesso sposo di Lucinia di Celinda capite bene che la cosa è piuttosto comica e che gioca però appunto sulla sovrapposizione ancora una volta e sul fraintendimento e sulla confusione dei piani è importante anche la dissacrazione di quelli che sono i modelli appunto letterari in particolare quello il tema topico appunto della guerriera che si traveste da qui il personaggio di Lucinia Utilio perde completamente consistenza scenica perché invece l'attenzione torna su Celinda torna su Celinda in particolare su quanto Celinda rappresenti lo stato rappresenti appunto la principessa quindi rappresenti la Lidia e sul suo corpo corpo dello stato corpo di donna corpo di donna che nel frattempo si scopre essere corpo di madre perché Celinda è incinta e anche qui piuttosto interessante anche confrontandolo quelle che sono le riflessioni sulla maternità dell'epoca eccetera è sia la consapevolezza della maternità ma anche la consapevolezza della maternità come peso peso fisico perché la pancia pesa ma anche peso perché le impedisce di andare in guerra con l'amato perché le impedisce di fare quello che lei vorrebbe fare nel frattempo ovviamente il re di Persia ferisce a morte involontariamente suo figlio nel frattempo ovviamente ci avviamo verso il finale tragico che sarà anche un tragico horroroso il tragico horroroso è anticipato dal lamento di Celinda che però è un lamento di tutt'altro genere rispetto al lamento che avevamo visto dell'ombra nella prima scena del prologo perché qui ha ancora una volta il raddoppiamento sia un lamento raddoppio il lamento iniziale ma è di tutt'altro stile dicevo prima che Eusinia ricorda piuttosto un modello alla donna Elvira un modello all'amante abbandonata e rabbiosa al contrario Celinda è appunto la femminilità pronta ad andare in guerra che percepisce la maternità come quasi un peso e Celinda piange il corpo ferito dell'amante scomponendolo quindi soffermandosi sui singoli particolari anatomici di questo corpo e mostrando il cambiamento di senso il cambiamento di funzione di queste parti del corpo il corpo amato diventa il corpo che sta per morire ed è il corpo che dà dolore che dà sofferenza e insiste su come lo stesso corpo che ha dato piacere può dare ora invece dolore può dare sofferenza ma soprattutto insiste sulla frantumazione di questo corpo non è frantumato ma lei ce lo mostra fatto a pezzi in questo lamento che quindi nulla ha di melodrammatico nulla ha di anche troppo sentimentale ma anzi è un lamento da tragedia c'è l'anticipazione di quello che sarà appunto il finale il finale perché questa frantumazione soltanto simbolica di fatto anticipa la frantumazione letterale del corpo di Kubo il re Kubo è stato ucciso in battaglia e viene portato sulla scena il corpo fatto a pezzi elemento chiaramente senecano elemento chiaramente giraldiano e qui ovviamente anche il padre riconosce il figlio e quindi si rende conto tragicamente di aver dato la morte al figlio che stava cercando e l'agnezione coincide con la morte la tragedia secondo la teoria del tragico sta funzionando perfettamente in scena Celinda si suicida unendo appunto il suo sangue a quello dell'amato morte in scena che però di fatto è il vero momento tragico è stato chiaramente è quello anticipato soltanto nel lamento della protagonista che anche morendo in scena conferma la sua centralità e qui mi fermo grazie grazie Valeria stamattina cominciamo con un'autrice che si mostra abile ad attraversare tutti i generi teatrali in un unico testo grazie rimandiamo dopo alla fine della sessione alle domande diamo la parola adesso a Valeria Tavazzi Valeria Tavazzi è professore associato di letteratura italiana alla sapienza di Roma fa parte dell'Equipe LabEx della Sorbonne e del progetto di ricerca archivio del teatro pregoldoniano dell'università di Santiago di Compostela è nel consiglio scientifico della società italiana di studi sul diciottesimo secolo e fa parte delle redazioni delle riviste studi e testi italiani e diciottesimo secolo i suoi studi inizialmente dedicati al romanzo italiano del Settecento si sono poi estesi al teatro con particolare riferimento a Goldoni alla poesia per musica e alla letteratura risorgimentale oggi ci parla di Luisa Bergalli il ruolo del poeta sul teatro e la figura di Luisa Bergalli grazie grazie Marica e grazie alle organizzatrici mi scuso se ho poca voce farò del mio meglio allora il ritratto di Luisa Bergalli che ci viene restituito da Carlo Gozzi è impietoso Carlo Gozzi era il cognato di Luisa Bergalli perché lei aveva sposato il fratello Gasparo sia Carlo che Gasparo lo dico per gli studenti sono importanti letterati del Settecento Veneziano masso da acrimonia personale il cognato ha collaborato insieme al figlio di lei Francesco a tramandare un profilo sfavorevole della letterata veneziana che si è accresciuto nel tempo di sfumature negative così Tomaseone fa la seconda piaga del marito dopo la madre ma la mani la definisce tabaccosa pastorella e non mancano interpreti che si compiacciano di criticarne la fisionomia sgradevole o gli interessi letterari coltivati invece di curare i figli e la casa dopo alcuni tentativi di riabilitazione condotti a inizio Novecento le ricerche degli ultimi anni le hanno finalmente reso giustizia come spesso accade in simili casi però la necessità di contrastare precedenti pregiudizi ha spinto a evidenziare gli aspetti della sua attività che sono stati maggiormente calunniati nello specifico il suo ruolo di donna dedito alle lettere e a trascurarne altri ugualmente meritevoli di approfondimento se ripercorriamo la bibliografia della Bergalli ci rendiamo conto che vi assumono un ruolo preponderante le vicende personali lo status sociale del padre lei era una borghese l'amicizia con le sorelle Carriera le pittrici fra cui Rosalba Carriera la pittrice la battuta d'arresto che le nozze con Gasparugozzi imprimono alla sua attività poetica non si capisce se per via della cura dei cinque figli o perché lei diventi la ghostwriter del marito negli interventi recenti sulla Bergalli insomma spesso la biografia sovrasta l'analisi dei testi e li lascia sullo sfondo rispetto al peso che vi acquista la loro autrice anche quando poi finalmente si pubblicano e ci si occupa delle opere c'è una selezione una forte selezione per cui vengono scelte quelle che si prestano a una lettura in chiave militante in chiave di recupero anche del femminile per esempio vengono molto quotati e molto studiati i componimenti poetici delle più illustri rimatrici di ogni secolo una raccolta un'antologia che la Bergalli assembla nel 1726 o ancora sono citati e antologizzati i versi in cui lei dichiara di non avere propensione al matrimonio e rivendica l'ingegno femminile in particolare c'è un bel sonetto alle sorelle carriera proprio su questo su quello che le donne possono fare a ben vedere le opere di Luisa Bergalli si prestano a una simile operazione perché lei stessa si impegna per recuperare dignità alle donne e soprattutto tende a personalizzare questa sua battaglia basti pensare che oltre a inserire dei componimenti suoi nella raccolta delle rimatrici che assembla la accompagna anche con un suo ritratto mi pare però che tutto questo abbia finito per ostacolare una equilibrata riconsiderazione della sua opera e per mettere in ombra altre forse più urgenti questioni che la riguardano per esempio non abbiamo una sua raccolta di rime lei non l'ha pubblicata e nessuno le ha mai raccolte o ancora non è stata fatta chiarezza sul suo corpus teatrale lei e il marito Gasparo prendono nel 1746 in gestione un importante teatro di Venezia che è il teatro Sant'Angelo fanno rappresentare traduzioni e testi originali ancora su alcuni testi non si sa se siano dell'uno o dell'altra per esempio e queste cose sono state poco studiate a fronte invece di un recupero critico di molti interventi sulla Bergalli la grande incertezza che c'è ancora intorno al corpus letterario della Bergalli a fronte di una discreta fortuna critica mi pare un indizio della tendenza a vedere nel passato solo ciò che è capace di attrarre immediatamente la nostra attenzione tanto più se offre rassicuranti e pionieristici caratteri anticipatori lo conferma anche il caso della sua commedia più importante del suo testo più studiato e pubblicato Le avventure del poeta a cui limito il mio intervento odierno si tratta di una commedia uscita pubblicata nel 1730 in cui si narrano le vicende di Orazio letterato di umile condizione costretto a destreggiarsi fra la necessità di sbarcare il lunario e quella di compiacere una coppia di nobili protettori Valerio e Bianca che sono ben intenzionati ma del tutto inconsapevoli delle sue reali esigenze accanto al poeta agiscono il padre Ridolfo il sensale di legno prospero che commissionando ad Orazio dei Sonetti è sempre disposto a pagarli e quindi apporta un temporaneo sollievo ai problemi della famiglia e soprattutto la sorella del poeta Camilla giovane attiva e arguta che mantiene la famiglia mantiene i cari confezionando cuffie intorno a questi personaggi si dipana un plot statico in cui la stessa situazione si ripete più volte con piccole varianti Orazio ottiene un compenso per la sua attività da prospero ma è subito costretto ad adoperare il denaro per corrispondere a qualche esigenza nata dalle iniziative dei nobili protettori così uno scudo se ne va per l'iscrizione all'Arcadia un ducato per pagare un'edizione di lusso e così via solo nel finale quando ormai è in procinto di partire per la Lorena dove lo attende un incarico remunerato Orazio mette il conte e la contessa di fronte ai loro errori si tratta dunque di una commedia che descrive con chiarezza gli stenti di chi vuole vivere di letteratura e si trova per necessità a trasformare la poesia in un mestiere ora le interpretazioni di questo testo si sono concentrate su due aspetti il ruolo di Camilla in cui si dice che la Bergalli si dovesse identificare oltre come e più di quanto non facesse nel poeta nel fratello in Orazio e il fatto che traspaia secondo gli interpreti in questa commedia una sorta di lotta di classe una specie di battaglia diciamo fra nobili e borghesi soprattutto su questo secondo punto è stato messo in luce come la commedia sia in grado di precorrere i tempi e sono stati chiamati in causa il teatro di Goldoni letto appunto in questa chiave un po' marxista diciamo e invece è addirittura la satira di Parini addirittura a inizio novecento una studiosa Carlotta Egleta Sistro che ha scritto una monografia sulla Bergalli ha detto che in questa commedia sembra aspirare un precoce vento di fronda quindi un'interpretazione insomma tutta proiettata sul futuro ora di solito è fuorviante è spesso diciamo quasi sempre fuorviante interpretare il passato in chiave teleologica sulla base di quello che viene dopo e oltretutto è anche molto pericoloso applicare alla società veneziana che si regge su una mobilità sociale che altrove non c'è e che è retta da una classe dirigente di stampo mercantile imprenditoriale modelli che invece sono validi altrove proviamo dunque a tornare al testo per capire se il modo in cui viene trattato l'equilibrio fra lavoro letterario ed esigenze economiche giustifichi queste interpretazioni che ne sono state date particolarmente significativo è il momento in cui il conte Valerio coglie Prospero in atto di pagare Orazio per un sonetto e redarguisce tutti i presenti vi leggo un breve passaggio Valerio dice come e voi soffrite queste cose Orazio e le soffrite voi signor Ridolfo e la signora Camilla ripigliatevi indietro il vostro ducato uom da bene ed imparate a conoscere cosa sia trattar coi poeti di tal sorta il mercante pensa di aver proposto un prezzo troppo basso e rilancia aggiungendo altro denaro e quello gli risponde se fossero mille non sarà mai vero che le prenda sono poeti venali sono guastamestieri quei che fan simili cose la intendete e aggiunge Orazio non si avvilisce a prendere denaro il problema sollevato da Valerio riguarda l'inopportunità di attribuire un prezzo alla poesia alla letteratura in considerazione del ruolo che il poeta dovrebbe ricoprire nella società un ruolo che intende in modo altissimo svincolato dalla realtà materiale come ozium che non può essere confuso con nessun tipo di negozium e quindi non può essere soggetto a uno scambio di denaro un secondo passaggio interessante è invece lo troviamo poco dopo nella commedia quando il mercante il padre del poeta Ridolfo cerca di ottenere in cambio di nuovo da Prospero il ducato cioè cerca di recuperare quello che gli era stato restituito dal conte questa volta è Prospero a parlare non ne dite più vostro è il ducato ed avevate ragione di pretenderlo che là non mi poteva entrare nel capo di non pagare chi si affatica come dice quel vostro conte sia il mestiere poi di poeta o di facchino che obbligo hanno i poeti con la gente per servirli senza un gran mercè e poi aggiunge Ridolfo gli risponde che in realtà il problema è che si ritiene che sia un'arte talmente nobile che non c'è corrispettivo adeguato e quello dice è sempre meglio pagare molto che non pagare niente cioè sarebbe più ovvio allora non pagare qualcuno che fa un mestiere più umile del poeta da questo ulteriore scambio appare chiaro come affronteggiarsi nella commedia non siano tanto due classi sociali quanto piuttosto due antitetiche visioni della poesia una di stampo tradizionale basata su valori ideali e l'altra che vede quello letterario come un mestiere alla stregua di tutti gli altri Valerio si muove in osseguo alla prima e sostiene il suo pupillo con azioni che non hanno immediate ricatude pratiche ma si valutano in termini di prestigio aderenze gloria futura l'altro invece lo paga con l'unica moneta che conosce e lo aiuta al punto da guadagnarsi la precedenza come mecenate cioè quando è prospero che commissiona qualcosa Orazio si affretta a fare prima quello che gli ha proposto lui è chiaro nella commedia che fra i due atteggiamenti Orazio Camilla e la Bergalli con loro preferiscono il secondo è troppo odiosa nel testo l'indifferenza dei nobili e i richiami della povertà per non far risaltare in chiave positiva il pur modesto mercante tuttavia il ricorso alla sua visione delle cose non sembra costituire per Orazio la soluzione ideale se è vero infatti che si lamenta di non poter vivere onestamente del proprio lavoro è anche vero che non è affatto contento di avere in una persona ignorante e umile come prospero il suo più prodigo più degno mecenate anche prospero del resto come i nobili impiega il talento di Orazio con richieste ridicole gli uni propongono gli ordinano un sonetto su un aborto e lui lo ordina sui buchi alle orecchie fatti a un cagnolino quindi tanto per farvi capire insomma i temi che vengono ritenuti oggetto di poesia l'origine borghese del personaggio più che tradursi in elogio di una specifica classe sociale mi pare abbia allora un'altra funzione quella di introdurre una persona ancora non condizionata dai pregiudizi colti sulla necessità di separare poesie e denaro ne è chiaro indizio uno scambio fra Orazio e Camilla quando la ragazza ironicamente dice sono impazziti che vi pagano un sonetto il poeta risponde dirò fumi ordinato per un caponovell di magazzino e similgente del volgo non è obbligata a sapere che i poeti hanno a morire di fame il discrimine è dunque fra chi ha una visione delle cose tramandata dalla tradizione e chi invece accostandosi per la prima volta alla poesia non condivide ancora queste convenzioni ed equipare il lavoro poetico a qualunque altro lavoro il problema dell'educazione è anche alla base del fraintendimento che c'è in tutta la commedia fra i nobili e Orazio perché i nobili non riescono a capire non capiscono che se lui non offre niente quando li riceve in casa se non accende nemmeno i lumi è per povertà è per indigenza pensano che sia perché non conosce le buone maniere perché non si sa comportare e quindi c'è proprio un problema anche di comunicazione sul tema dell'educazione che uno ha ricevuto è il finale a sancire in maniera inequivocabile la posizione della Bergalli in merito una volta deciso di partire per la Lorena Orazio getta la maschera e dichiara di aver gradito le attenzioni del conte ma aggiunge ma queste sono cose che suppongono in me buon tempo e dinari ma diavolo non vede signor conte che se ognuno paga come la fa sono io da mettere tra coloro che il pan vanno accattando e le vergogna che un suo pari come ve ne son tanti quando si discorre di spendere qualche cosa per le lettere risponda francamente io per me non mi diletto vergogna il conte è colpito da queste parole ammette il proprio torto e dichiara che se dovesse ricominciare a favorire Orazio lo farebbe diversamente a lui dunque rimproverato e reso edotto dalla commedia e non a Prospero che resta sullo sfondo va la speranza di un miglioramento della condizione dei poeti ora la questione è chiaramente di lunga data anche se di solito è trattata in altri generi è trattata per esempio abbondantemente nella satira tant'è che anche nella commedia vengono evocati Aretino e Franco dicendo che dovrebbero essere nuovamente redivivi dovrebbero scrivere contro gli indenni mecenati quindi non è particolarmente originale però acquista un rilievo nel contesto culturale della Venezia del Settecento la Bergalli appartiene a una generazione di scrittori che prova a vivere del proprio mestiere e che soprattutto a Venezia sfrutta la vivacità dell'editoria e del mercato spettacolare per trasformare la letteratura in un'attività redditizia nel farlo però quest'oro si scontrano con gli affanni di un lavoro ancora poco normato non del tutto riconosciuto con l'assenza di una corte perché Venezia è una repubblica non c'è una corte che quantomeno limiti i rischi e con una spietata concorrenza lo sa bene il più anziano Domenico Lalli che in quegli stessi anni descrive a Zeno le sventure dei poeti drammatici lo sa ancora Carlo Goldoni poco dopo al servizio dei teatri grimani alla luce di questi fatti e del ruolo che i poeti coinvolti in questo faticoso percorso auspicano possa essere svolto dai mecenati si dovrebbe allora considerare questa commedia non in rapporto alla questione femminile valorizzando eccessivamente Camilla o a una anacronistica lotta di classe prima di concludere mi pare opportuno tornare su ciò da cui siamo partiti ovvero il severo giudizio sulla Bergalli lasciato da Carlo Gozzi in effetti più volte a discapito della cognata nelle memorie inutili traspare un tono paternalistico forse venato di misoginia Luisa vi è definita femmina di fervida e volante immaginazione sovrana di un regno tisico ed è immortalata quando dopo la morte del suocero tenta goffamente di confortarne i figli affermando che fosse il più bel morto del mondo per l'evidente astio che la impronta l'autobiografia Goziana è stata ridimensionata come fonte ed è stato scritto che in realtà l'unica colpa di Luisa fosse di non discendere da una famiglia blasonata e di coltivare pur essendo donna la passione per le lettere sebbene nelle memorie inutili l'ostilità nei suoi confronti sia palpabile io non condivido la fretta con cui viene attribuita al sesso o alla propensione letteraria mi sembra l'andare in tutt'altra direzione sia la circostanza che vede il giovane Carlo esordire come poeta sottolegita della cognata in raccolte d'occasione da lei promosse sia le note riemerse da poco dalle carte del fondo Gozzi che la Bergalli redige sulla prima commedia di Carlo le gare teatrali per darle in lettura la sua commedia Carlo doveva infatti riconoscerle un'indiscussa autorità tanto più che nel passaggio del testo dalla versione in prosa sottoposta al giudizio della cognata alla versificazione del primo atto tutti i suggerimenti della donna vengono accolti inoltre le stesse memorie inutili affrontano la questione del biasimo nei confronti della famiglia in modo molto articolato Carlo vi espone con chiarezza gli sbagli del padre unico erede di una ricca fortuna colpevole di averla dissipata con lusso una gestione improduttiva e soprattutto con un matrimonio avvenuto troppo presto e benedetto da troppi figli non stupisce quindi che la prima colpa di Gasparo del fratello agli occhi di Carlo sia di avere trasformato la sua infatuazione giovanile per la pastorella Irminda Irminda parteni del nome Arcade della Bergalli in legale matrimonio per di più coronato da ben 5 altre bocche da sfamare così Carlo parla dei suoi nipoti li definisce bocche da sfamare aggravare sulla cognata e quindi prima di tutto il fatto di essere sua cognata non di essere una donna né tantomeno una poetessa e se in quest'ottica il fattore economico conta qualcosa è perché Luisa non ha portato una ricca dote non perché sia nata a Borghese la situazione si complica quando in assenza di un capofamiglia per il colpo apoplettico toccato al padre e per l'ignavia del primo genito mentre Carlo è in Dalmazia Luisa tenta di amministrare il dissestato patrimonio familiare vendendo i beni rimasti al suo ritorno Carlo contrasta questa linea propone di affittare le proprietà invece di venderle e suggerisce di recuperare a suon di cause quello che è stato loro sottratto i capitoli delle memorie inutili sulle sue lunghe battaglie legali le filse di conti in calce ai suoi manoscritti il suo stesso rifiuto del matrimonio e di una discendenza legittima sono le prove del compito di risanamento economico che Carlo si assume in seno alla sua famiglia di origine stando così le cose non ha senso esprimere giudizi su quanto ci viene detto possiamo però notare che a corollario di questo arroccamento nella sua posizione di nobile decaduto che cerca di salvare il salvabile amministrando al meglio quello che resta Carlo rifiuta per tutta la vita l'idea di convertire la sua passione letteraria in denaro dona le sue opere teatrali alla compagna Sacchi disprezza Goldoni e Chiari in quanto poeti prezzolati considera in generale la riduzione mercantile della letteratura un pervertimento della sua nobile missione rispetto all'apertura della cognata nei confronti dello sfruttamento commerciale del talento poetico Carlo porta insomma all'ennesima potenza l'idea di letteratura sottesa all'atteggiamento del conte Valerio chissà se a motivare la sua franca antipadia per Luisa non ci fosse anche la lettura delle avventure del poeta che oltretutto nella dedica indirizzata a suo padre ben prima che diventasse il suocero dell'autrice menzionava in coda l'ammirabile talento degli ancora giovinetti figlioli e che è quindi la prima labilissima menzione letteraria di Carlo e Gasparo Gozzi grazie Valeria anche con la relazione di Valeria Tavazzi ritorniamo al discorso che facevamo ieri la centralità del testo su tutto c'è un cambio del programma la collega dell'iso non può partecipare abbiamo anticipato il collega Francesco Saverio Minervini che è professore associato di letteratura italiana presso il dipartimento degli studi umanistici dell'università di Foggia e precedentemente presso l'università di Bari dove ha insegnato letteratura italiana storia del teatro italiano in metrica e stilistica i suoi interessi di ricerca si rivolgono a problemi e questioni della tradizione da Dante al teatro ottonomicentesco alla ricezione di Petrarca nel settecento e alla fortuna degli autori classici della critica rinascimentale studioso del seicento una delle sue ultime pubblicazioni è il volume La bottega del Fassario pubblicato per Cesati oggi ci parla di Clarice Tartufari e la riscrittura dell'Ortis grazie grazie a te per tutto scrivere e parlare di donne letterarie e letterate è impegno delicato e talvolta gravoso basti pensare alla afasia delle donne dei poeti mute e immote contemplando muse visive della tradizione letteraria delle origini e non sarà vana la menzione dell'afasia stessa dei poeti sicché parlare non l'uomo pote nell'estatica è verbalmente irriproducibile visione di questa che ven conion la mira e per cui ogni lingua deven tremando muta che affliggeva l'animo la mente e lo stilo di Guido e Dante pur accanto alla vitalistica baldanzosità intellettuale e amorosa delle iperloquaci donne di Boccaccio questo uditorio selezionato coglierà il senso della prospettiva distorta e ominile che ha distillato nella letteratura e nella critica la visione delle femmine persino nella loro identificazione anagrafica essendo sino a pochi decenni fa riconosciute come mogli nel cognome del marito segno evidente il sintomo profondo di una vocazione maschilista sia auspica ormai sopita in questo accidente è in corsa anche la memoria letteraria della scrittrice romana Clarice o alla francese Clarice Goussy definitivamente nota col cognome del marito il marchigiano di Osimo Vincenzo Tartufari un impiegato di banca senza nulla a togliere l'impiegato di banca nata a Roma nel 1868 dopo il matrimonio si stabilisce a Bagnore sul Montamiata nel Grossetano sino alla morte intervenuta nel 1933 ampia e variegata appare la sua produzione letteraria in grado di spaziare dalla poesia di sapore tardo e romantico degli esordi diversi nuovi 1894 e vespri di maggio 1896 alla scrittura drammaturgica con una decina di opere che coprono circa i primi tre illustri del XX secolo disegno decisamente diverso e in grado di oltrepassare l'impegnativo steccato del direttantismo letterario la narrativa della Tartufari con i titoli Roveto Ardente 1901 il Miracolo soprattutto 1909 all'uscita del labirinto del XIV di Portovia del 33 riesce a toccare l'attenzione dei critici contemporanei tra cui Luigi Capuana Giovanni Boine e soprattutto Benedetto Croce che trovava la sua narrativa capace addirittura di sorpassare quella di Grazia Deletta segnalando cito il temperamento assai più robusto sguardo più ampio e un sentire più vigoroso e compatto Croce sottolineava gli esiti stilistici improntati a un naturalismo di ispirazione provinciale intarsiato nelle descrizioni di ambienti paesaggi e figure femminili equamente distanti dalle strutture analogiche simbolistico decadenti imperanti agli inizi del secolo come anche dalle precedenti costruzioni narrative del verismo in favore di un approfondimento psicologico che rimane la marca peculiare della penna della scrittrice la critica contemporanea già riconosceva il ruolo di continuatori e continuatrici della tradizione novellistica e romanzesca italiana di fine ottocento e primo novecento verga fugazzava ed annunzio degli scrittori del cosiddetto terzo periodo 1905 1922 secondo la distinzione degli ultimi provinciali decadenti nella guida bibliografica ai narratori di Luigi Russo del 1923 e poi ripresa da Giulio Ferroni per Sellerio nel 1987 se il gusto della catalogazione di Russo oltrepassava la sterile etichetta di scrittrici da salotto o di narrativa di genere o rosa ad esse si è guardato anche per una ricostruzione della donna italiana del ventennio alternativa alla tradizionale aggettivazione di madre donna diremo cristiana Giorgia nel caso della Tartufari l'ambientazione dei romanzi Eterne Leggi dell'11 Rete d'Acciaio 19 Il Dio Nero del 21 si ricollega in particolare al clinamen della narrativa di ispirazione veristico-verghiana con un vago sapore pascoliano in cui l'umanità descritta si lascia attrarre dalla pallida esistenza della vita di provincia in adessione a quel provincialismo definito da Russo come un moto veristico che si ebbe in Italia e che continuò nel suo sviluppo fuori del termine cronologico della fugace moda letteraria e attivo ancora in certe ispirazioni degli stessi decadenti nel sentimento nostalgico della loro terra nativa sul modello diciamo così adriatico d'Annunziano e ancora nel senso della vita primitiva e naturale tale afflato rivive nel romanzo Il Miracolo pubblicato a Roma nel 9 testo giudicato da Russo il suo libro artisticamente più puro e in cui l'Umbria serena sulla matrice di un regionalismo invece verghiano carducciano suggeriva ad Adriano Tilger il critico temuto da Pirandello per la famosa antinomia tra vita e forma nei sei personaggi in cerca d'autore nel 1921 tenete a mente quest'opera e questa data che aveva curato la ristampa stock a Roma nel 1925 di descrivere il piccolo paese secondo Croce il vero protagonista del romanzo non tanto come uno spazio fisico quanto piuttosto come una dimensione psicologica lontana dalla concursa vita del tempo nostro raccolte in una loro esistenza di memoria e di sogno del tempo che fu nel vigore narrativo della tartufa reagiscono come in vero per Matilde Serau Carolina Invernizio prima e più tardi Ida Baccini e Ada Negri aspettative di rinnovamento di femminismo extracanonico destinati ad essere per lo più vanificati dalla realtà patriarcale delle cose a tali auspici la scrittrice affidava gli esordi con una narrativa neoscolastica di stampo di amicisiano della maestra stampata a Roma per Perrino nel 1887 la novella di questa maestrina senza penna rossa offre un disincantato spaccato della dominante società borghese in cui come per l'algarottiano e settecentesco Newtonianesimo per le dame o la risagrante ironia pariniana del giorno la fatica intellettuale nel caso di specie di insegnamento scolastico era scarsamente riconosciuta sino alla parossistica dichiarazione che la virtù è nelle donne una colpa che difficilmente gli uomini perdonano la formazione culturale è dunque proposta quale strumento di denuncia insieme di emancipazione sociale e affrancamento familiare dalle discriminazioni di genere eppure Clarisse Cousy è utile menzonearla col suo cognome e da nubile sembra infine piegarsi a quanto pragmaticamente alla morale costituita in continuità col pudico diaframma della onomastica allogena di una esordiente deletta che surrogava l'identificazione patronimica con esotiche bizzarrie o la barriera pseudonimica di Matilde Serrao contro la salvaguardia del lumignolo o ancora l'esotica identificazione eponima di Annie Vivanti in Georges Merion da Merion artista di Caffè Concerto la cifra compositiva della Tartufari votata ad una disillusa analisi dei costumi sociali contemporanei in particolare della condizione femminile accompagna la scrittura narrativa con un nutrito gruppo di una decina di opere teatrali tra commedie e drammi che coprono il primo quindicennio come abbiamo detto fra i titoli della drammaturgia della Tartufari però i repertori biobibliografici ma il motivo è ancora da comprendere sembrano avere tralasciato una commedia pubblicata sulla nuova antologia nel volume 236 del 1924 in tre uscite distinte corrispondenti ai tre atti il titolo è Ultime lettere di Jacopo Ortis esattamente come il romanzo epistolare di Ugo Foscolo e a parte la canonica tripartizione e l'ambientazione sociale aristocratico borghese cioè non eroico mitologica e insieme con una lieta ma sofferta di composizione finale di ordine psicologico affettivo il testo ha ben poco di comico la commedia è dedicata a Vera Vergani definì una 1895 e 1989 definita piccola sorella era la moglie del capitano il comandante Leonardo Pescarolo un'attrice milanese ben nota sulle scene primo novecentesche apprezzata anche da Gramsci nei suoi esordi teatrali e critico teatrale che entra appena 17 nella compagnia dialettale di Ferruccio Benini curatore non a caso della riduzione dialettale di un'altra commedia della Tartufari L'eroe del 1904 che in questa forma ebbe anche un discreto successo europeo la Vergani sarà quindi protagonista al teatro Olimpia di Milano nell'invasore di anni vivanti per poi interpretare il piacere la figlia la figlia di Iorio rappresentata al teatro argentina nell'aprile del 22 con i complimenti di D'Annunzio e soprattutto le piespi randelliane Enrico IV e sei personaggi in cerca d'autore al teatro Valle nella prima del 9 maggio 1921 in cui la donna interpreterà il ruolo della figliastra la commedia è ambientata nel 1821 dei primi due atti e nel 1831 del terzo un periodo come dichiara l'autrice stessa quando cessato il fragore dell'epopea napoleonica l'Europa stanca e stordita cadeva in un letargo momentaneo sotto l'afa opprimente della Santa Alleanza la scelta del contesto storico-politico appare vincolata ad una certa sovrapponibilità forse sul modello dell'anonimo manoscritto manzoniano con la realtà contemporanea uscita dal primo conflitto mondiale ma sotto l'inquieta ala della pace punitiva e ontologicamente bellifera come disse Eric Hobsbawm l'agile apparato dei personaggi si muove all'interno di un singolare sistema familiare dell'aristocrazia umbro-marchigiano-romagnola si tratta delle famiglie dei conti urbinati Cassi e dei marchesi ravennati Cavalli che intendono sottoscrivere il contratto di nozze rispettivamente per la figlia Teresa il nome indicativo e il giovane Giuseppe la pièce si intende riscattare le vicende tragiche e forse anche in tal senso la scelta della commedia sembra garantire un barlume di credibilità dell'Ortis originale in cui Jacopo ama Teresa promessa sposa a Odovardo la quale obbedendo alla volontà del padre racchiude nella scena del bacio la scena di estasi e risperazione dopo quel bacio io sono fatto divino dirà Jacopo la massima intensità del loro sentimento e da cui Ortis si distacca iniziando il suo erabondo esilio che finirà con il proposito di suicidio la tartufari attua una modificazione il padre di Teresa il conte Giulio Cassi ha una corrispondenza di amorosi sensi con la figlia ne coglie cioè a differenza della madre le inquietudini e le incertezze e soprattutto le rivela la segreta trama noziale che la mamma sta ordendo ecco la contessa Luigia Cassi nata antici e di fatto imparentata con Giacomo Leopardi per parte di madre Adelaide antici appare una severa custode dei miei beni compreso quello del mio decoro ma in buona sostanza è autrice di un esercizio di potere un esempio al femminile di dispotismo dei tiranni e del loro ineluttabile destino di sconfitta e questa è la sorte dei tiranni grandi e piccoli tengono aperti cento occhi a vigilare e frattanto nell'ombra mille ne stanno aperti per deludere un dispotismo che bada solo al decoro della casa alla rispettabilità del buon nome della famiglia e all'accrescimento delle sostanze immateriali ma che è in verità un lussuoso panneggio esteriore che cela neanche tanto il vuoto degli affetti su Eco Manzoniana la contessa confessa al parroco Don Gilberto che nessuna regola monastica potrebbe imporle altrettanta austerità di vita in cui il silenzio è spesso una difesa la traccia manzoniana dell'eterna dicotomia tra oppressi e oppressori emerge inoltre nella struttura narratologica della commedia si ripete infatti lo schema della imposizione ad una fanciulla di nozze non volute Lucia diciamo tentata nei desideri di Don Rodrivo o la monatazione imposta a Mariana De Leiva la Gertrude poi concupita da Giampaolo a subire tale imposizione Teresa il cui animo invece è attratto dal giovane Pietro portamento nobile e riccio l'indomini se qualcuno ha presente il ritratto famoso di Foscolo è molto simile figlio del cavaliere Antonio Perticari pochissimo parente dirà del genero di Vincenzo Monti Giulio Perticari acceso da pensieri e sensi fervorosi ha in sé la tormentata esaltazione dei figli del secolo in cui non è difficile scorgere il portato del foscoliano spirito guerriere e il cavaliere Perticari la cui fede fu per gran tempo quella del vicario Savoillardo ovvero Rousseau e l'illuminismo si comporta come fanno i bravi manzoniani intimando a Don Gilberto di non celebrare il matrimonio le leggi dell'umanità glielo impongono glielo comanda il suo ministero sarà Pietro il figlio del conte Perticari ad incarnare i canoni dell'impetuoso foscolismo politico e sentimentale il proposito di suicidio affidato ad una drammatica epistola deciso di rompere nelle sale per uccidersi sotto gli occhi della contessina il pugnale elemento di distinzione dal giovane Werther l'amore contrastato e impossibile per una donna promessa ad altri l'attiva partecipazione ai trambusti politici che ne sconquassano l'animo odio te le ingiustizie umane e la stessa luce del sole se nel primo atto la tartufa risembra indugiare sulla creazione di una dicotomia tragica tra la volontà dei figli e le intransigenti posizioni dei genitori a parte il conte che mira solo la felicità della figlia il secondo atto corre veloce verso la scena quinta in cui Pietro e Teresa si incontrano per intercessione del conte stesso atto sublime di carità dirà Don Gilberto al conte sempre pietoso a tutte le sofferenze di fronte stanno due modi di intendere l'amore e due visioni della vita differenti in tutto se non nel comune amore e nella diversa sofferenza dice Pietro possedevo un'anima generosa adesso non più la bontà aveva il tuo sorriso la giustizia aveva l'ingenua serenità della tua fronte ogni splendore di bene brillava per me nei tuoi occhi rinnego tutto anche il nostro amore dice Teresa e tu non l'hai rinnegato nelle lettere giuravi che avessi trovato la forza di ribellarti e dice Teresa perdonami Pietro il coraggio mi è mancato sola di notte nella mia stanza edificavo i più audaci progetti abbandonare il mondo seppellire in un chiostro la mia giovinezza troncare i miei giorni io che amo la vita perché ci sei tu e ti scrivevo giuravo di resistere alla crudeltà della mia madre ero sincera ma tornava la luce e con essa io tornavo una creatura debole schiacciata dalla soggezione mi presentavo a mia madre col fermo proposito di parlare ma la parola mi moriva soffocata dalla paura tu non puoi capire Pietro quanto freddo veniva al cuore da un viso implacabile ecco dunque la fascia di cui dicevo in apertura qui rappresentata plasticamente nella sofferta impossibilità al dialogo di questa creatura debole ma anche nell'animo del giovane Pietro che ritratta la sua fermezza non credermi quando ti parlo di odiare chi ti ha conosciuto ha conosciuto in te un raggio dell'eterna bellezza se ti giunga notizia della mia fine piangimi senza rossore nessuno potrebbe farti una colpa delle tue latime in quella eterna bellezza rivive l'inno secondo ad Antonio Canova delle grazie e tu cardisci in terra vestir d'eterna giovinezza il marmo or l'armonia della bellezza il secondo atto si chiude tuttavia con uno sguardo sulla madre nella scena che dovrebbe affossare le pretese materialistiche della contessa e la si eleva a donna di sofferenza e di puri sentimenti avendo a suo tempo accettato la silenziosa afflizione di un amore non ricambiato incalzata dal marito sull'opportunità di dare seguito a queste nozze forzate la donna alza il tono della sua retorica e palesa la sua condizione di vittima della medesima sorte mi sono sacrificata di mia libera elezione misurando l'asprezza del mio avvenire non ho difficoltà già che stiamo su questo argomento a declinarvi il nome dell'uomo amato si chiamava e si chiama Giulio Cassi di Urbino il marito si faceva un gran discorre di voi dei vostri furoi amorosi per una virtuosa di canto bolognese frattanto i nostri genitori trattavano delle nostre nozze ma io sapendovi amante di un'altra donna mi rifiutavo ostinatamente decisa ad amarvi in secreto per tutta la vita divisa da voi vostra madre venne arrecanati scongiurandomi di sposarvi accettai presi posto nella vostra casa restando esclusa dal vostro cuore riedificai la vostra fortuna compromessa dalle vostre follie soccorsi voi ignaro la donna da voi rimpianta e vi nascosi per lasciarvi le vostre illusioni le strane abiezioni in cui è accaduta conosco dunque un supplizio che mia figlia non conoscerà non amando ella sarà amata io amandovi sapevo e so di esservi indifferente siglato dunque il contratto di nozze alla presenza di un notaio oratore in cui l'autrice condensa un certo gusto per il citazionismo letterario l'atto terzo si apre senza quella baldanzosità affettiva e il sottile divertimento psicologico dei due precedenti il tempo sembra avere rallentato i suoi ritmi e la notte di Natale del 1831 sono quindi passati dieci anni dalla fine del secondo atto è trascorso un lungo tempo Teresa e sua madre la contessa ora sono sole nella loro casa di Urbino tornata qui al mio nido avevo ritrovato se non la felicità almeno la pace la donna rievoca così il tormentato decennio in cui dopo le nozze hanno perso la vita il giovane marito è l'amato padre la contessa genio tutelare di questa casa regolatrice delle vicende quotidiane appare infine dimessa e bloccata all'inerzia non tanto dalla vecchiaia quanto dal dolore occhi negli occhi Teresa riguarda la sua vita tra il ricordo del padre amico fratello con lui nella biblioteca vivendo col pensiero dei nostri grandi respirava un'atmosfera di serenità e il sempre eterno contrasto con la madre e il linguaggio dei nuovi tempi e di nuovi sentimenti siamo sul finire del 1831 il mondo di quest'anno si è molto agitato ecco la storia che irrompe nella letteratura sul modello dell'Ortis con riferimento qui ai fatti tardo giacobino rivoluzionari della carboneria italiana guidata da Ciro Menotti che portarono all'insurrezione costituzionale anti-austriaca e contro la Santa Alleanza e alla proclamazione effimera delle province unite italiane nei territori tra Marche e Romagna ma che furono presto ricondotti sotto il controllo austriaco per questa via la commedia smarrisce ogni profilo comico per assumere i toni austeri della denuncia storiografica il marito di Concettina un'attendente di Teresa è costretto alla fuga per via dei sussurri e di trame ai danni del regime appena restaurato in quest'area di terrore e di sospetto e di paura la donna porge nelle mani di Teresa un volumetto delle ultime lettere di Jacopo Ortis una metacitazione di egetico narratologica proprio quello donato un tempo all'amato Pietro con una ciocca di capelli è il coup de théâtre che apre al finale dell'opera è l'oggetto della narrazione fiabesca di Prob la marchiatura l'anello dei racconti epico-cavallereschi il fazzoletto il foglio persino la lettera di Maria dei Filippi che segna la persecuzione e prelude il più delle volte al salvataggio e allo scioglimento con l'arrivo in incognito di Pietro ancora un elemento dello schema di Prob e l'ingresso in scena dell'Ortis l'autrice rievoca i canoni della lotta antitirannica della letteratura italiana dal distico dantesco Libertà va cercando già scelto come epigrafe da Foscolo in ossequio a Catone Luticense sino alla citazione della lettera dell'Ortis di Ventimiglia dell'11 ottobre 1897 il sacrificio della patria nostra è consumato tutto è perduto aiutati e guidati da Don Gilberto che rievoca coraggio e pietà dei molti compromessi politici nei giorni della ristorazione salvati insieme al conte la scena undicesima porta allo scioglimento della suspense precedente Teresa finalmente si confessa di fronte a Pietro il cui impeto naturale ora è moderato dall'età e da abitudini mondane il mio cuore è quello di un tempo e questa è la scena più concitata in cui rivivono le passioni politiche foscoliane in particolare il giacobinismo la lotta senza quartieri fra i tiranni e la vendetta cavalcata da Pietro ma nei cui tumulti contro il cardinale Rivarola probabilmente nei fatti di Ravenna del 23 luglio 1826 un fallito attentato a questo cardinale che era il comandante della polizia pontificia in Romagna perse la vita il marito di Teresa l'errore fu deplorato quantunque il marchese Cavalli non fosse dei nostri preciserà Pietro Teresa rievoca quindi l'unica lettera in dieci anni scritta a Pietro sotto l'impeto delle parole di suo cugino Giacomo Leopardi amico dei miei amici dirà Pietro Giordani vi sé colletta con le ricordanze del 1829 ai ma qual volta a voi ripenso mie speranze antiche e precede la lunga confensione dell'antico e mai subito amore che conduce alla conclusione della commedia Pietro si manifesta novello Iacopo e disperato amante vagavo senza più sogni né speranze né famiglia né casa nel momento del mio smarrimento mi venne in aiuto il libro dei miei giovanili entusiasmi da quelle pagine insieme al tuo nome mecheggiò in cuore il nome dell'Italia fui salvo lo splendore del tuo sguardo si confuse per me con lo splendore del suo cielo la suavità della tua voce con la suavità della sua favella l'odio per la tirannia domestica sopra di te con l'odio per la tirannia straniera sopra la mia patria feci del mio dolore una forza della mia anima un altare della mia miseria un segno di nobiltà seguitai ad essere infelice ma in altro modo virilmente oggi vado ramingo e la morte mi sta di fronte come tu mi stai di fronte ma essa è bella io ne sono innamorato come sei bella tu e come sono ancora innamorato di te Teresa l'ortis appena regalato sarà dunque il testo svelato le cui pagine indicate nei numeri sparsi nelle lettere che l'uomo avrebbe un giorno scritto a Teresa avrebbero contenuto il vero messaggio da veicolare leggi la pagina indicata attentissimamente vi troverai il mio messaggio preludio al drammatico addio di Pietro o vivremo uniti o morirò col tuo nome che riconosce di avere turbato con l'unica lettera scritta alla donna nell'ortis era Teresa ad avere scritto una sola lettera a Iacomo sia la passata età mi sorprendeva spesso con occhi molli di pianto che quella futura vuoi tu diventare la compagna del mio esilio e della mia missione la tartufari intarsia minuziosamente la fantasia del plot drammaturgico con le vicende reali della storia contemporanea e con gli autori della letteratura sette-ottocentesca accanto alla scontata preponderanza ortisiana l'autrice mostra di avere chiari gli sviluppi anche della poesia nei loro intenti civili come indicano gli altri riferimenti espliciti alle opere di Leopardi come le canzoni all'Italia e ad Angelo Mai stavo riassumendo è chiaro in un'ambientazione borghese primo-novecentesca sapientemente descritta nelle minuzie degli arredi stile impero delle tappezzerie delle suppellettili si muove un ingenuo sistema di personaggi intorno ad un amore contrastato chiunque possa però pensare a una scrittura femminista di tipo oltransista in difesa di principi e valori non potrà che rimanere deluso nel reggere i tre atti di questa tragica commedia di fronte al lettore si staglia prepotente la vocazione alla massima e alla sentenziosità dell'espressione della tartufari che non indulge minimamente nell'autoinflitta fustigazione di genere ma conduce con sapienza un'indagine psicologico-politica della realtà contemporanea con evidenti inclinazioni antitiranniche libertarie in fondo siamo stati abituati a leggere nell'ortis foscoliano il romanzo del dissidio interiore di Jacopo della dimensione militante della storia nella scrittura romanzesca foscoliana dell'incipiente romanticismo tra tempesta e assalto e lo abbiamo accolto nella critica come il racconto dell'esule per amore fatto dall'esule per politica ecco la tartufa ci consegna un differente punto di riflessione più profondo della tenuta stilistica e drammaturgica di questa commedia una prospettiva di analisi dell'ortis al femminile assumendo il punto di vista di Teresa cui si abbina allo sforzo di adesione alla prospettiva persino della gertrude manzoniana e insieme di tutte quelle donne le Marta Ayala pirandelliane le escluse ingiustamente cacciate di casa e poi redente dall'insegnamento scolastico come la maestra novella d'esordio della tartufa o le marie capinere forzate di verga e anche lì si trovano sul comodino lascia delle ultime lettere mai inviate e scritte in un altro delirio e di tutte quelle donne che hanno costretto il loro dissenso il loro no negato nel silenzio di un chiostro o nel muto dolore di un cuore sofferente la tartufa ha dato luce come verga alla storia di un infelice e voce a chi non l'ha avuta la Teresa Foscoliana la Teresa di questa commedia un'anonima Teresa qualunque così come le donne di tutte le epoche in particolare quella contemporanea indotte al silenzio perenne per una ciocca di capelli e veramente per la cecità degli uomini e per l'ottusa oscurità dell'intolleranza grazie 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 Francesco molto interessante la presenza del libro all'interno delle ultime lettere di Agobo Ortis bene direi che possiamo aprire la discussione ci sono delle domande dal pubblico chi romperà il ghiaccio però devi venire qui così la notazione a margine all'ultima frase di Francesco Minervini la ciocca di capelli in questo momento è quanto mai attuale e significativa un'osservazione che lega in realtà le relazioni sia di Valeria Tavazzi che di Francesco Minervini in realtà di un non citato ma presente nei vostri discorsi autore appunto tra sette e ottocento rispetto a appunto anche la sua influenza ovvero Alfieri che soprattutto ora ho perso un po' le date non conosco quindi credo che ci sia un prima Alfieri e un dopo Alfieri però sicuramente i discorsi fatti da Alfieri della tirannide ma soprattutto del principe delle lettere sono estremamente presenti perché quello che è uscito fuori esce fuori proprio la come dire necessità rottura rispetto a un mecenatismo che diventa in realtà mancanza di libertà del letterato dell'intellettuale di esprimersi e di sentirsi imbrigliato in condizioni appunto che non permettono di essere autonomi e con tutte le contraddizioni che sappiamo perché lo stesso Alfieri in realtà le denuncia si autodenuncia anche nella vita dicendo la mia libertà in realtà l'ho dovuta proprio al fatto di essere nobile e quindi questa nobiltà che sto attaccando questa nobiltà che non fa quello che dovrebbe fare che dovrebbe svincolarsi da questi chiamiamoli mecenati ma in realtà sono tiranni che ci conducano e ci usano in realtà mi ha permesso come dire oggi diremmo di cambiare il sistema dall'interno ecco una cosa del genere quindi se ci sono appunto nel tuo caso delle anticipazioni che si allineano a questa che poi può essere invece di Alfieri una conclusione appunto non solo di Alfieri ma di un periodo perché ovviamente è quella e nel caso mi sembra anche più ovvio di Foscolo lo sappiamo pure il legame e il modello a partire dall'autoritratto che avessi in Alfieri e quindi immagino anche successivamente se ne sia tenuto conto grazie allora in realtà in realtà la allora la generazione della Bergalli nasce cioè lei nasce mi pare nel 4 Coldoni nel 7 Lalli è di poco più vecchio forse da un ventennio più vecchio è un po' più vecchio del napoletano però poi si trasferisce a Venezia sono tutti autori che cominciano a confrontarsi con il mercato e da parte di Alfieri nei loro confronti Alfieri viene dopo da parte di Alfieri nei loro confronti c'è un atteggiamento di maggior rispetto in realtà perché se Goldoni anche nella vita viene trattato in maniera rispettosa pensiamo invece alla genoflessioncella in cui Alfieri immortala metastasio poeta cesareo non vi posso diciamo non me la sento di dire che ci sia una scelta consapevole da parte di questi scrittori di una libertà perché poi il mercato è un committente ed è condiziona la letteratura molto più di un mecenate cioè un mecenate è una persona da compiacere è all'interno di un sistema politico che se però si sposa tutto sommato può andar bene il pubblico di teatro le esigenze editoriali sono ancora più faticose e pressanti e soprattutto lasciano nella miseria cioè se la Bergalli ce l'avesse Gozzi Gasparo il marito della Bergalli cerca di avere delle entrature qualcuno che lo aiuti e cerca a un certo punto di avere degli incarichi pubblici la soluzione semmai che si profila per questi letterati come una soluzione possibile ma che è una soluzione che in realtà viene anche auspicata a monte pure nei progetti di inizio settecento nei progetti di rinnovamento diciamo della cultura di inizio settecento ma penso a muratori penso anche ad alcune cose che ha scritto Zeno che sono emerse magari nel diario zeniano di Forcellini tutte queste cose qui è l'idea che dovrebbe essere il principe a finanziare direttamente in maniera però non la corte nel senso mecenatesco ma sostanzialmente lo Stato cioè a Venezia la Repubblica a finanziare direttamente l'attività dei letterati perché la letteratura possa avere diciamo uno spazio e una voce autonoma tant'è che lo stesso iperaristocratico Carlo Gozzi in un testo è un appendice diciamo a uno scritto teorico si chiama appendice a ragionamento ingenuo riconosce a un certo punto che il suo grande avversario Goldoni che lui critica dicendo ha scritto troppo quindi ha scritto male perché doveva mantenersi ha riformato il teatro non scrivendo canovacci ma scrivendo commedie interamente dice Gozzi perché i canovacci sono pagati meno dalle compagnie di attori cioè Goldoni era proprio era uno stipendiato degli attori per cui lui scriveva e anche tutti i librettisti Lalli è l'esempio proprio il testo che ho citato è un testo poco noto è un testo tremendo da questo punto di vista descrive proprio una vita distente praticamente in modo ovviamente burlesco cosa dice Carlo dice aveva del talento e quello che dovrebbe risolvere un problema simile cioè di un letterato di talento che poi non può esercitarlo in autonomia è una sovvenzione statale bisognerebbe istituire un teatro pubblico e direttore dice Carlo Gozzi nell'apprendice a ragionamento in Geno e il direttore dovrebbe esserne a Venezia Carlo Goldoni che dovrebbe tornare da Parigi per fare questa cosa quindi da questo punto di vista cominciano a serpeggiare delle idee alternative però il problema è che loro sono quelli che si confrontano non proprio per primi però in maniera più forte e sistematica con il mercato mercato spettacolare e mercato editoriale e questo mi pare questi aspetti sono forse più interessanti in questa commedia rispetto a delle letture che valorizzino il problema femminile che qui qua non c'è ma che c'è stato visto perché la linea di lettura della Bergalli che lo rivendica in tanti altri testi è questa e oppure appunto una anticipazione di una contrapposizione fra le classi per cui il borghese ha ragione i nobili sono terribili ma in realtà non è proprio così anche perché la società veneziana è una società in cui i valori del buon borghese sono quelli che appartengono alla classe dirigente nobiliare perché non essendoci non ci sono i lati fondi a Venezia i nobili sono ricchi e continuano a diciamo a funzionare le famiglie se si basano su una ricchezza che è dovuta al commercio e quindi devono rischiare essere imprenditori in proprio e avere tutte quelle caratteristiche che sono della figura di pantalone nel teatro goldoniano perché pantalone è una maschera veneziana non perché diciamo pantalone sia il borghese che si contrappone ai nobili i nobili che vengono criticati nel teatro goldoniano sono quelli che seguono un modello di terraferma diciamo un modello di improduttività che vogliono smettere di rischiare e smettere di lavorare tutta la vita sostanzialmente queste sono cose che ha detto Gaetano Cozzi uno storico molti anni fa su Goldoni c'è un recente volume di Bartolo Anglani che diciamo sfata tutta una serie di miti della critica goldoniana e fra l'altro ha detto anche questo l'ha ribadito insomma in molte molte pagine con tanti esempi aggiungere qualcosa alle parole di Valeria è difficile solo una piccola notazione che non l'ho potuto dire insomma ma avevo fatto un piccolo studio anche lessicale perché mi era saltato all'orecchio e all'occhio la parola ramingo che viene utilizzata da Foscolo e poi viene ripresa anche qui e ho pensato pensavo così anche ai viaggi di Alfieri diversi dal girovagale ortisiano e ramingo non è presente nell'Ortis di Foscolo con l'originale diciamo se non nel frammento di Lauretta mentre è presente nell'Odippo il primo abbozzo di tragedia e nel Tieste che è l'opera che scrive nel 95-96 che dedica e invia ad uno sprezzante conte astigiano Alfieri che infatti non gli risponde non gli risponde neanche ma nel quale lui vede il maestro di tutti i letterati italiani quindi c'è anche da un punto di vista come dire persino lessicale questo rapporto attraverso proprio questo girovagare che dicevi tu prima giustamente quelli di Alfieri sono dei viaggi culturali di formazione che sono dati grazie alla condizione di ricchezza abbiamo sentito anche adesso e che Foscolo non ha e torna soltanto questa espressione poi nei miei appunti così lessicali nel commento alla commedia di Dante cioè insomma anche da un punto adesso poi più avanti forse si potrà fare uno studio un po' più approfondito però anche da un punto di vista lessicale lo stesso Foscolo utilizza questa parola guardando ad alcuni modelli Alfieri da una parte probabilmente Dante dall'altra li usa solo in alcune opere e probabilmente si sposta però più verso la dimensione dantesca che non verso quella Alfieri per una questione anche come dire di risultanze e di spettanze economiche che Foscolo insomma non aveva e che non poteva insomma minimamente competere con Alfieri essendo poi dall'altro morto in totale miseria all'onda ci sono altre domande io ho una domanda per Valeria e Francesco è un'osservazione per Valeria Tavazzi questa attenzione sulla figura del letterato come mestiere trova corrispondenza anche nella storia della medicina perché all'inizio del settecento viene pubblicato un trattato di Bernardo Ramazzini su i morbi dei lavoratori e tra questi c'è un bel capitolo dedicato proprio al letterato come lavoratore quindi è una patologia questa del mestiere e per Valeria invece mi chiedevo se la rappresentazione del corpo martoriato è debitrice delle scoperte mediche del tempo e invece per Francesco ti volevo chiedere se ci sono delle citazioni dirette dalle lettere dell'Ortis e se la costruzione del testo scenico è una costruzione dialogata o sono molti soliloqui come quelli che hai letto sì però non è un corpo martoriato di Cubo non viene descritto il corpo dell'amante insomma di Autilio è descritto non martoriato è descritto nelle singole parti quindi sicuramente sì c'è ovviamente un riflesso della visione anatomista cinquecentesca quindi sicuramente sì anche perché ovviamente quelle sono ambienti dove la riflessione sulla sull'anatomia esistevano d'altra parte ho citato Giraldi Cinzia non a caso perché ovviamente Giraldi Cinzia ha una grande consapevolezza di queste questioni essendo lui per primo un medico e avendo lui anche appunto dato questo tipo di sguardo nelle sue opere quindi sì sicuramente ovviamente non ho fatto un riscontro puntuale ma si potrebbe fare però certo è una osservazione di questo tipo che risente sicuramente di questo tipo di lettura mi stavo preparando mi è colto in preparazione no sto scherzando no no sto scherzando allora ti volevo far vedere attenti allora partiamo dalla seconda domanda che tu mi hai fatto se ha una struttura dialogata allora ti faccio vedere subito ha sempre soprattutto nei primi due atti una parte come dire di da scalica no di descrizione di delle ambientazioni che ha come dire un sapore la prima impressione è quella di leggere un'opera danunziana stile impero in cui tutto io l'ho detto solo marginalmente cioè tutto è fermo in effetti la scena dal primo all'inizio alla fine non muta mai quindi c'è solo una mutazione cronologica va bene i dialoghi la struttura narratologica della commedia è basata sui dialoghi su uno scambio di dialoghi cioè essendo ovviamente una scena fissa e ferma credo che dica proprio prospettiva dal pubblico posso sbagliarmi insomma adesso vado così a memoria chiaramente il movimento come accadeva diciamo anche nell'antichità doveva venire come accadeva per esempio con Alfieri il movimento veniva fuori non tanto dai cambi delle scene quanto dal testo stesso va bene la stessa cosa fa rapidandello lo sappiamo quindi ci sono delle parti descrittive di luoghi ambientazioni persino di sentimenti interventi didascalici dei sentimenti dei protagonisti dei personaggi che però svolgono il loro dialogo cioè non è una commedia raccontata non è una commedia in prosa è una commedia in versi ovviamente è una commedia che si va che basa il movimento narrativo attraverso il dialogo le citazioni dell'Ortis allora non ci sono a parte come dire la presenza del libretto fisico non ci sono delle citazioni dirette di Foscolo leggendo il testo però io l'ho fatto insomma ho appuntato alcune 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 parti adesso provo se non le ritrovo le cito vado in memoria le citazioni non sono esplicite ma ci sono ho fatto quella delle grazie forse perché era la più evidente quando parla dell'eterna bellezza ma ci sono emerge la consapevolezza letteraria di questa autrice novecentesca che è una consapevolezza innanzitutto settecentesca propriamente settecentesca per Ticari Monti Foscolo c'è Alfieri c'è Leopardi che è ai piedi nell'ottocento ma la mente e il cuore lo dice lui stesso nel settecento c'è il riferimento alla dice in un passaggio la la contessa la contessa al marito se non ricordo male chi no io forse questo l'ho detto chiuso io nella biblioteca poi non l'ho detto chiuso io nella biblioteca del mio palazzo come chiusi come chiuso Giacomo nella biblioteca del suo palazzo Re Canati che è una sofferenza diversa la sofferenza degli studi per Leopardi dei sette anni e la sofferenza invece e sono quasi sette diciamo di questa di questa opera e poi c'è tutto un un tessuto letterario che non emerge in maniera esplicita se non nei passi credo delle ricordanze che ho citato e poi un'altra cosa di Leopardi perché era sostanzialmente il cugino di Teresa diciamo in questa in questa commedia va bene non voglio a buon diritto direi grazie se vuoi aggiungere qualcosa ok per caso ci sono domande online ah c'è una domanda venga sì no dico un volume a parte allora io volevo chiedere alla professoressa Merona innanzitutto da dove aveva preso la materia Valeria Miani per questa per questa commedia e poi volevo questa tragedia e poi volevo sapere se il riferimento al corpo martoriato poteva in qualche modo richiamare lo spargmos che c'è alla fine del cioè la dissoluzione del corpo che c'è di penteo alla fine delle baccanti di Oripide allora dell'origine della vicenda sinceramente non le so rispondere nel senso che non non è dichiarata io non l'ho trovata da nessuna parte potrebbe essere una storia di invenzione almeno non ho detto che la tragedia è pubblicata soltanto in un'edizione americana da Valeria Finucci che con un ricchissimo commento che anche appunto ricostruisce tutte le fonti e tutti i rapporti del testo con i testi a cui facevo riferimento prima ed è l'unico modo per leggerla in edizione moderna non ricordo appunto cioè non mi pare che lei dia una fonte di questa di questa vicenda e per quanto riguarda invece i modelli classici certo sicuramente c'è Seneca in mezzo c'è la mediazione di Giraldi Cinzio per recuperare appunto il teatro senecano ma c'è certo anche l'immagine dionisiaca ovviamente sono dei riferimenti anche impliciti in fondo in questo tipo di rappresentazioni ma io credo che il passaggio fondamentale sia la tragedia di Giraldi Cinzio che almeno nell'Orbe che fonda il suo tragico proprio sull'orrore poi sappiamo che Giraldi Cinzio sceglierà anche altre forme perché c'è anche un discorso di convenienza rispetto a quello che è il gusto della corte e Giraldi Cinzio sceglierà il lieto fine la tragedia il lieto fine perché è una tragedia che comunque tocca i punti della catarsi verso il finale per poi offrire una riconciliazione Giraldi Cinzio dice l'orrore si può comunicare attraverso il racconto e quindi l'orrore è per esempio negli ecatomiti e non nel teatro perché il racconto la narrazione consente di sopportare maggiormente mentre invece a teatro di fronte al pubblico della corte è necessario trovare alla fine una sorta di riconciliazione di sollievo quindi penso che il riferimento principale sia all'orrore codificato appunto nel Cinquecento da Giraldi Cinzio anche nella sua trattazione sulla tragedia mi sono dimenticato nella fretta di porre la domanda appunto che questa dissoluzione dell'identità che c'è pure nel travestimento maschile femminile che in qualche modo può richiamare quello che è il riferimento ero e pedeo grazie bene direi che possiamo fare un po' di pausa vi ringrazio tutti ci rivediamo tra 20 minuti grazie a tutti voi allora riprendiamo questa seconda parte della mattinata con altre tre relazioni la prima è di Antonio Daniele che ci parlerà di Luisa Amalia Paladini la formazione delle nuove italiane scrittura d'educazione e di patria Antonio Rosario Daniele insegna all'università di Foggia dove è ricercatore di letteratura italiana contemporanea ed è coordinatore del corso di laurea triennale in lingue e culture straniere si occupa prevalentemente di rapporti tra le letterature del novecento sistema di linguaggio e cinema con pubblicazioni che riguardano soprattutto Alberto Moravia e Dino Buzzati ha pubblicato con le lezioni sinestesie un volume su Moravia Moravia 110 generali critici narrativa cinema e teatro e per cesati ombre femminili in Dino Buzzati indizi di donne prima di un amore e anche nel 18 e nel 20 insolite e ignote Drigo, Brin e Bonanni scritture femminili negli snodi del novecento fa parte del gruppo di lavoro dell'Adi sugli studi delle donne nella letteratura italiana ed è incaricato del sesto volume dell'edizione nazionale delle opere di Carlo Collodi presso Giunti vice direttore della collana editoriale di studi umanistici lettera zero e membro del comitato scientifico delle riviste Studium e International Conferences on Jewish Italian Literature e gli do subito la parola grazie grazie Valeria grazie Marica dell'invito e comincio subito si sente? nella primavera del 1848 mentre Carlo Alberto ha da pochissimo concesso il suo statuto mentre Pio IX si persuade a concedere lo statuto fondamentale salvo poi ignorarlo dopo la Repubblica Romana e rifiutarsi di versare il sangue dei cattolici mentre il re Bomba arma Guglielmo Pepe contro gli austriaci insomma mentre la penisola è in su Puglio esce in Roma un giornale a cui si dà nome la donna italiana è il primo e l'unico organo a stampa sul nostro territorio che parla direttamente alla donna e non solo di moda o amenità e si tratta di fatto rilevante è scritto da uomini ma fa appello a ogni donna d'Italia cito affinché alle grazie e dalla leggiadria sappia unire pure un animo ardente di amor patrio il tema principe di questa pubblicazione periodica sarà l'educazione della donna alla cooperazione del sentimento italiano tuttavia coi mesi fanno capolino tra le colonne del giornale anche firme femminili alle quali si riservano per lo più componimenti a carattere patriottico qualche volta svenevoli o enfatici ad ogni modo alcuni nomi paiono stagliarsi su altre da Maria Giuseppa Guacci Nobile a Caterina Franceschi Ferrucci da Teresa Agnoli a Luisa Amalia Paladini di tutto quanto pubblicato nei primi numeri i versi di La bandiera italiana di Luisa Amalia Paladini meriteranno di essere musicati e poco dopo figureranno in una silloge che raccoglieva i versi di questi mesi dell'autrice e che intitolerà nuovi canti offerti alla guardia civica di Lucca Luisa Amalia Paladini era lucchese o meglio in realtà era nativa di Milano poi si trasferì da bambina con la famiglia a Lucca e la guardia civica era uno dei nuovi corpi militari dell'Italia che sta insorgendo specialmente in Toscana riscuoteva un certo credito una certa fiducia fra la popolazione tanto che il reclutamento nelle sue file diverrà ricercato e sarà spesso anche oggetto di satira giornalistica in Toscana sorge nel 1847 poi col nome di guardia nazionale sarà incartinata su tutto il regno d'Italia dalla sua nascita ma intanto Paladini se ne serve per avere la possibilità di mettere in versi questioni che le stanno a cuore soprattutto nell'ambito dell'educazione della donna alle esigenze dell'Italia che verrà nei mesi in cui la Toscana fa di tutto per mettere alla porta il suo granduca peraltro riuscendoci Paladini era già attiva nella pubblicistica del territorio dal 1834 quando prende parte al giornale dei fanciulli di Pietro Tuar e Giuseppe Bayer foglio accusato dall'ispettore di polizia di cito versare nei teneri cuori dei fanciulli il veleno nascosto della irreligiosità della immoralità del fanatismo ed esorta le donne a venire in prima linea scrivi dicesti della donna tuoni alti sensi la voce e gridi al mondo che si riscuote l'Italia o Centofanti più del dolor ne opprime un gran contento Centofanti è Silvestro Centofanti liberale cattolico pisano di Dei Giobertiane la nostra gli dedica il libello sia come omaggio a una mente brillante capace di intuire la portata degli avvenimenti del tempo sia in quanto amico del Giovanni Battista Nicolini in quegli anni modello di scrittura poetica e di trammaturgia l'accaloramento lirico è proprio vicino a quello della comunità degli intellettuali toscani e non mancano echi manzoniani valore degli avi e le virtù sedere nei degeneri figli e il vizio vidi scherzare beffardo e ribadir di infami catene che avvincean donne e garzoni inturpe ozio languenti allora la fiamma che mi struggea nel cor compressi e come amante insulsa per soverchio amore la soave cagion dei suoi martiri perdono Italia la nostra era nome già noto ai coevi tant'è che Pietro Leopoldo Ferri nella sua biblioteca femminile del 1842 primo importante dizionario in materia ne elenca le opere e Tatiana Crivelli in un saggio di oltre vent'anni fa sulle scritture femminili dell'ottocento italiano sentì di dover richiamare proprio quel dato bibliografico per inquadrare la scrittrice a beneficio del lettore sta di fatto tuttavia che i contributi più rilevanti erano ancora di là da venire nel 1844 anno in cui fra l'altro sarà sovrintendente agli asili infantili Paladini scriverà per il messaggero delle donne italiane e sarà proprio dopo i fatti di Toscana forieri dell'allontanamento del granduca Leopoldo II che la produzione di Luisa Amalia Paladini assumerà un profilo più definito da questo momento incomincia un fruttuoso e duraturo percorso che la conduce a prendere le ritini della scrittura e della stampa italiana in materia di educazione femminile facendosi erede in terra di Toscana di esempi già illustri su questo versante questa è la ragione per la quale la dedicataria della sua prima compiuta opera editoriale sarà Massimina Fantastici Rosellini educatrice toscana a sua volta amica di Niccolini al cui magistero lirico si devono il dramma Ipargi e il poema in ottave Amerigo composto a più riprese nel corso degli anni Paladini le consacra un manuale per le giovanette italiane nient'altro che la raccolta degli scritti per il messaggero delle donne italiane edito a Firenze nel 1851 ripartito in più sezioni si tratta di un'opera che in tutta la sua prima parte di fatto si colloca nella linea dei galatei dell'Italia dell'Ottocento e che evidentemente recupera proprio la lezione di Tuar che fu in ambito toscano il maggiore animatore di simili operazioni editoriali anche traducendo dal francese ma che in fondo non faceva che applicare alle fanciulle d'Italia lo schema del nuovo galateo di Melchiorre Gioia che Melchiorre Gioia nel 1802 aveva concepito per la pulitezza del nuovo cittadino italiano della Repubblica Cisalpina e in effetti le prime sezioni del manuale di Paladini riguardano la costumatezza della fanciulla e il suo incivilimento secondo la convinzione che cito il progresso della civiltà portasse a un progresso morale la novità maggiore è rappresentata dalla seconda parte dell'opera nella quale Paladini introduce un cambiamento di metodo e così facendo anticipa pratiche di scrittura che segneranno i galatei a cavallo dell'unità i capitoli dal decimo al quattordicesimo adeguano il principio gioiano della pulitezza e quello rosminiano dell'innocenza di primi tempi e vi introducono il motivo della donna attiva nel contesto civile e nell'educazione popolare della nuova Italia non a caso nella decima sezione ricorre con sempre crescente insistenza il lemma patria accostato all'azione della donna pareggiandone il peso con l'uomo in anticipo rispetto a quanto attestato dalle ricerche di settore lo studio sulla bibliografia delle buone maniere del nostro ottocento condotto alcuni anni fa da Luisa Tasca riferisce che la civiltà in azione di Sevigny 1844 e il galateo di Gatta del 1865 specificavano sin dal titolo di essere destinati a giovinetti d'ambo i sessi e che cito il galateo insegnato alle fanciulle di Teresa di Gubernatis 1872 è quindi il primo che oltre ad essere scritto da una donna era anche esplicitamente rivolto a fanciulle che non erano le compittrici di un collegio fine della citazione ebbene occorre aggiornare il dato già che il manuale per le giovinette italiane di Luisa Amalia Paladini risalente ad oltre vent'anni prima per quanto possa essere considerato un testo di precettistica morale ad uso di fanciulle più che un galateo in piena regola va certamente annoverato quale tentativo precursore nel campo del profilo sociale e patriottico della donna io credo io credo che l'amore della patria debba essere sentito con forza uguale dall'uomo e dalla donna e che uguale debba essere in essi lo zelo in onorarla inservirla la diversità consiste nei mezzi difenderla dai nemici esterni mantenerla illesa delle brighe degli interni perturbatori amministrare la cosa pubblica spetta gli uomini conservare e aumentare le virtù private e la parte che le divine e le umane leggi assegnano alla donna per la prima volta nel campo dei precetti per le giovanette l'educazione della donna italiana viene fatta dipendere non soltanto dalla temperanza dei vizi e delle virtù ma anche in rapporto al proprio impegno per la patria e per quanti in armi vi stanno lavorando una prospettiva non solo innovativa ma dal carattere addirittura destabilizzante se consideriamo che il testo maggiore scritto da una donna per donne nell'arco temporale che va dalle guerre di indipendenza alla presa di Roma appunto il galateo insegnato alle fanciulle col mezzo ad esempi storici e morali di Teresa De Gubernatis si basava sul convincimento che la donna potesse evolvere più attraverso la vita domestica che non attraverso il lavoro extradomestico come sostenne nel manuale pratico ad uso delle madri e delle educatrici dell'infanzia e nel sistema igienico economico della sora Gegia Paladini assume sì il modello sociale di Tuare improntato rispetto dei doveri familiari ma al tempo stesso propugna l'accesso all'istruzione specialmente alla lettura per le donne popolane anche in ciò Paladini anticipa i tempi e di molto se si tiene conto che come attesta ancora lo studio di Tasca soltanto nel 1868 fu bandito a Torino un concorso per un galateo popolare un manuale che favorisse cito la concordevole comunione di idee ed interessi tra tutte le classi del popolo a unità d'Italia acquisita dunque in vista di un preciso assetto sociale ma quando tutto doveva ancora accadere nel 1851 Paladini ne intuisce l'importanza e che questo processo debba avvenire mediante la donna popolana la sua istruzione e l'esercizio della lettura a tal proposito la scrittrice ha le idee chiare alla patria occorrono donne che leggano libri di storia più che romanzi specialmente io vi esorto a leggere dei libri di storia e particolarmente quelli che narrano la storia del vostro paese se i desideri dei buoni cittadini saranno esauditi verrà giorno che anche per voi o giovanette del popolo si apriranno scuole gratuite nelle quali sarete istruite di quanto vi giovi sapere là finalmente imparerete la storia e ad apprezzare siccome lo meritano le patrie memorie gli incoraggiamenti di paladini toccano anche questioni relative alla lingua e la sua opzione pare orientarsi verso un toscanismo non purista non il magistero trecentesco ma la lingua del buon modello del tempo tuttavia il discorso della scrittrice è venato da necessità storiche e sociali che la inducono a dissuadere le giovani lettrici del popolo dalla lettura di testi in traduzione sull'esempio delle francesi che mai si accosterebbero a un testo che non fosse scritto nella loro lingua in tutto ciò agisce l'esigenza di fortificare il sentimento del buon amor di patria ma anche l'invito a non soggiacere a forme di sudditanza culturale extraitalica francese in particolare che si poneva a modello di nuova prosa una richiesta se vogliamo ingenua che orecchiava certe predilezioni del liberalismo toscano di Tommaseo ma che denotava anche coraggio il primo studio essenzialissimo per una donzella italiana è lo studio della propria lingua scrive Paladini ma la grammatica niente vi gioverebbe se non vi abbezzerete di buon'ora a leggere e a gustare i buoni autori toscani si studino pure le regole grammaticali se ne sappia quanto mai Retore ne seppe non arriveremo mai a conoscere la bellezza della nostra lingua né a scriverne correttamente una linea se ci pasceremo nella lettura di libri pessimamente tradotti o mal scritti per questo interdirei senza eccezione alcuna alle giovinette non meno che ai giovani le opere in prosa tradotte dalle lingue viventi sappiate o giovinette che le donne francesi da noi imitate nelle mode in tante svenevoli caricature amano sì fattivamente la patria loro e quanto ad essa si riferisce che anche le più culte si vergognerebbero di schiudere il labbro ad una parola che francese non fosse ed in tutto preferiscono gli usi e i costumi della patria loro una certa malcelata ostilità per le scritture francesi inaugurerà una nuova avventura editoriale improprio della scrittrice lucchese la quale il 3 dicembre del 1853 darà vita dal periodico polimazia di famiglia uno strumento di conoscenza pluridisciplinare a vantaggio delle donne vi si pubblicavano gli scritti di massimina fantastici di elvira giampieri rossi e le puntate di una rubrica curata dalla direttrice stessa chiamata la donna e i suoi doveri che sarà poi riversata qualche anno dopo nel libro la famiglia del soldato il giornale aveva chiuso i battenti prima che la scrittrice potesse chiudere il romanzo sulle sue colonne ma intanto nell'editoriale d'apertura Paladini intona il suo consueto incitamento alle donne italiane e critica quanto viene d'oltralpe questa è la polimazia di famiglia ecco se a tutti gli uomini che fanno professione di lettere incombe il sacro dovere di volgere i loro studi a vantaggio del loro paese e dell'umanità intera questo dovere è se può essere ancora più sacro per le persone del mio sesso e di vero non sono poche le valorose donne che pubblicarono libri utilissimi specialmente sull'educazione femminile ed io pure ultima fra tanto fiore di gentilezza e di ingegno cercai per quanto era da me di secondarle nello devole intento so bene che navigando a ritroso si corre pericolo di dare in secco e so anche che una delle ragioni è certo non l'ultima per le quali la letteratura francese tiene adesso il primato in Europa è perché una depravata letteratura lusinga il secolo depravato concedo il debito onore alla felice invenzione alla fecondità dell'ingegno alle penne eminentemente facili e pittoresche ma pure sta in fatto che gli autori meglio coscienziosi della Francia sono i meno conosciuti anche in questo caso è probabile che Paladini faccia pesare sullo sfavorevole giudizio nei riguardi degli scrittori transalpini questioni di ordine politico e storico è ancora freschissimo il ricordo delle truppe francesi di Udino che calarono nello stato pontificio per abbattere la Repubblica Romana e ripristinare il governo di Pio IX e la successiva fine della seconda Repubblica Francese con Napoleone III impegnato a restaurare un impero autoritario diede agio di rivalsa agli intellettuali italiani nelle puntate che andranno poi a costituire la famiglia del soldato Luisa Amalia Paladini staglia un momento della guerra della prima coalizione quando i francesi della prima repubblica dichiararono guerra al regno di Sardegna e tentarono un assedio il cui esito fu poi del tutto fallimentare e si chiude con il ritorno del governo del re Vittorio Emanuele I resta tuttavia il malanimo nei riguardi dei francesi giacché se si riflette sul fatto che Paladini si decide a mettere in volume la sua vecchia rubrica completandola e facendone un romanzo ai primi del 1859 ossia pochi mesi dopo gli accordi di Plombiere poco prima dell'armistizio di Villafranca capiremo che il sottofondo politico di questi lavori editoriali era consistente si tratta anche in questo caso di un'opera a carattere edificante il cui scopo è quello di fortificare la donna madre e moglie di uomini in guerra al sacrificio delle istanze patriottiche per una più alta consapevolezza del proprio ruolo nel corpo dello Stato oltre che in quello familiare i francesi sono umani dopo la vittoria si constata con amarezza nel libro il racconto imperniato su cinque capitoli tanti quanti sono i membri della famiglia coinvolti nelle vicende belliche non sa scansare il rischio del didascalismo e anzi in qualche caso pur di corrispondere alla sfera sociale cui intendeva attecchire vi cede con una certa volutà e non disdegna di alimentare il profilo della donna armigera all'occorrenza il cui coraggio sa addolcire le sembianze del mostro perché non sta bene scrive Paladini che la donna vada sul campo di battaglia noi crediamo che la donna debba amare la patria al pari dell'uomo e che debba onorarla e servirla educando le figli generosi ed adobrando ogni sua influenza per confermare nell'amore di lei tutti coloro che la vicinano ma quando ponendo in noncale ogni doveroso rispetto e la legge di natura che dandole fievoli membra miti opere la informava giugne perfino ad impugnare le armi e mischiandosi sui campi di battaglia pretende emulare la forza virile allora Costei non è una donna forte ma si bene un mostro da eccesso di vanità sospinto a contaminare i più cari attributi del suo sesso che sono la pietà e la modestia certo che nei casi imprevisti anche la donna deve mostrare coraggio certo che quando le sacre mura della loro città sono minacciate anche esse devono siccome già fecero le valorose donne senesi a correre tutte unite a difenderle Paladini richiama un episodio dell'assedio di Siena dell'aprile del 1555 prima che la città si arrendesse a Carlo V a Cosimo de' Medici alcune nobile donne alla cui testa si erano poste laudomi a Forte Guerri Fausta Piccolomini e Livia Fausti costruirono un muro di fortificazione con pale e ceste noi comprendiamo dunque quanto questa singolare pedagogia patriottica con impulsi combattivi o almeno di eroico sacrificio muliebre che innova pesantemente il principio della virtù donnesca a cavallo dell'unità d'Italia non poteva che venire da una scrittrice della Toscana di quel tempo culturalmente memore di fatti cruciali della storia d'Italia e nel frattempo impegnata a combattere il lorenismo granducale del decennio che precedette l'annessione a casa Savoia un processo che per Palladini evidentemente doveva avvenire anche mediante la donna del popolo visto che l'aristocrazia con le sue dame lo conferma il giornalismo anche umoristico di quegli anni auspicava il ritorno di Leopoldo II e si perdeva dietro le chincaglierie del proprio salotto i risultati di tutto questo non tardano ad arrivare poiché Raffaello Lambruschini esperto bucaniere della politica toscana prima e dopo il granducato ed estimatore di vecchia data della scrittrice nei mesi del governo provvisorio di Toscana guidato da ricasoli atto di transizione del passaggio sotto leggi da Sabauda da ispettore scolastico la incarica di dirigere le scuole normali femminili di Firenze e dal carteggio con Giannina Milli ricaviamo tutta l'importanza dell'opera di Paladini in seno a questa istituzione quando Giuseppe Petraglione portò alla luce le missive di Milli a Paladini non aveva del tutto chiaro quanto esse potessero contribuire a una piccola testimonianza storica vi si legge di tutto il fervore che stava attorno a chi stavano costruendo l'Italia a partire dall'istruzione femminile specie nel nuovo meridione dopo i Borboni Milli si adopera perché auspice Paladini la sorella possa fare la maestra in un educantato di Napoli ed è la stessa ispettrice scolastica a Lecce dove morrà è l'agosto del 1863 e la nostra scrittrice torna alle vecchie abitudini fonda un nuovo giornale e lo chiama la educatrice italiana nell'articolo programmatico del primo numero torna con vigore a battagliare contro la cultura extraitalica e tutto ciò che suoni non italiano il nostro periodico porta in fronte il titolo di educatrice italiana perché tendente a liberarci dalla imitazione stupidamente servile dei costumi stranieri ma non per questo intendiamo rifiutare tutto quel che ci viene di oltremonte oltremare poiché noi attingiamo il buono dovunque si trova citandone sempre le fonti benché mascherato sotto lo schermo della genericità anche in questo caso l'obiettivo di Luisa Amalia Paladini è prima di tutto la Francia lo capiamo dall'editoriale del secondo numero che esce il 17 settembre e che la direttrice intitola Scopo dell'educazione femminile ma in questo caso ella se ne serve con una maggiore maturità storica unendo alla consueta avversione per le donne che seguono criticamente le mode culturali transalpine la consapevolezza che ciò accade anche perché il loro grado di identità nazionale è basso in quanto pregiudicato dalla storia stessa richiamando un aneddoto secondo il quale Napoleone I un giorno domandò a Madame Campan pioniera dei galatei francesi moderni cosa servisse alla Francia e gli venisse risposto donne ben formate Paladini disegna il quadro delle donne d'Italia un quadro insieme spietato e pieno di speranza in una Italia avviata a costruire faticosamente se medesima né si creda perché il regno d'Italia esiste perché un esercito vittorioso sta a guardia dei suoi confini perché le sue navi portano su tutti i mari la nazionale bandiera che siamo ormai sicuri dei suoi futuri destini l'educazione femminile italiana si può quasi asseverare che più non esistesse né tampoco oserei dire che fosse fra noi la vera educazione francese inglese o alemanna poiché se le donne di quelle varie regioni vestono tutte ad una foggia hanno moralmente parlando una fisionomia loro propria costumi e tradizioni nazionali che le contraddistinguono e le fanno essere buone madri di famiglia ed utili cittadini le donne italiane salvo quelle generose che fecero e fanno eccezione alla regola generale non avendo una patria da amare perduti i costumi propri si fecero ammiratrici degli altri e prendendo l'orpello esterno per la sostanza non si è però imitarli che infrivole e spregevoli cose ora che l'Italia non è più un nome vano dove deve necessariamente trovarsi da qualche parte una educazione italiana come e per quali vie rintracciarla l'amore stesso di questa nostra Italia saprà indicarcelo se da un lato ci spaventa il grave assunto ci conforta dall'altro il pensiero che in tutte le cose dal semplice emerge il sublime le urgenze suggerite dal nuovo regno d'Italia inducono paladini è vero ad arrischiare qualche volta centi patriottardi ma si devono comprendere e calare il più possibile nel contesto mancava un codice civile c'era da costruire una vera e propria configurazione culturale negli anni del brigantaggio dei primi scioperi di operai repressi nel sangue quel che oggi saremmo tentati di qualificare come retorica nazionale fu in realtà una sapiente opera di ingegneria sociale alla quale la scrittura di Luisa Amalia Paladini diede un contributo tutt'altro che trascurabile grazie grazie Antonio per questo interessantissimo intervento che dialoga molto anche con tutti i precedenti soprattutto sul discorso dell'educazione delle donne che mi sembra essere anche un altro sottotesto comune a molti degli interventi di queste giornate ci sarà modo di commentarlo più avanti adesso ok diamo la parola invece a Francesca Irene Sensini che ci parlerà di Flavia Steno giornalista e scrittrice Francesca Irene Sensini è professoressa associata in italianistica presso l'Université Cote d'Azur di Nizza è classicista di formazione si dedica prevalentemente alla letteratura italiana tra 8 e 900 ma anche agli studi della ricezione classica e agli studi di genere in ambito letterario si è occupata soprattutto di Pascoli tra le sue pubblicazioni recenti c'è un volume uscito nel 2020 Pasquoli Maledetto ma anche La lingua degli dèi L'amore per il greco antico e moderno sempre pubblicato recentemente nel 2021 si è poi occupata della ristampa dei libri di Marisa Ferro l'ultimo è La ragazza in giardino pubblicato per Elliot nel 2022 se ci siamo con il collegamento le darei subito la parola per non sottrarre tempo anche perché siamo abbastanza forse abbiamo qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia buongiorno a tutti si lo condivido si è certo volentieri assolutamente allora eccolo qua lo vedete ok perfetto allora si cercherà di essere di essere più concisa possibile intanto vi ringrazio molto per questo invito mi dispiace non poter essere con voi fisicamente ma vi mando i miei saluti dall'università della Cotasur allora ho deciso di parlare di Flavia Steno giornalista e scrittrice un po' perché è una figura che ha di grande successo di grande fama durante la sua la sua vita e poi come molte donne passata insomma nel nel dimenticatoio della critica nonostante fosse anche una romanziera di grande successo una liala genovese Flavia Steno è il nome d'arte il nom de plume di Amalia Osta che nasce non a Genova ma nella Svizzera italiana qui la vedete in un'illustrazione qui vedete la foto di lei Amalia Osta appunto nasce a Lugano nel 1877 e muore a Genova nel 1946 subito dopo la fine della seconda guerra mondiale dopo aver passato diversi anni nascosta per sfuggire a una condanna del regime Amalia Osta fu condannata a 15 anni di reclusione per aver criticato i libri di testo scolastici del regime definendoli uno proprio questo lo evalse a 15 anni di una condanna a 15 anni che non scontò perché fuggì in una cascina e fu aiutato dai partigiani con documenti falsi Osta è l'italianizzazione del cognome francese Oste perché il bisnonno era Jean Oste soldato nell'esercito sabaudo quando ancora la Savoia era territorio francese Amalia Osta studia dagli 8 ai 14 anni nella provincia di Varese nel collegio di montagna di Dumenza presso le suore che le danno per dichiarazione di lei stessa il gusto della letteratura e degli studi storici in questo collegio di Dumenza Amalia Osta impara bene il francese che già conosceva in famiglia e il tedesco oltre a lingua italiana poi si trasferisce a Milano dove studia come maestra elementare alla scuola magistrale femminile ottiene il suo diploma a 14 anni si trasferisce poi a Zurigo a Lusanna dove finisce i suoi studi superiori con un diploma di magistero superiore e poi sarà auditrice libera all'università di Zurigo questi particolari della sua vita di giovane studentessa sono diciamo trasfusi in uno dei suoi romanzi uno dei più interessanti La nuova Eva del 1904 edito per Sandron di Torre di Palermo in cui ritroviamo la biografia di Amalia Osta è stata trasfigurata attraverso un personaggio quello di Violetta Adriani estremamente interessante per le sue grandi contraddizioni che caratterizzano appunto anche la postura di Amalia Osta come donna da un lato intellettuale conservatrice da un lato molto progressista dall'altro antifeminista per expressis verbis per sua dichiarazione ma di fatto femminista femminista borghese liberale cattolica quindi conservatrice ma nonostante ciò femminista sotto certi aspetti Amalia Osta arriva poi nel 1898 a Genova che diventerà la sua città di adozione anche la mia città è per questo che Flavia Steno mi è diventata familiare grazie agli archivi del secolo XIX della fondazione Ansaldo che ho frequentato appunto per poter leggere i suoi pezzi sul secolo XIX Amalia Osta arriva con il marito l'ingegnere Giovanni Cottini e si presenta subito nella redazione del secolo XIX che era allora diretto da Luigi Arnaldo Vassallo detto gandolin polemista e giornalista molto progressista tanto è vero che nella redazione del secolo lavorerà non solo Flavia Steno ma anche Mattia De Serau per i tempi appunto due donne giornaliste in una redazione di soli uomini il nome Flavia Steno le viene dato da Vassallo stesso che la mette subito alla prova facendo riscrivere un articolo su Jeanne Royanès moglie del politico socialista Clovie Hugue che aveva ucciso a colpi di pistola un giornalista che aveva diffamato il marito Flavia Steno Amalia Osta compone questo pezzo rapidamente passa l'esame e diventa giornalista con il nome di Flavia Steno il secolo XIX è diretto da Vassallo e strettamente legato al suo editore industriale Ferdinando Maria Perrone proprietario delle fabbriche Amsaldo fondata nel 1853 per interessamento del conte di Cavour che voleva francare l'Italia della dipendenza per il settore ferroviario dalle importazioni inglesi e così nasce l'Ansaldo e il suo giornale possiamo dire che il secolo XIX è stato un giornale impresa e sempre di tendenza filogovernativa proprio perché l'azienda Ansaldo per le commesse ha sempre di peso da buone relazioni italiani all'epoca in cui Amalia Osta arriva a Genova Genova è in pieno fermento economico e sociale le eliti industriali dei settori metallurgico ma anche i testi alimentari beneficiano del sostegno dello Stato prosperano e la classe operaia genovese sperimenta le prime forme di vita associativa e di cooperazione quando Amalia Osta comincia a lavorare al secolo gli scioperi e la repressione imperversano la questione sociale la questione meridionale la crisi ideologica del positivismo occupano il dibattito pubblico inoltre comincia a sentirsi sia sul piano nazionale che sul piano internazionale l'imminente rottura tra la spinta progressista della borghesia e le istanze delle masse proletarie seguendo gli insegnamenti di Gandolin Flavia Steno diventa una giornalista polivalente che è pronta a scrivere su ogni tipo di argomento in particolare Gandolin affiutando la modernità del tema le affida naturalmente l'incarico di trattare l'argomento dell'emancipazione delle donne che il giornale fino a quel momento aveva pochissime volte trattato e comunque sempre con ironia e paternalismo Flavia Steno entra nell'associazione Ligure dei giornalisti nell'associazione della donna e diventa l'interlocutrice del secolo con il giornale La Fonde fondato da Marguerite Durand nel 1897 andrà al loro congresso e racconterà i lavori delle femministe francesi da cui però si vuole naturalmente smarcare il femminismo francese per Flavia Steno e per la redazione del secolo come per i suoi lettori è troppo radicale i suoi inizi come giornalista risalgono ad un articolo abbastanza scontato di moda del 7-8 dicembre del 1898 ma il primo articolo veramente importante si intitola Largo alla donna ed è del 12-13 dicembre del 1898 qui appunto Flavia Steno racconta il conto delle novità dell'emancipazionismo francese sottolineando però e rassicurando i suoi lettori dicendo insomma che come donna e come intellettuale non era favorevole al voto per le donne perché le donne secondo Flavia Steno dovevano prima istruirsi ed emanciparsi attraverso la cultura e poi esercitare consapevolmente il diritto di voto qui cominciamo già a vedere le contraddizioni di questa giornalista e scrittrice che incoraggia le donne a fare prova di carattere a istruirsi a lavorare quindi a giocare un ruolo attivo nella società nel mondo del lavoro a diventare compagne dei loro dei loro mariti e nello stesso tempo non è favorevole al voto non è favorevole al divorzio e all'aborto è una liberale cattolica Flavia Steno però è favorevole all'educazione sessuale e al controllo delle nascite l'argomento è la felicità individuale un po' come Matilde Serau Flavia Steno condivide quella strana disapprovazione del femminismo radicale che appunto si traduceva nella negazione nell'opposizione al voto delle donne ma poi si manifestava con aperture straordinarie appunto su l'emancipazione attraverso lavoro attraverso la cultura quindi diciamo che Flavia Steno non è propriamente una donna conservatrice ma è portatrice di diversi valori conservatori legati appunto alla sua formazione borghese liberale e al suo cattolicesimo un cattolicesimo però piuttosto moderno Flavia Steno fa una campagna culturale contro il mito della definità nei suoi romanzi è un tema trasversale che tratta in forma romanzesca in intrecci che mettono a tema il groviglio amore sentimento mito della verginità egoismo degli uomini una delle esperienze più interessanti per capire qual era la posizione di Flavia Steno è la lettura delle pagine della rivista La Chiosa con menti settimanali femminili di vita politica e sociale Flavia Steno fonda questo giornale nel 1919 e deve poi chiuderlo nel 1927 per difficolti di sapori anche con il regime La Chiosa è per aperta missione della sua direttrice né femminina né femminista ma e cito sempre neppure l'espressione che sia ancora concepibile oggi socialmente la donna dell'elogio antico Domi Mansit Lanam Fecit attraverso la Chiosa Flavia Steno dà conto di un programma che è politico quello di emancipare le donne attraverso l'istruzione e la cultura per prepararle proprio detto chiaramente all'acquisizione del voto i tempi poi cambiano torniamo all'inizio del novecento e alle prime esperienze di giornalista in seno alla redazione del secolo decimo nono nel 1906 muore Gandolin e Mario Fantozzi prende la direzione del giornale il contesto economico è cambiato la concorrenza internazionale si è indurita il secolo diventa veramente un giornale che fa blocco con il potere e gli interessi dell'azienda Ansaldo ancora di più a partire dal 1910 comincia la corsa gli armamenti c'è una nuova ondata di investimenti nell'industria pesante di cui Ansaldo è il settore appunto di Ansaldo e gli eredi di Ferdinando Perrone Mario e Pio Perrone vogliono influenzare la politica del governo per ottenere appunto sempre più commesse statali e nasce il mito dell'italianissima Ansaldo portato avanti espresso dalle pagine del giornale che diventa veramente il portavoce degli interessi dei suoi editori ma anche in generale della borghesia industriale italiana che aspirava a diventare più competitiva sul piano internazionale la celebrazione della patria e la fede nello spirito italiano cominciano sulle pagine del secolo a sfumare chiaramente in discorsi nazionalisti proiettino non si occupa più di argomenti femminili femministi con la caduta del governo sonnino c'è una generale diffidenza nell'ambiente borghese per le aperture progressiste la nuova linea editoriale del secolo privilegia ormai altri argomenti Flavia Steno non firma neanche più articoli gli articoli per lo più sono anonimi o in ogni caso non compare più la sua firma anche se continua il suo lavoro di giornalista per non sparire all'interno della redazione Flavia Steno mettendo a frutto l'insegnamento di Gandolin che le aveva insegnato come diventare polivalente comincia a dedicarsi alla politica estera il suo debutto in questi temi dell'8 novembre 1911 in piena guerra italo-turca con questo articolo i fratelli d'Oltralpe quello che essi dimenticano e quello che noi ricorderemo Flavia Steno attacca la stampa tedesca per le menzogne diffuse in merito agli avvenimenti che erano seguiti al massacro di Sharashat constata che mentre la stampa francese e quella inglese si erano limitati a commenti ostili nei confronti dell'Italia la stampa tedesca mente in maniera spudorata e cita per esempio le pagine del general Anzeiger giornale di Francoforte sul meno che annunciava addirittura la sconfitta degli italiani e le difficoltà del governo italiano confuso e sgomento come lo definisce citando il giornale tedesco mentre in realtà Flavia Steno rassicura l'opinione pubblica i suoi lettori sono solo menzogne comincia quindi anche questo filone antigermanico che caratterizzerà gli articoli di Flavia Steno anche durante la guerra i tempi corrono veloci i cambiamenti nella situazione interna e nella politica estera sono rapidi e il giornale passa da una posizione prudente neutrale all'intervento al sostegno dell'intervento dell'Italia in guerra a fianco dell'intesa due avvenimenti che riguardano la città di Genova spingono il secolo a prendere aperta posizione nei confronti dell'intervento e sono l'arrivo del direttore del nuovo quotidiano al popolo d'Italia Benito Mussolini a Genova il 28 dicembre del 1914 Mussolini pronuncia un discorso il dovere dell'Italia nell'ora presente un discorso infiammato a favore dell'intervento nella sede del fascio internazionale interventista e in questa occasione il secolo prende si esprime apertamente in favore dell'intervento poi arriverà Gabriele D'Annunzio in visita alle fabbriche Ansaldo il 13 maggio del 1915 in questo caso il secolo pubblica un articolo imponente manifestazione di ieri in piazza dei Ferrari l'esaltazione dell'esercito che ha un resoconto della presenza di D'Annunzio in città e del sostegno espresso della folla nei confronti dell'esercito probabilmente Flavia Steno è autrice di questo pezzo che non è firmato in questo pezzo Flavia Steno compare anche come personaggio si legge ad un certo punto del pezzo dalla finestra del secolo XIX Steno Cittadino era molto nota in città era un personaggio pubblico e il suo gesto in favore appunto dei soldati esprime la linea del giornale così senza parole l'Italia entra in guerra e l'imperativo della patria diventa anche l'imperativo della redazione del secolo XIX Flavia Steno comincia a occuparsi di guerra e le vengono affidati articoli che hanno come argomento il coraggio di uomini e donne semplici soldati infermiere al fronte Flavia Steno dà prova del suo talento di narratrice raccontando in maniera molto viva esempi di virtù e di abnegazione offerte alla cronaca i suoi articoli sono volti a rassicurare l'opinione pubblica e a incoraggiare la conciliazione tra i partigiani della guerra e quelli della pace la giornalista ritorna in questo frangente sul tema dell'emancipazione però registrando una battuta d'arresto addirittura forse una regressione nella lotta per i diritti delle donne perché ormai di fronte all'urgenza del dovere per la patria le donne che collaborano con i governi dei loro paesi sono rispedite nel campo che è considerato loro proprio per natura cioè quello dell'assistenza e della carità ritorna l'immagine della donna madre universale questo ovviamente non sono sulle pagine del secolo ma ovunque Fragliasteno però non si accontenta di questo e nel giugno del 1915 scrive una lettera al direttore del giornale Mario Perroni dicendo che lei vuole partire per l'Austria come spia come inviata speciale in incognito non partirà in Austria per ragioni di prudenza ma partirà in Germania ricordo che non eravamo ancora in guerra contro la Germania in quell'anno e sotto il nome sotto uno pseudonimo maschile quello di Mario Valeri Flavio Esteno manderà dispacci quotidiani al suo giornale raccontando la vita quotidiana nella capitale tedesca e il ciclo di articoli si intitola Berlino dopo un anno di guerra quindi racconta lo quotidiano del paese nemico senza perdere di vista il progetto editoriale del giornale in favore dell'industria italiana e in particolare in favore dell'industria pesante di guerra in un articolo di questo ciclo del 6 agosto 1915 Mario Valeri Flavio Esteno mette in rilievo l'importanza primordiale degli armamenti nel conflitto quindi incoraggiando implicitamente il governo a sostenere l'industria pesante del paese qui cito un breve brano non per mancanza di pane la Germania dovrà piegare ma perché potrebbe giungere l'ora che venisse a mancare il pane ai suoi cannoni le industrie di Essen lavorano ma per fabbricare gli esplosivi occorrono gli ingredienti e questi ingredienti non li possono trarre dal nulla non li può trarre dal nulla nemmeno la superiorità della scienza tedesca o riuscirà la scienza tedesca a sostituirli il problema è tutto qui non contenta di questo incarico pericoloso da cui torna in Colume Flavia Esteno sarà tra le pochissime donne inviate in Friuli da là scriverà articoli le articoli del ciclo nell'orbita della guerra cranele infermiere pochissime erano le donne che potevano arrivare fino a urbine ci sarà poi Stefania a partire dal 1917 Flavia Esteno quindi fa parte di queste pochissime diciamo privilegiate tra virgolette nei suoi articoli Flavia Esteno si concentra sul racconto di come viene organizzato dal punto di vista sanitario il nostro fronte lo scopo è sempre rassicurare l'opinione pubblica e soffocare quelle voci che parlavano dell'insufficienza degli ospedali militari dell'impreparazione generale del nostro esercito gli articoli che qui cito appunto sono quelli che lei regolarmente inviava alla redazione del secolo la città bivacco le sue voci vive dal posto di medicazione all'ospedale di riserva tutti articoli in cui Flavia Esteno riesce ad aggirare la censura perché non dimentichiamo che il racconto della guerra si faceva attraverso i fogli ufficiali i giornali potevano raccontare in maniera così diretta senza filtri quello che accadeva sul fronte Flavia Esteno raccontando la vita quotidiana dei soldati nelle zone nei bivacchi nei ristoranti nelle trattorie vicino al fronte registrando discorsi con la sua abilità di narratrice riesce a creare nei suoi articoli un'atmosfera che rassicura l'opinione pubblica del suo giornale poi nel 1916 ottiene addirittura il permesso di visitare alle sezioni di alta montagna Monte Nero Vrata Coziliat Iavrocek e viene naturalmente accompagnata dagli alpini a cui dedicherà degli articoli molto commoventi e in un suo pezzo Flavia Esteno dirà ci siamo avvedute qui che nulla sapevamo naturalmente parla della guerra questa esperienza fu per lei motivo di grande di grande fierezza questo è uno degli articoli appunto dedicati all'organizzazione sanitaria al fronte e questo è un altro articolo le sue voci vive le voci vive sono quelle dei soldati dei generali tutte le persone che si ritrovavano al confine tra le città della Rieva e il fronte in quella zona franca il racconto della guerra era possibile e qui c'è appunto un brano gli aneddoti sono fioriti e qui Flavia Esteno fa riferimento a un dialogo molto commovente fra alcuni soldati ai tavoli di una di una trattoria a cui dice i narratori sono tutti attori del grande dramma questi articoli sono veramente molto belli danno la misura appunto del suo talento di narratrice e poi c'è un'altra svolta nel suo lavoro a partire dall'entrata in guerra dell'Italia contro la Germania Flavia Esteno comincerà a una serie di articoli antigermanici dove i nemici tedeschi non sono nemici per le loro azioni ma sono nemici per essenza sono nemici ontologici della gentile razza latina e questi articoli vengono poi raccolti da Treves in questo volume Il germanismo senza maschera la cui copertina parla già da sé ci sono montato molti punti di contatto con la situazione con il dibattito pubblico di oggi rispetto alla crisi politica internazionale e al racconto del nemico ho trovato veramente molti punti di contatto interessanti da da approfondire perseguita con metodo come una formidabile macchina destinata a schiacciare a scadenza fissa chiunque non sia disposto a lasciarsi pacificamente divorare quindi è una guerra totale quella contro il nemico non c'è possibilità di un patto perché il nemico è ontologicamente cattivo e perverso poi c'è appunto negli articoli relativi alla guerra anche un'altra evoluzione nel tema dell'emancipazione delle donne il ruolo delle donne nella guerra diventa centrale e alle donne viene richiesto ormai negli articoli di Flavia Steno c'è questo tema di mettere da parte la pietas la loro vocazione materna considerata appunto naturale e esaltata fino a quel momento per patteggiare con la violenza degli uomini in vista di una loro poi affermazione politica le nazionaliste italiane aderiranno a questa insomma la violenza maschile in vista di una ricompensa quella della partecipazione politica attiva anche Flavia Steno diciamo passa a questo discorso pur essendo il suo nazionalismo un nazionalismo assolutamente non radicale infatti lei parlerà non esalta la guerra ma difende la nostra guerra che le considerano guerra della di civiltà contro la barbari attraverso questa assolutizzazione del nemico naturalmente riprende questa espressione della nostra guerra citata in un articolo in cui commenta Morso Tua di Matilde Serau che vedete Matilde Serau e Flavia Steno insieme con altri colleghi del secolo XIX finisco con questo breve ricordo di Flavia Steno la vita tutta era giornalismo per Flavia Steno che adorava con una passione degna delle grandi passioni dell'Ottocento questa entità che si chiama giornale è della sintesi giornaliera dell'esistenza umana esempio davvero mirabile di operosità di amore al lavoro di dedizione alla sua missione di scrivere per consolare e educare questa era la sua vocazione per concludere veramente le ultime parole possiamo affermare che Flavia Steno appartiene ancora a una generazione di intellettuali posteri sorgimentali nostalgici dell'eroismo patriotico fedeli a valori intellettuali e morali legati al liberalismo e al positivismo condivide la paura borghese del suo tempo di fronte all'escalation delle tensioni sociali e questa paura smaglia le sue considerazioni circa la situazione politica economica dell'epoca e alimenta le sue sorprendenti e molto interessanti contraddizioni che hanno poi nei suoi romanzi più di 30 durante il corso della sua carriera risvolti narrativi estremamente interessanti appunto la nuova era è senz'altro il romanzo più sorprendente in questo senso vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio con la carta di identità falsa di Flavia Steno consegnata dai partigiani che l'hanno protetta Rina Fantoni vi ringrazio molto grazie a te Francesca per questo ampio articolato ritratto di Flavia Steno che ci ha fatto appunto conoscere un personaggio devo dire in modo molto approfondito e do subito la parola invece adesso a Sebastiano Valerio che ci parlerà di una storia letteraria di metà ottocento i primi quattro secoli della letteratura italiana di Caterina Francesca Ferrucci Sebastiano Valerio è professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Foggia dove appunto è anche direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dal 2021 è segretario dell'Associazione degli Italianisti dell'Adi a livello di ricerca si occupa prevalentemente di vari temi però in particolare di Dante del Rinascimento Medievale e di Pascoli gli do immediatamente la parola ringraziamo grazie innanzitutto allora Caterina Franceschi rappresenta davvero un caso particolare nel novelo delle donne che animano in modo originale l'Ottocento italiano non tanto per l'ampiezza del ventaglio dei suoi interessi che però spaziarono diciamo dalla critica letteraria alla poesia all'educazione femminile fino alla linguistica e alla morale ma anzitutto per la fitta trama di rapporti che si è pentessere con i maggiori protagonisti delle vicende italiane ed europee di quegli anni nata a Narni la famiglia la nobile famiglia romana nel 1803 nel 23 era macerata dovebbe modo di conoscere Leopardi che ne apprezzò le lodi di traduttrice del latino dopo il matrimonio con Michele Ferrucci studioso di antichità di chiara fama e raffinato latinista seguì il marito nei suoi spostamenti a Bologna Ginevra Genova tappa importante Ginevra bisogna dire per quello che andremo a dire fino a Pisa dove si stabilì fino alla morte del marito fino al 1881 per poi morire a Firenze sei anni dopo nell'87 dopo essere stata nominata prima donna socia corrispondente dell'Accademia della Crusca è noto che durante il soggiorno in Svizzera dove Michele era stato chiamato nel 1836 ad insegnare letteratura latina all'Accademia per l'interessamento di Cavour dell'attivista Carlo Buceron Caterina tenne salotto come d'uso all'epoca proponendo lezioni di letteratura italiana che incontrarono un grande consenso attirando l'attenzione anche del Sismondia e di Georges Saint fino a che non le venne proposto di tenere un vero e proprio corso in venti incontri fino a quel momento la produzione della Franceschi Ferrucci era stata rivolta in primo luogo alla lirica e solo a partire dagli anni 40 si sarebbe data la riflessione pedagogica a cui poi è legata la sua fama furono certamente queste lezioni ginevrine alla base della redazione dei due volumi divise in 25 capitoli lezioni le definisce e qui il modello è quello della letteratura di Paolo Emiliani Giudici intitolati i primi quattro secoli della letteratura italiana edite per la prima volta nel 1856-58 e quindi nel 73 senza significative revisioni l'opera riprende almeno nel titolo i primi quattro secoli della letteratura italiana dopo il suo risorgimento del conte Giambattista Corniani che aveva visto la luce a Venezia nel 1796 e che conservava ovviamente un maggiore taglio erudito ed enciclopedico ma con cui condivideva essenzialmente una prospettiva cristiana e cattolica adottando poi i modelli di Mazzucchelli e Tiraboschi nell'affrontare l'impresa di raccontare una storia letteraria vado la Francesca Eferrucci partiva da un assunto ancora una volta pedagogico ed educativo perché l'opera era essenzialmente concepita per offrire un sussidio alla gioventù in un periodo in cui all'indomani del 1848 e prima dell'unificazione nazionale il compito della letteratura nel formare sostenere un'identità italiana a cui la scrittrice molto teneva era chiaro perciò dichiarava a principio dell'opera scriverò queste lezioni col medesimo intendimento con cui ho trattato gli altri miei libri continuava sostenendo che se fino a quel momento aveva trattato dell'educazione in ordine al bene e poi dell'educazione in ordine al vero ora avrebbe trattato del bello in modo pratico derivando diceva le dottrine e le regole dagli esempi nel tentativo di essere utile ai costumi della sua epoca coniugando dunque vero bello e buono il passo che ha forte sapore programmatico risente in modo diretto delle riflessioni che da poco aveva proposto quel Gioberti a cui lei e il marito erano stati legati nell'introduzione allo studio della filosofia del 47 che sarebbe stato ripreso poi nel del bello Gioberti introduceva l'idea che il sublime era il bello non viceversa il bello diceva è un sublime attenuato e consta al pari di due elementi l'uno intellettivo l'altro sensibile ora su questa base la Franceschi Ferrucci costruisce la teoria estetica che applica la letteratura italiana espressione evidente per parte sua del primato morale civile italiano ancora di Giobertiana memoria facendo della letteratura lo specchio delle identità della società come d'altra parte da poco insomma anche questo relativamente poco era verso dall'opera del Sismondì si spiega anche in questo senso secondo un uso che era già proprio della storia delle storie letterarie perché puntualmente l'opera presenti un'ampia riflessione sui contesti storici e culturali che precede la trattazione degli autori e nel corso della lezione tredicesima quella dedicata a Boccaccio che Caterina approfondisce la questione del rapporto tra ideale e sensibile vado molto oltre non vi ammorbo con le citazioni l'ora è tarda però diciamo che è interessante notare che la parte sono parole sue ideale della nostra letteratura venga riconosciuta in Dante e Petrarca mentre il sensibile si farebbe strada in Boccaccio che rappresenterebbe invece non già le alte idealità di un popolo e della sua cultura ma la descrizione dei costumi della sua età che come avremo modo di vedere non è il fine che lei annette alla storia letteraria che non deve puntare a descrivere quanto esiste come esiste ma creare un futuro più simile possibile all'ideale che si cela nella cultura quella di Dante e Petrarca è una letteratura che dice lei fa provare diletto e consolazione quella di Boccaccio che rappresenta la morte e la peste ma soprattutto le contraddizioni umane dice lei ci attrista e ci sconforta non è certo una critica allo scrittore perché sono sempre parole sue la bellezza dell'arte e della natura non manca i libri nei quali impuri costumi sono ritratti se chi li scrisse ha come Boccaccio fantasia viva e vigor di stile qui con una delle frequenti digressioni che poi sono le parti più interessanti che la portano ad allontanarsi dalla materia trattata e a proporre incursioni nella teoria letteraria e fin anche nella letteratura contemporanea soprattutto nella letteratura contemporanea Caterina intende riflettere sulla funzione educativa della letteratura che qui verrebbe meno dice ancora pensando ai danni recati da essi questi libri all'altrui innocenza venuta o quantomeno allettata la tensione morale che ogni scrittura letteraria dovrebbe avere come fine ultimo e qui torna a parlare l'educatrice sorge la domanda debbono gli uomini di lettere ricopiare la vita e le usanze dell'età loro anche se sono corrotte non si nega certo la valenza informativa di queste rappresentazioni letterarie che integrano e arricchiscano la grande storia ma resta il dubbio alimentato in lei da un moralismo molto rigido che cito mettere a nudo certe sozzure raccontare con diletto voluttuoso l'eccesso delle passioni rendere amabile le pietà e sforarci alle lacrime su sventure fatte dal vizio non è cosa che si convenga all'ufficio dello scrittore e soprattutto aggiunge non è permesso all'uomo cristiano la questione così si sposta in improvviso dal XIV al XIX secolo e investe la funzione di quel genere letterario dalla Franceschi Ferrucci poco amato che era il romanzo ma qui abbiamo già sentito che è un elemento comune in quegli anni che stava appunto conquistando nuovi territori della letterarietà precisa infatti che non è contro il romanzi in generale che propone il suo ragionamento e porta ovviamente come esempio positivo i Promessi Sposi in cui Manzoni ha sì mostrato uno spaccato della società dei tempi che narra ma obbidendo dice lei alle leggi della morale e dell'arte per lei che si era apertamente schierata a favore del classicismo nella polemica classico-romantica in accordo con le idee che aveva condiviso col Giordani altro suo interlocutore non era però un esito scontato se la scrittura manzoniana rispondeva ad una prospettiva etica condivisibile in nome dei comuni principi cattolici ciò che lei non riusciva ad accettare erano dice i libri in cui sono svelate sfrontatamente le più ignobili ignobili inclinazioni del nostro cuore non valeva a suo avviso l'eccezione che fosse necessario tramandare ai posteri ogni aspetto della contemporaneità perché questa letteratura non nata in Italia e dunque slegata dal contesto e dalla storia nazionale non teneva conto del fatto che il quadro che emergeva dall'osservazione del presente non era così patologico come alcuni romanzieri avrebbero voluto la fede vive il pudore c'è ancora dice per cui nel rappresentare i mali della società quantomeno a suo avviso sarebbe dovuta prevalere una sorta di vergogna che era poi in qualche modo la trasposizione nella morale pubblica di una morale familiare di cui la nostra scrittrice si faceva campionessa insomma i panni sporchi si lavano a casa le lettere dovevano essere maestre di virtù non propugnatrici e encomiatrici dice di vizi cito i romanzini francesi di loro spregevoli imitatori si compiacerebbero a suo dire di rappresentare le passioni più oscene giustificare gli eccessi fino a ridursi a insegnare dice il vizio come una scienza con rischio di corrompere i giovani lettori perché se la letteratura ha il potere di educare quando è retta da lavorare corre il rischio di corrompere quando non è guidata da questa di qui il divieto assoluto fatto alle fanciulle ed espresso nel volume degli studi delle donne italiane di leggere tutti i romanzi ad eccezione ovviamente di manzoni che dice degnamente deve essere annoverato tra i filosofi moralisti ed il suo libro è di quelli che dalle madri più timorate possono darsi senza sospetto alle giovani donzelle insomma i cattivi libri come li definisce lei sono quanto più noce all'uomo dice lei più dei veleni più dei terremoti più delle catastrofi naturali diceva un mio vecchio professore quando un medico uccide qualcuno sbaglia qualcosa e insomma uccide una persona quando un letterato sbaglia un libro può fare anche milioni di morti contemporaneamente ora la letteratura aveva avuto la forza di sopravvivere anche alle situazioni più negative basando adesso hai visto cosa ha fatto? non so adesso mi esprimo tutta la solidarietà a quella bambina però adesso cosa ha fatto? esatto non vedete senti un attimo qui vabbè questa è infanzia violata come vedete insomma dico che una bambina che alle 13 è costretta a sentirmi potrebbe telefonare al telefono azzurro con buone ragioni va bene comunque andiamo avanti ora la letteratura aveva avuto la forza di sopravvivere anche alle situazioni più negative basando se stessa sulla tradizione classicistica non vissuta come diceva lei con ossequio servile verso le letterature straniere ma con la voglia di creare nuovi concetti senza dimenticare la tradizione come invece facevano i romantici che cercavano il bello e tornano queste categorie in modelli stranieri e lontani dalla tradizione italiana vicina alle posizioni leopardiane la Franceschi Ferrucci difendeva la tradizione da posizioni in cui però ospirava in qualche modo anche un afflato romantico mettendo al centro della propria visione comunque la funzione civile della letteratura e il culto delle lettere delle belle lettere anche questo un ossequio al principio giobertiano come fondamentale strumento di battaglia nel processo di unificazione nazionale nel discutere di Dante e della tradizione lirica non toccherò assolutamente i capitoli e i singoli autori perché non avremo mai il tempo quindi però nel discutere di Dante della tradizione lirica si lascia andare ad esempio ad un richiamo ai poeti del suo tempo con un attacco al romanticismo e al suo sentimentalismo quando afferma l'estro non è furore è luce che rischiara la mente è fuoco che infiamma l'anima e che riscalda la fantasia è virtù che rivela all'uomo il bello ideale l'analisi della nascita della nostra letteratura fatta di scendere dalla decadenza della cultura latina che aveva causato l'ascissione tra bello e buono è salvata poi proprio dall'avvento del cristianesimo a so dire eppure è stata debitrice per ampi tratti alle idee di Gioberti che nel primato aveva sostenuto proprio questa teoria la riflessione sull'essenza del cristianesimo anche questo ovviamente debitrice a Gioberti finiva proprio per rimarcare come il cristianesimo avesse consentito di riconquistare quel principio di verità e di libertà che nel sistema valoriale della Ferrucci come nel suo ispiratore era centrale e questo si rifletteva anche nella storia delle donne perché l'avvento del cristianesimo e l'affermarsi di una cultura cattolica avrebbero a suo dire contribuito a promuovere la libertà delle donne manca però una specifica trattazione delle scritture femminili perché proprio mentre si apprestava ad affrontare il secolo delle petrarchiste la narrazione della Franceschi Ferrucci si interrompe bruscamente con una vera e propria ferita che si apre a pagina 380 e che segna di fatto la fine della storia letteraria scrive fin qui io avevo scritto il 21 gennaio 1857 la mattina di poi la mia rosa figlia cadde malata e il giorno 5 del susseguente febbraio morì non avrei voluto ripigliare l'intermesso lavoro se un obbligo di giustizia non mi ci avesse costretta benché repugnante la vita si abbatte nella stesura dell'opera pesantemente e il capitolo che seguirà quello sulla lirica del 500 e in generale su quel secolo che per lei è un'occasione perduta per l'Italia è solo un sunto molto scheletrico di quanto avrebbe dovuto sviluppare in altri 4 capitoli con accenti accorati ricordando l'aiuto che la figlia che si era già impegnata nella scrittura letteraria le aveva dato nel lavoro di preparazione di queste lezioni annota il 4 settembre del 1858 la morte di rosa mi tolse più che la vita poiché mi ha tolto le forze dell'intelletto e quasi mi ha fatto ancora viva con lei di scendere nel sepolcro mi sarebbe dunque cosa impossibile continuare l'esame delle bellezze dell'epopea di tasso e dar compimento a queste lezioni sul piano che già ne aveva delineato la mia fantasia non solo si è ottenebrata si è spenta paradossalmente resta tagliato quantomeno ridotta all'osso tutta la riflessione sulla scrittura femminile che avrebbe dovuto occupare essenzialmente le pagine sul petrarchismo nella lezione ventesima quinta come dice lei Caterina affronta la cultura delle corti del Cinquecento imputando a queste un distacco dal popolo che avrebbe determinato l'eccesso di formalismo della letteratura qui prodotta coinvolgendo anche in modo specifico il teatro in questo contesto si pone il problema del ruolo delle donne nella letteratura sicuramente comprimendo in poche rigue quanto avrebbe voluto più ampiamente discutere taglio le citazioni la rappresentazione del teatro del XVI secolo nel teatro del XVI secolo di schiave dice o femmine che di donne non debbono avere il nome si spiega con l'adesione poco originale ai modelli della classicità dove la condizione femminile a suo dire non era stata illuminata dall'idea di uguaglianza che invece aveva introdotto il cristianesimo perché come scrive in un impeto mistico certo anche dettato probabilmente dal recente lutto egli Dio con l'alito suo immortale aveva animata la nostra polvere e aveva introdotto nuovi costumi di cui si era giovata la donna dettati da carità castità pazienza civile eguaglianza dice e libertà in questa nuova cultura fatta germogliare dalla rivelazione di Cristo sulla cultura classica aggiunge più degli uomini dobbiamo rendergli grazie a noi donne noi da schiave fatte libere e da lui eletti ad ufficio all'immortale nostra natura corrispondenti non è certo un punto di vista rivoluzionario quello della Franceschi Ferrucci sulla questione femminile quanto il tentativo anche difficoltoso di trasportare in ambito cristiano quanto la rivendicazione dei diritti femminili stava facendo emergere già in quegli anni il ruolo della donna veniva infatti confinato essenzialmente la famiglia e questo lo scarto al massimo da lei operato essenzialmente all'educazione in casa e fuori ed era una questione che già più volte era emerse nelle pagine di questa storia letteraria in modo specifico nella lezione sesta aveva anticipato tale motivo introducendo lo stil nuovo in modo particolare la vita nuova di Dante qui ci sarebbe da dire che c'è una ricezione molto prematura del Dante di Osanam ma insomma non abbiamo tempo di soffermarci ma voglio dire siamo ancora di fronte un'interpretazione ipercattolica di Dante ciò che condizionava diciamo da questo emergerebbe una diversa condizione della donna ciò che condizionava gli antichi era una visione immateriale dell'amore dettata dal fatto che gli antichi cantarono solo la parte sensibile dell'amore perché dice non avevano nella mente un tipo ideale di dignità femminile l'avvento del cristianesimo invece avrebbe attribuito una nuova funzione ideale appunto alla donna di cui lo stil nuovo si faceva interprete elevandola al più alto grado di perfezione e dandole il ruolo di ispiratrice di buoni costumi perché dice Gesù Cristo scendendo in terra a salvarci fin dal suo primo apparire nel mondo fece parese come tra l'anima della donna e quella dell'uomo non passi di vario alcuno agli occhi di Dio ed essere la vera grandezza di lei nella castità nelle dolci e miti virtù come quelle che caratterizzavano le donne del mondo cavalleresco dello stil nuovo Beatrice in particolare poiché aggiunge la donna agli occhi dei cavalieri parve divina creatura il ragionamento della Franceschi Ferrucci si basava sul fatto che non si cantasse più un amore materiale sensuale ma si sublimasse l'amore nei termini di idealizzazione dell'amata cosa che faceva della donna non solo l'oggetto d'amore ma soggetto di un processo di crescita etica dell'uomo stesso che lei poi andò ad interpretare in modo assai libero e certamente piuttosto lontano dagli intenti degli scrittori del 2300 come ruolo di guida nella conduzione delle vicende domestiche a cominciare però dall'educazione scrive in margine all'inizio dell'età moderna alla riflessione sull'età moderna che era proprio delle donne diceva lei la facoltà di formare come vogliamo le metti docili e ignare dei fanciulletti con una ricaduta che investiva però l'intera società perché se la virtù non è nelle case mai non sarà nello stato la letteratura romantica con l'ostentazione delle passioni veniva ad essere l'idolo critico di Caterina che rimproverava l'educazione alla inverecondia all'ostentazione di ricchezze e sentimenti tutti beni esteriori che renderebbero la donna schiava nella società mentre gli amori che precedentemente erano velati dice lei da ossequio cavalleresco nel mondo a lei contemporaneo venivano con temeraria impudenza prodotti in luce con la conseguenza di far venire fuori far venire meno in tutti il senso morale il moralismo rigido le impediva di cogliere il dinamismo del mondo romantico condannato nelle parole ma poi ampiamente accettato non sappiamo nemmeno quanto consapevolmente specie nella riflessione interiore nel senso che legava esperienza individuale e spirito collettivo dell'intera razione ma anche in un sentimentalismo che affiora quando le vicende biografiche incidono su quelle personali e civili tuttavia nella condanna di una letteratura che si era allontanata dai fini morali della religione del vivere ad essere improntati resta coinvolta la prima stagione della scrittura femminile perché nell'ignoranza della stagione del misticismo che non è presente non riconosciuta evidentemente perché non sono le belle lettere nell'omissione di ogni ipotesi di scrittrici riferibili al mondo della scuola siciliana e dello stile nuovo le prime scrittrici erano le petrarchiste del XVI secolo nella sua prospettiva critica ma soprattutto morale l'età moderna inizia con un petrarchismo che aveva dipinto dice lei con freddo stile freddi amori e in questo convenzionalismo erano state coinvolte anche le poetesse che solo raramente avevano avuto la forza di restare fedeli al compito etico ed educativo affidato tanto alle donne quanto alla letteratura tra le scrittrici la Franceschi Ferrucci ricorda la colonna la molza la stampa la gamba che ottennero degnamente onoratissimo nome nell'età loro e nelle seguenti la stringatezza però del capitolo venticinquesimo in cui furono costrette dalla precipitosa chiusura dell'opera non permette che qualche veloce considerazione sul tema delle loro liriche partendo dall'idea che dice lei lettarono quasi tutte persi d'amore una considerazione che non ci permette di intendere se Caterina ebbe contezza delle rime spirituali di Vittoria Colonna ma che la porta a rimproverare a questa generazione di scrittrice di aver fatto letteratura da una prospettiva squisitamente maschile quanto maggiore lode però avverrebbe ora ad esse dai loro studi se avessero coltivato le lettere nel modo che si conviene ad una donna loro colpa invece era di non essere si aggirate tra i cari e pietosi affetti della famiglia di non aver affrontato i soggetti dice lei immorali e religiosi ma viceversa ad aver affrontato quelle questioni che invece appartenevano al mondo maschile in una rigida che invece appartenevano appunto al mondo maschile in una rigida divisione dei ruoli che risentiva appunto del gravame dell'educazione cattolica colpisce a questo punto però un'affermazione che compendia tutto il carattere contraddittorio della nostra quando scrive nemmai scrivendo noi donne cercheremo la gloria ricompensa troppo alta attenui fatiche troppo invidiosa e superba a menti modeste ritornano parole che abbiamo già sentito gli studi dell'uomo siano pur somiglianti a quei larghi fiumi che recano la fertilità e la ricchezza provincia intere i nostri siano come le gocce della ruggiada che rinfrescano i fiori e l'erba nei prati questo insomma è significativo quando si pensi che ci troviamo al cospetto di una scrittrice che aveva praticato con successo sin dall'età giovanile poesia critica letteraria saggistica anche con intonazione morale avverte lei stessa l'evidenza di questa contraddizione quando subito dopo aver ribadito che il compito della donna è l'educazione dei fanciulli quasi giustificandosi afferma che era pur vero che l'aveva scritto molto dice forse anche troppo ma che era stata stimolata solo dall'amore materno al fine di educare i figli cosa che apre nella parte finale del suo studio letterario ancora una finestra sul suo dolore di madre che aveva perduto da poco una figlia amatissima che tu mi tenesti luogo dice rivolgendosi alla figlia luogo del mondo intero e per te come per tuo fratello il nome di madre sempre mi fu assai più dolce di quello di letterata una considerazione che non scioglie la contraddizione insita nelle sue parole nelle sue opere e che anzi afferma la natura ambigua di questa donna letterata che visse in un equilibrio spesso precario tra classicismo e romanticismo affermazione dei diritti della donna e considerazione del ruolo tradizionale che questo avrebbe dovuto avere nella famiglia e nell'educazione spinta patriottica all'unificazione nazionale e ossegue alla chiesa al suo papa insomma una figura femminile esemplare della condizione della donna nella metà dell'ottocento italiano in cui ogni tentativo di appianare quanto stride finirebbe per banalizzarne la figura e il messaggio grazie a questo bellissimo percorso nella letteratura e nella visione della letteratura di Caterina Franceschi Ferrucci che tra l'altro anche in questo finale di questa letterata che però si sente più madre che letterata penso che sia utile anche per rileggere un po' tutto il discorso che abbiamo fatto in queste due sessioni di lavoro abbiamo qualche minuto sì abbiamo un po' di tempo per fare un po' di discussione quindi apriamo il dibattito non so se ci sono domande nessuno voglia di appunto rompere il ghiaccio come anche ovviamente anche online anche chi è collegato online e che vuole intervenire e fare domande ai relatori di questi tre bellissimi interventi a me sembra interessante magari notare come tra i tre interventi ci sia il punto di contatto forse anche voluto dall'organizzatrice del tema proprio dell'istruzione delle donne che è al centro di tutti e tre gli interventi da una parte appunto quello più diretto più esplicito dell'intervento di Antonio Daniele della Paladini in cui appunto l'intervento della formazione l'intento formativo è ovviamente l'obiettivo anche della scrittura però anche nell'intervento di Francesca Sensini Flavia Steno comunque pensa all'importanza dell'istruzione delle donne quindi anche il voto che è subordinato alla formazione è subordinato ovviamente anche alla lettura alla conoscenza e in quest'ultimo in quest'ultima prospettiva anche la rilettura di tutta la storia letteraria in questa in questa prospettiva anche educativa è interessantissimo sicuramente anche l'idea della lettura anche se solo parziale delle petrarchiste però come se mi è molto colpito l'idea del modo che si conviene ad una donna di essere parte della letteratura di fare letteratura e direi anche di parlare di letteratura vista appunto la prospettiva della Franceschi Ferrucci e in fondo è un tema che dicevo prima ritorna anche nelle altre autrici tante delle altre autrici di cui abbiamo parlato è una questione centrale anche in Margherita Costa per esempio che si preoccupa dell'educazione e in quel caso anche un po' paradossale delle donne per esempio ci sono delle nella chitarra se non sbaglio si rivolge alle donne per invitarle a non dedicarsi a un unico amore di divertirsi e quindi adottare i comportamenti maschili anche in quelli che sono anche nella morale diciamo nella morale nella moralità anzi non so se magari volete intervenire su si Marica prego per Antonio mi chiedevo si sui frontespizi che ci hai mostrato le citazioni tratte da Ariosto erano una scelta dell'autrice o del lettore e per Francesca invece se abbiamo notizia del perché lei sceglie lo pseudonimo di Steno e se c'erano per Sebastiano c'erano hai detto che le mistiche non c'erano quindi lei si ferma con questo capitolo abbastanza stringato sulle pedrarchiste allora no non c'è alcun cenno ad altro tipo di scrittura femminile non le stavano evidentemente molto simpatiche le scrittrici però a prescindere da questo c'è soprattutto quell'elemento che ho detto all'inizio non siamo di fronte ad una letteratura come storia culturale siamo ancora di fronte ad una letteratura che è essenzialmente una rassegna di belle lettere e quindi la forma è fondamentale e di conseguenza quelle scritture non sono considerate pienamente evidentemente scritture letterarie detto questo però c'è anche da dire che la letteratura allora questa non è una letteratura rivolta all'educazione delle donne questo è importante mentre gli altri scritti della Francesca e Ferrucci sono scritti rivolti essenzialmente alla formazione delle donne qui insomma non è esattamente così è rivolta alla formazione dei fanciulli e nella formazione dei fanciulli naturalmente indistintamente ci sono uomini e donne e quindi questo fa fare qualche considerazione è interessante per esempio una cosa si fa leggere un'edizione di Ariosto purgata viene consigliata l'edizione fra l'altro di un suo amico di Machiavelli si dice Machiavelli non dovete leggerlo Machiavelli in questi capitoli vi scrive in nota dovete avere pazienza io riporterò ampie citazioni perché non è bene leggere direttamente Machiavelli ve lo racconto io e vi dico quello che va a letto e quindi fa queste pagine e pagine di citazioni che però sono quindi legate evidentemente ad una scelta quindi c'è anche una certa diffidenza verso lo strumento letterario alla fine ma comunque c'è alla base la scelta delle belle lettere questo è questo è per cui non troviamo altro e non troviamo poi insomma altre forme di scrittura femminile allora non so rispondere direttamente alla tua domanda ma credo di sì perché Paladini conosceva Ariosto lo aveva letto nel 1855 pubblica una antologia fior di letture per le donne gentili nelle quali propone un'antologia di testi della letteratura italiana c'è Dante c'è Petrarca non c'è Boccaccio c'è il Machiavelli storico c'è il Guicardini storico c'è Ariosto ci sono numerose ottave dell'orando furioso per cui questo mi porta a pensare che la coscienza dell'autore sia di prima mano e non sia un intervento assolutamente sì l'antologia di cui in realtà ho scritto ma non ho potuto parlare per ragioni di tempo siccome non prevede particolari commenti autoriali ma è appunto un fior da fiore come si suol dire meriterebbe tuttavia una maggiore attenzione del 1855 un lavoro interessante la parola anche a Francesca si aspetta devo alzare qual è questo no ok prego per quanto riguarda lo pseudonimo Flavia Steno che non è il solo utilizzato ma è quello che utilizza di più come narratomia romanziera a parte i due primi lavori che firma a Maya Osta è Gandolin che lo diede e non ho provato notizie sul perché poi altri pseudonimi sono quello di Ariel per esempio con cui scrive gli articoli di scontro la Germania Mirandolina la posta di Mirandolina fu una rubrica che lei di posta del cuore che lei curò negli anni 20 e poi i vari pseudonimi maschili ma non so perché Gandolin scelse Flavia Steno in particolare poi tra l'altro Steno è stata è una donna che ha tenuto ha curato il suo archivio pubblico ma è anche curato quello privato in modo da renderlo inaccessibile adesso che non si sa nulla sostanzialmente di lei come si sa di lei solo come personaggio pubblico di lei del privato si sa pochissimo anche di questo marito ingegnere si sa molto molto poco e quindi non si trovano molte notizie sulla sulla biografia privata Flavia Steno è essenzialmente un personaggio pubblico ha tenuto a presentarsi a preservare la sua memoria come tale e per quello che riguarda il tema dell'istruzione ho letto in chat una riflessione sarebbe interessante si dice riflettere sul perché ci sono donne che mettono da parte il lavoro per dedicarsi pienamente al ruolo di madri ora a parte i problemi diciamo i fattori di ordine così economico quello sarebbe interessante vedere come come il problema sia sempre quello diciamo dell'epoca di Flavia Steno cioè l'idea che si possa arrivare dall'emancipazione alla liberazione a colpi di legge attraverso l'aggiornamento della legislazione e l'ottenimento di diritti civili sul piano appunto ideale quando invece tutta la sfera del privato il sogno il cosiddetto sogno d'amore che è l'antimotif di tutti i romanzi di Flavia Steno Flavia Steno scrive romanzi da pendiccio romanzi sentimentali dove tutte le donne più o meno emancipate alla fine sognano quello di sposarsi e di trovare il grande amore totalizzante ecco finché non si riesce ad andare a decostruire anche il privato e quindi tutto l'immaginario e andare probabilmente a scavare intorno alle radici dell'umano ci sarà sempre questo clivage questa separazione fra l'emancipazione di diritto e poi un retaggio profondo che ritorna e che i romanzi appunto sentimentali mettono a tema insisto sulla nuova Eva che è veramente emblematico di questo percorso in cui il personaggio invece di formarsi deforma si istruisce l'istruzione per lei va avanti fino alla scuola fino all'università diventa la redattrice di un giornale simile alla Fond e poi rinuncia a tutto e fa una biura pubblica di tutto quello che aveva fatto ottenuto del suo femminismo per sposare un uomo iper conservatore che voleva che lei rinnegasse tutto di sé per poterla amare quindi insomma c'è parecchio lavoro su questi temi sicuramente ci sono altre domande il chat forse ah Floriana c'è Floriana Calitti che ti ha ascoltato che chiederà vuole avere notizie ancora sul sul petrarchismo perché gli argomenti contra sono gli stessi dell'anatema ottocentesco però forse si è già scollegata quindi dice che ti chiederà poi in futuro non so siamo in quel contesto gli argomenti sono esattamente quelli qui sono esattamente quelli infatti molti temi li abbiamo incrociati anche nelle relazioni di Antonio quella la cultura e quindi indubbiamente c'è anche questo questo elemento è interessante naturalmente qui l'incrocio tra classicismo e romanticismo che viene vissuto in una maniera un po' diciamo contraddittoria amigua delle volte grazie ci sono altre domande altri interventi mi sembra di no vabbè la giornata è stata piuttosto intensa io ringrazio tantissimo tutti i partecipanti sia online sia qui in aula tutti i relatori le relatrici e Marica soprattutto per l'organizzazione grazie a tutti grazie buona giornata